No, figuro, no, è tranquillo, tanto lo so che stavo io ora, se vuoi orientare, poi ritorno, no, giusto quando il primo che sale, che è Stefano, no, lo rientro su di lui, eh, stiamo qua, non pascato, ne parla da solo, voglio, se mai iniziamo, secondo me, mai, torno fra dieci minuti. No, 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 dieci minuti. I ragazzi, giovani, io sono dello staff, io non vado staff. Io sono dello staff, io non vado staff. For stef o staff? Ma puoi mettere sempre di tutti i miei? Stai staff. Sono quelli che devono parlare. No, niente. Ma guarda, io già mi d'appisciare, io sono andato inizialmente. Le cartelline sono la mente a tutti i miei responsanti degli altri. Ah, è vero, ragione. Io ho detto sì, sei un uomo. Sì. Bene, siete i giovani. Sì, si raccomanda. Sì, direi che sei buio, però, eh, senza offizio, sì. Sì, sei buio. Come visto che abbiamo messo, che abbiamo letto così, che non dicevamo. Ah, eh, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. C'è lo sgabellino? Bisogna alzarsi lì? No, no. Ma già sta registrando. Sta registrando da 7 minuti. No, e ti metti davanti. Siediti qua. C'è la sedia? C'è la sedia? No, posso. Va benissimo, partiamo? Vai. Ok, allora salve a tutti. Siamo al Gazepo Napoli, Italia 5 Stelle. È un grande onore avere a disposizione uno spazio per parlare proprio dei temi della nostra città, oggi che chiaramente tutto il movimento si riunisce a Napoli, in particolare qui al fuori. Io partirò con illustrare questa area tematica dedicata ai trasporti e alla mobilità sostenibile. che come sappiamo è un tema che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è cruciale, dal momento che si tratta non solo di una delle nostre stili, proprio la mobilità sostenibile, ma è anche presente nella Carta di Firenze del 2009. Quindi chiaramente capirete che è una tematica fondamentale per chi voglia chiaramente sostenere e portare avanti l'area del Movimento 5 Stelle. La situazione dei trasporti nella nostra città purtroppo la conosciamo tutti noi che la viviamo quotidianamente ed oggi vogliamo fare un pochino una panoramica, partendo come è illustrato diciamo un pochino nella Locandina, innanzitutto da una panoramica dello stato dell'arte, quindi quali sono un pochino i numeri, le cifre del trasporto pubblico di Napoli. Passeremo poi a illustrare insieme quelle che sono state le nostre battaglie condotte in opposizione, sia in Consiglio Comunale, con le nostre portavoce comunali, sia nei Consigli delle Municipalità dove siamo presenti. Che chiaramente anche non amministrando, il tema dei trasporti è stato fondamentale nella nostra azione, quindi abbiamo cercato comunque in qualche modo di vincere. Poi avremo altri tre spazi, punti di interesse da modelli europei virtuosi, chiaramente è per dare uno sguardo, un pochino, alle buone pratiche che si svolgono chiaramente nelle maggiori città europee. Ovviamente adattate, poi la nostra città non tutte possono essere chiaramente calzanti, però ci possono comunque accendere una lampadina per provare a migliorare la nostra situazione. Poi dovremo avere con noi un Assessore di Roma, che è qui, che è Salvatore, che è Assessore al Settimo Municipio, se non vado errato, e ci darà un pochino una testimonianza di cosa sta accadendo a Roma, quindi in una città che noi amministriamo dal punto di vista dei trasporti. Poi avremo un'altra testimonianza importante, che è quella del nostro attivista Fortunato, che è stato per quasi 40 anni, insomma, in Polizia Municipale, e quindi ha davvero il forzo della situazione e può un pochino, diciamo, parlarci dall'interno e fare le sue osservazioni rispetto all'esperienza importante che lui ha. Concluderemo poi illustrando sinteticamente quelli che sono i punti più importanti del programma Trasporto e Mobilità del Movimento 5SF, quello che noi abbiamo presentato tre anni e mezzo fa alle elezioni e che chiaramente abbiamo continuato ad aggiornare nel corso del tempo per renderlo sempre più, diciamo, adeguato alle esigenze che la città mano a mano mostrava di avere. Quindi io partirei con il primo contributo, che è il contributo del nostro attivista Damiano Barbato, che ci parlerà un pochino dello stato dell'arte della città, quindi il caso che non so, e della movimenta. Grazie. Salve, sono Damiano, attivista della Decima Municipale di Dato. E come ha detto Stefano, i trasporti a Napoli stanno in uno stato completamente disastroso. Partendo da quelli mezzi, diciamo, elettrici, tipo i tram, se trovate un tram vi offre una pizza. Sono tre anni che non esistono più i tram a Napoli. L'unico tram Linea 1, perché ce n'era solo uno, è stato soppresso per fare spazio a dei lavori che costituisce il porto di Napoli via Marina. Lavori che sono ancora fermi. E il tram l'unico è stato soppresso. Ci avevamo 40 tram, ora stanno tutti nei depositi della zona orientale di Napoli, fermi in disuso, e stanno marcendo nei depositi. Quindi non funzionano più. Gli autobus, quindi, trasporto su gomma, peggio di peggio. Noi abbiamo delle linee metropolitane di autobus completamente vecchie. Ci hanno circa 20 anni, il 60% degli autobus a Napoli ci hanno circa 20 anni. E sono sotto i limiti di legge per le emissioni inquinanti. Quindi sono Euro 3, Euro 2. Solo il 16% raggiunge la quota di autobus Euro 6. Quindi rispettano le normative. E la cosa strana, quando ci sono i fermi, i blocchi per il traffico, quegli autobus possono circolare. Stranamente, le auto Euro 3 no, gli autobus Euro 3 sì. Quindi è un controsenso. Parliamo del trasporto su ferro metropolitano. C'è solo una linea che funziona. Parliamo sempre di ANL, quindi Metro Napoli. E la linea 1. Questa non è completa ancora. Perché si devono ancora completare 5 stazioni per collegare tutto il cerchio metropolitano. Quindi partiamo dalla zona delle ferrovie ad arrivare all'aeroporto. Quindi è tutta scollegata. L'aeroporto è scollegato e non c'è una linea metropolitana. Quindi anche questa non funziona al 100%. Un'altra linea che era nata addirittura negli anni 90, la famosa linea 6, che insiste proprio in questa zona, la zona di fuoriprotta, ancora la dobbiamo vedere. Sono state inaugurate tre stazioni per pochissimi giorni e ora i treni sono a marcire, le stazioni stanno a marcire, sono state vandalizzate le tre stazioni. E anche questa, insomma, non vede la luce. Quindi, a questo punto, ditemi voi, come si può avere una città dove i trasporti dovrebbero essere, diciamo, ecosostenibili? I cittadini, infatti, si muovono con l'auto privata e quindi ci saranno, diciamo, il inquinamento sarà sempre superiore ai limiti di legge che il cittadino si muovere solo con l'auto privata ma non può andare avanti di nessun male. L'ultimo, i filobus, erano stati acquistati nei filobus a tibri che funzionavano in metalli elettrici. Hanno funzionato per pochissimo tempo, non ce ne sono più, ne sono rimasti pochissimi in giro e anche quelli sono molto vecchi. Noi che cosa vogliamo? Che il trasporto pubblico dovrebbe essere efficiente come nelle altre città d'Italia. Noi abbiamo Torino, Milano dove le linee metropolitane funzionano, le autobus funzionano. Noi abbiamo pochissimi mezzi dove il cittadino può arrivare al lavoro in un tempo, diciamo, decente. Anche l'unica metropolitana che abbiamo non funziona sempre al 100%. Molte volte, diciamo, le linee sono firme per mantenzione, si bloccano e quindi questo è lo stato dell'arte del servizio pubblico cittadino. Io vi saluto e grazie per la spesa. Grazie a Damiano per questa panoramica che cosa avete sentito è veramente avvilente perché comunque per una metropoli, per una capitale europea come Napoli avere un servizio che chiaramente in queste condizioni non è accettabile e assolutamente non è neanche comparabile a quelle... Non è colpa non stanno usando i microfoni, non dovrebbero... Non dovrebbero fare i microfoni. Io comunque voglio dare la parola in questo momento a Fabio Greco, nostro portavoce alla terza municipalità, che ci spiegherà un pochino il lavoro fatto da opposizioni in municipalità, un'esperienza in particolare fatta dalla loro municipalità e poi uno dei cenni a quelle che sono state fatte dagli altri portavoci. Grazie, Fabio. Buongiorno a tutti. Io sono Fabio Greco, sono portavoce alla terza municipalità Stella San Carlo Allareno. Allora, in breve vi voglio raccontare un po' la nostra azione come portavoce e attivisti del Movimento 5 Stelle in quel territorio. In pratica venimmo a sapere che dovevano annullare una linea su gomma che collegava la stazione centrale alla zona ospedaliera ed era, si chiamava la C40. Il C40 praticamente dal Cardarelli via tangenziale raggiungeva la stazione di Cazza Garibaldi passando per il centro direzionale. Ovviamente causava con l'annullamento un grandissimo disagio ai cittadini che praticamente partivano dalla zona di Colle a Pitecapo di Monte per raggiungere gli uffici al centro direzionale e ai tanti cittadini che raggiungevano la città di Napoli che magari volevano andare a trovare i loro familiari ricoverati alla zona ospedaliera nei vari ospedali. Quindi ci attivammo subito e insieme agli altri attivisti della municipalità iniziamo a raccogliere firme direttamente sull'autobus per una settimana. fatto sta che comunque la linea venne annullata. Facemmo delle commissioni ovviamente in municipalità gli chiedemmo gli interventi la presenza dei dirigenti a NM che a un certo punto iniziarono a ragionare a capire che quella linea era importante. L'hanno sostituita con un'altra linea che si chiama 190 che ovviamente per i lavori in corso che stavano ancora in questo momento a Piazza Garibaldi e per altri vice istituti che praticamente loro volevano tagliare un po' le corse e il chilometraggio della linea hanno deciso di trasformarla in 190. Oggi quindi abbiamo quella linea si chiama 190 è stata una vittoria a metà però questo ci fa rendere conto che quando i cittadini praticamente contribuiscono ad alcune battaglie si può iniziare a raggiungere e riuscire ad ottenere qualche risultato. una cosa che è importante dirlo durante le commissioni quello che mi lasciò allibito era il concetto di struttura e di creazione delle linee praticamente un dirigente dell'NM ci raccontò che loro dividevano la città in poli di scambio e poli di interesse adesso la meraviglia fu quando io gli chiesi scusatemi ma l'ospedale Cardarelli è un luogo di interesse nel senso che è inteso quel posto quel luogo dove persone vogliono devono arrivarci invece no il vomero era luogo di interesse il Cardarelli era luogo di scape quindi nel momento in cui si vanno a ristrutturare la città e la mappa delle linee loro ragionano in questa maniera quindi questa è la nostra questa è la mia personale esperienza in questi tre anni oltre al fatto che ci sono altre problematiche tipo il filobus dei Colliaminè che stiamo aspettando da più di otto anni hanno deturpato un territorio e inoltre volevo sottolineare che non fanno niente non c'è proprio l'interesse di tutelare le zone di interesse tipo museale di cultura perché oggi per arrivare al bosco di Capodimonte è una vera impresa adesso vi leggo praticamente quello che hanno fatto altri attivisti e portavoce nelle altre municipalità in quinta municipalità la portavoce Stefania Sannino e Liliana Coppola hanno denunciato la penuria di corse di autobus sulla tratta fuori Grotta Vomero con particolare disagio per i più anziani gli orari di chiusura sono troppo anticipati delle metropolitane rispetto alle esigenze dei cittadini la stucchevole diatriba sull'evoluzione della ZTL Scarlarti Giordano che da anni attende adeguamenti e nuove sperimentazioni ma tutto resta fermo per l'indecisione dell'amministrazione in sesta municipalità i portavoce Pasquale Longobardi Tina Formisano e Simone Natullo si sono battuti coinvolgendo anche i portavoci comunali per il ripristino di alcune linee di bus oppresse purtroppo senza che ANM rispondesse positivamente altra proposta consapevolmente ricettata dall'amministrazione è stata quella di istituire postazioni di bike sharing all'esterno delle principali fermate del trasporto pubblico sul ferro così da incentivare un'intermodalità sostenibile in nona municipalità magari se sono presenti Mario Mario Cerno in decima i portavoce Capizzi e Murra hanno proposto purtroppo senza ottenere l'accoglimento il corretto bilanciamento numerico tra strisce blu e strisce bianche l'installazione di autovelox urbani nelle strade ad alto tasso di sinistra dove non è per legge possibile installare dossi deceleratori grazie bravo passiamo invece a una sintesi di ciò che è stato fatto in comune in questi anni alla posizione ce ne parlerà Matteo ho a tutti una sintesi perché parlare di trasporti quello che abbiamo fatto in comune in tre anni e mezzo è impossibile 5 minuti aspetta Matteo sì ma tanto supero anche gli aerei con la voce diciamo che ci siamo soffermati su due grosse macrovoci la prima macrovoce a Enembe che come sapete è inconcordato nella azienda dei trasporti pubblici del comune di Napoli l'ha partecipata del comune di Napoli che poi è stata incorporata nella Napoli Noi dall'inizio ci siamo opposti a questo finto piano industriale di rilancio perché avevamo capito che non era un piano industriale stavano buttando i soldi non garantivano servizi non garantivano il lavoro dei dipendenti tant'è vero che l'altra cosa che abbiamo denunciato è il TFR dei lavoratori che sono in pensione non hanno pagato il TFR mi sono accorto che in commissione nel concordato non era stato inserito il TFR da dare alle persone in uscita come massa passiva da inserire il concordato questo vuol dire che entrava nelle voci di bilancio e infatti i lavoratori non hanno ricevuto quando sono stati in pensione il TFR e gli hanno detto che l'avrebbero avuto due anni dopo noi questo l'abbiamo denunciato in commissione e si guardavano tutti intorno come vuol dire non è vero in realtà poi avevamo ragione e adesso i lavoratori stanno andando avanti con una battaglia per avere quanto dovuto l'ANM ha detto che li darà in rate poi magari sentiremo parlare qualcuno di loro ma in realtà quello che è successo è che l'ANM ha problemi molto più seri di quelli che ci vogliono far credere e quindi noi siamo molto preoccupati per il futuro del trasporto pubblico locale l'altra cosa sulla quale ci siamo battuti è che manca un'agenzia della mobilità un mobility manager comunale questo vuol dire che se tu non hai qualcuno che dice quello che devi fare non c'è un piano della mobilità sostenibile esiste il Pums ma è soltanto le linee guida che hanno copiato diciamo da internet ma devono ancora metterlo in pista quindi non c'è un piano traffico natalizio non c'è un piano urbano non c'è un piano sui parcheggi di interscambio queste sono tutte cose sulle quali ci siamo battuti come ci siamo battuti anche per fare un rinnovo del parco automezzi di puntare sui mezzi elettrici di puntare sul tram perché è assurdo quello che stiamo facendo cioè puntare miliardi di euro per la linea 6 della metropolitana che è costata 10 volte la linea metropolitana di Roma è costata 8 volte quanto è costato in termini di chilometri il tunnel sulla Manica quindi non si capisce come mai tutto questo fiume di soldi sia andato perso non sono stati finiti i lavori continuano a riprogrammare il lavoro della metropolitana per avere i finanziamenti europei sono entrati anche nel patto per Napoli finanziamenti per finire la linea ma è un'opera che non servirà perché progettata 20 anni fa quando la mobilità e le esigenze di mobilità erano molto diverse da oggi non si capisce perché continuiamo a buttare i soldi in opere quando avevamo una linea leggera a costo zero di superficie che poteva fare tutto lungomare diventando anche bellissima dal punto di vista turistico come in altre città europee basta pensare a Lisbona dove c'è il tram che attraversa i quartieri ed è uno dei tram più visitati e utilizzati al mondo potevamo fare la stessa cosa a Napoli ma come si sa quando intervengono i grossi poteri e i potentati mi riferisco a chi dalla regione poi con metropolitana e S.P.A. sta andando a intercettare tutto questo fiume di denaro la prima cosa che ha fatto è una variante di 50 milioni di euro hanno votato tutti in consiglio tranne noi del Movimento 5 Stelle perché abbiamo capito che non era una variante che serviva ma serviva solo a ingrassare quindi le nostre battaglie sono di di buon senso sono proiettate a un futuro sostenibile a una città un'idea di città che è una città priva più possibile di macchine con l'incentivazione del servizio pubblico e mobilità differenti quindi car sharing bike sharing lo sapete le piste ciclabili a Napoli fanno ridere le piste ciclabili se voi andate nelle grandi capitali europee ci sono 180 200 km di piste ciclabili vere dove la gente usa la bicicletta per andare a lavorare a Napoli abbiamo una pista ciclabile dipinta per terra che quando sono venuti al World War Forum dal nord Europa gli hanno detto questa è la pista ciclabile si sono messi a ridere gli hanno detto vabbè adesso fatecela vedere gli hanno detto no questa è la pista ciclabile se ne sono andati ridendo noi speriamo che questa città non debba più ridere ma debba essere contenta di se stessa perché sarà e siamo sicuri per il Movimento 5 Stelle quando andremo a figliarci questa città sarà una città a misura d'uomo grazie grazie a Matteo che è stato sintetico ma davvero colpito diciamo i punti più importanti ora passerei la parola alla nostra attivista Liliana Coppola che invece ci darà un pochino degli spunti corti dalle migliori pratiche che sono state attuate in giro per l'Europa nell'ambito dei trasporti e della mobilità sostenibile qui parliamo in realtà degli ideali delle città ideali a cui noi dovremmo aspirare ad arrivare in aspetto voglio fare un accenno alla città di Oslo capitale verde d'Europa che è partita chiaramente molti anni fa da fare delle scelte innovative parliamo di tantissime piste ciclabili centinaia di chilometri di piste ciclabili centinaia la città più elettrica del mondo con 4.000 punti di ricarica cioè parliamo proprio di un altro mondo e chiaramente ha fatto una scelta molto forte e difficile anche da raggiungere accettare persino in nord Europa ha chiuso il centro storico quindi è chiaro che parliamo di un'area molto più piccola parliamo di 2 km quadrati parliamo di 5.500 abitanti però chiaramente se non si inizia mai da un piccolo posto e poi mano a mano ad allargarsi almeno questa è come la vedo io cioè come penso si deve partire da piccoli step e poi mano a mano andare avanti ora le parole d'ordine della mobilità sostenibile sono tantissime e ci sono tante città europee che si stanno avviando in questi che sono le buone pratiche chiaramente e la mobilità sostenibile innanzitutto con tutto alle auto in un centro storico trasporti efficienti cioè senza trasporti efficienti certamente è impossibile pensare a meno traffico meno auto e quindi comunque dare anche meno posti auto disponibili anche questa potrebbe essere una politica chiaramente sono pazzi questi che fanno questa cosa sì perché creano aree diverse di percorsi alternativi e quindi danno restituiscono degli spazi della città però chiaramente questo forse è una cosa più avanzata rispetto alla nostra situazione che è drammatica chiaramente molti investimenti anche nella mobilità ciclabile nelle piste ciclabili parliamo per Napoli di una pista ciclabile dichiarata di 20 km ma sappiamo tutte le problematiche e la pista ciclabile occupata spesso e volentieri anche su lungomare chiusa e inifita anche alle biciclette anche quella parte migliore la parte migliore chiaramente qui a fuori grotta che però ha degli incroci bruttissimi e la parte lungomare che è una bella pista ciclabile però spesso e volentieri non si può usare perché ci sono gli eventi da solo le politiche di veicoli in condivisione il monitoraggio della qualità dell'aria quindi chiaramente se diminuiamo le auto diminuiamo anche le emissioni di auto con autobus elettrici voglio fare un accenno alla questione anche degli investimenti investimenti nei trasporti efficienti è importantissimo ed è importantissimo anche comprare mezzi ecologici quindi elettrici mentre ad esempio nel nostro comune sono stati acquistati con costi europei in autobus a gasolio certamente sono meno inquinanti dei vecchi autobus che cadono a pezzi però in più abbiamo fatto la scelta dei tram cosa che invece nelle altre città comunque abbiamo questi in più c'è l'intermodalità e la multimodalità che è proprio la combinazione di queste cose molto diffusa nel nord Europa e c'è questa possibilità di gente che usa la bicicletta la minibiciclette al posto dove lasciare la minibicicletta quindi la struttura dedicata alla mobilità l'intermodalità è in più diciamo che è cosa che non accade invece nel sud dell'Europa perché non ci sono le attrezzature dedicate perché praticamente il pendolare deve rendere un 3 il metro prende la bici prende prende il car sharing la bike sharing ma tutto questo diciamo dobbiamo cercare di pensare poco per poco diciamo che le maggiori città europee che fanno questo chiaramente ci sono delle molto dell'Europa però ad esempio c'è anche Madrid Barcellona che ha tantissime piste ciclabili e tantissime linee metropolitane chiaramente ecco la metropolitana per noi è comunque un'impresa ardua fare una metropolitana e ce ne stiamo accorgendo perché comunque abbiamo problemi dell'archiologia un po' quello che accade a Roma cioè alcune cose secondo me non ci possiamo sempre paragonare all'Europa però alcune vabbè un'altra città che comunque ha tentato la strada ha iniziato la strada di riduzione dell'inquinamento a Milano e poi ci sono degli esperimenti chiaramente a Torino e a Roma e poi ci sono anche delle belle piste ciclabili una bellissima che è sempre stata fatta a Ragusa fatta molto bene su tutto il lungomare di Ragusa e di Sicilia quindi le città principali molto belle d'oltre a Oslo in Helsinki Madrid Malmo anche Edin anche Hamburgo è una città che sta riducendo drasticamente le auto molto e stanno incentivando anche l'uso delle auto elettriche anche di Hamburgo che certamente parliamo di città molto più piccole ma comunque sono 6-700 mila abitanti quindi non parliamo di città piccolissime ed Hamburgo ad esempio su due livelli comunque accompagna anche alla mobilità ciclabile anche in posti che in effetti sono in salita quindi questi dovrebbero essere i primi punti poi uno accende al piano di un urbano di mobilità sostenibile che è obbligatorio per le città che un certo numero di abitanti chiaramente la città di Napoli ce l'ha però è una cosa supercarga grazie grazie passiamo alle due testimonianze che inizia da un salvatore di pace per cercare di trovare da Roma e come è libero ci racconterà un po' di esperienze che stanno sperimentando perché stanno in attuando un pochino per ampliare più avanti Stefano non si sente la direzione mettiamo le sedie così non si vuole fare più avanti con le mettiamo le sedie non possono stare dritte perché deve essere una cora così ci hanno detto ma non si può fare più avanti ma non si può fare più avanti ma non si può fare più avanti a Corano ma non si può fare più avanti si può fare ma non si può fare più avanti ma non si può fare più avanti poco po' eh vedete un poco poco più avanti io sono in grado così si sente meglio così non so oh 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 se non chiamo comunque che Roma 5 Stelle ormai è una realtà da tre anni e mezzo anche in molti municipi tra cui il centro dove lavora San Paese abbiamo voluto provare a dare uno sguardo alle esperienze di chi effettivamente sta attuando il programma del movimento 5 Stelle rispetto a troppo a città dove non siamo ancora riusciti ma confidiamo di farlo presto invece a beh insomma con la parola con la parola buongiorno buongiorno a tutti ciao tanto ringrazio Napoli per aver chiamato e chiesto di portare un'altra stagione intanto vi dico alcune cose che governare è qualcosa di straordinario estremamente emozionale quindi ed è qualcosa di completamente diverso di quello che si fa quando si è all'opposizione sono due mondi completamente diversi quando si governa si ha a che fare con la struttura amministrativa che è un qualcosa di delirante su qualsiasi cosa da un filo d'erba a un'altra a una strada a una fognatura a qualsiasi cosa che noi vediamo è strutturata in una maniera tale affinché questa non debba essere risolta che non è soltanto una questione di ruberia ma è veramente un sistema burocratico creato ad arte dalla dirigenza delle amministrazioni pubbliche che ogni volta che emanano regolamenti lo fanno sempre per pararsi il culo e trovare sempre un modo per sviare qualsiasi responsabilità quindi Roma su questo fa da scuola a tutta Italia ma adesso Italia è la stessa cosa quando noi abbiamo ereditato Roma noi abbiamo preso un settimo municipio che sono 300.000 abitanti quindi è l'ottava città d'Italia siamo dopo Firenze e Bologna tanto per capirci l'infrastruttura stradale era anzi il luogo pubblico del nostro municipio era dedicato per il 90% alle automobili o in marcia o parcheggiate ma noi le chiamiamo auto rimesse a cielo aperto perché non so a Napoli ma a Roma anche la mattina quando si va a lavoro i parcheggi le macchine sembra che non si muovono ci sono sia le macchine incarneggiate sia quelle parcheggiate quindi come l'abbiamo affrontato noi la cosiddetta siccome noi abbiamo l'idea che un'infrastruttura alternativa all'uso dell'auto sia necessaria in una capitale come Roma una capitale europea abbiamo immediatamente imposto le condizioni di una trasformazione totale di quella che sono le sue quando è che noi faccio vedere questo è il questo che vedete il nostro municipio pari a Firenze oltre 300 mila sitanti quella a sinistra sono 4-5 km di ciclabili che erano state fatte dall'elezione noi stiamo facendo oltre 30 km di ciclabili ma noi le chiamiamo infrastrutture alternative all'auto non tanto ciclabili perché oggigiorno grazie al decreto Toninelli di giugno 2019 è possibile sperimentare e brire quindi la strada che ci sta a quella che è la micromobilità elettrica tant'è che a Roma non sono a Napoli ma ne ho già visti a Roma c'è un'esplosione di monopattini elettrici di strumenti alternativi anche alla bicicletta stessa le bici sono quasi sempre ormai quelle con dispositivo elettrico diciamo a pedalata assistita perché Roma ha i polli ha alti e bassi Roma è una città immensa e 10 volte Milano e quanto Londra quindi quando si parla di Roma spesso si raccontano storie ma non si conosce minimamente la realtà romana lo stiamo facendo lo stiamo facendo a fatica io vi racconto quello che è la difficoltà che abbiamo con i cittadini stessi noi abbiamo cittadini che se gli togli il parcheggio sembra che togli l'anima loro stiamo facendo le pedonalizzazioni i luoghi degradati dove una volta c'erano i piani terra occupati da delinquenti dove spacciavano e occupavano le strade noi l'abbiamo ripulito e ripetonalizzato alcuni cittadini dicono adesso dove prendo la macchina e ce lo dico mentre hanno il bambino in braccio allora la mia presidente che è Monica Lozzi la presidente del 7 municipio 5 Stelle dice alla signora metta giù il suo figlio che adesso può giocare sotto casa grazie a che cosa ha un'interpretazione alternativa dello spazio pubblico questo è fondamentale e dobbiamo portare ovunque reinterpretare lo spazio pubblico è molto necessario quindi queste infrastrutture noi le stiamo facendo tutte in sede protetta non ci sono ciclabili su marciatleti non ci sono misti all'auto non ci sono bike lane tutte in sede protette perché a Roma guidano in maniera un po' aggressiva all'interno di queste ciclabili potranno finalmente camminare anche a mobilità elettrica e questo sarà un impulso per scoraggiare l'utilizzo dell'auto io personalmente ho acquistato un monopattino elettrico col comando della polizia locale c'è una tolleranza perché ancora Roma non ha recepito il 7 municipio ha fatto tutti gli atti di giunta per portare la micromobilità elettrica però Roma ancora sta definendo gli ultimi dettagli e finalmente sarà possibile anche da noi girare in maniera poi quello che stiamo facendo che cos'è il nostro municipio è sia centro e poi si sviluppa verso le grandi periferie noi abbiamo periferie dove lo spazio pubblico altro non è che è un pezzo d'asfalto ridotto male e basta non ci sono marciapiedi non c'è niente non ci sono fogne e non c'è neanche altro quindi noi le citabili le stiamo portando al di fuori il grande raccordo al murale voi sapete che Roma c'è un grande raccordo che taglia completamente la città in un'altra e per farlo stiamo facendo dei ponti ciclo per un'altra come questo qui sarà un ponte ciclo pedonale noi vorremmo farlo addirittura fotovoltaico che possa illuminarsi in maniera naturale senza all'accio però questo se ci diciamo bene se no è il ponte lo vogliamo fare già in conferenza servizio quindi noi scavalleremo il grande raccordo anulare e porteremo le citabili nelle estreme periferie dove vivono oltre 100.000 abitanti questi sono i numeri di Roma io però chiudendo volevo raccontarvi un altro piccolo cameo il settimo municipio è quel municipio dove l'amministrazione precedente permetteva a casa Monica di fare il funerale e la polizia locale a servizio del casa Monica per farsi il funerale con la carrozza ebbene la presidente Lozzi lei la presidente Lozzi per otto mesi ha lavorato per demolire quello che è un intero quartiere del casa Monica queste sono le famose mille questa è un'immagine che abbiamo fatto con il drone negli otto mesi di lavoro con la polizia locale e col prefetto senza sindaco abbiamo prelustrato di notte con i droni tutti gli appartamenti e così la mattina del 20 novembre credo alle 4-5 di mattina 600 tra polizia municipale che prima assisteva in casa Monica per farsi il funerale adesso era lì a sgomberare casa Monica dalle loro case a distruggere l'ha fatto alla presidente Monica Lozzi del 7-2 con i fondi del municCT grazie 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 기분i grazie salvatore è sempre interessante ascoltare esperienze di amministrazione che appunto mi sono detto è diversa dall'opposizione sono due cose entrambe estremamente difficili che però richiedono strumenti diversi io vorrei dare la parola a Fortunato che si presenterà e che vi racconterà la sua esperienza e i suoi riscontri rispetto alla nostra cittadina, chiedo scuso se non vado a braccia, non vorrei perdere qualche punto e poi per stare nei termini che abbiamo avuto lì, quindi riporto quando mi sono accolto, ho letto il programma della città di Napoli nel Movimento 5S, la giornata al settembre 2018 e ho dato un riguardo al lavoro incommiabile che ha fatto il nuovo scendio con l'ingegnere Carmine Avesa per riferire di Napoli mobilità sostenibile. Entrambi i lavori sono risultati di un impegno notevole, ma per le attuali condizioni finanziarie pubicive che per la mia personale esperienza, vissuto sulla strada per 37 anni e rinforzata la Polizia Municipale, mi permette di poter osservare che entrambe appaiono direi quasi molto ambiziosi per la città di Napoli, non ne vogliono i presenti, non sono disfattista né pessimista, sono e mi è un'ottimista che vive le realtà quotidiane di Napoli. Napoli è una città molto complessa, con traditoria bella, daccapicciante, stupende e affascinante ed è unica, pertanto non ritengo che possa emulare gli esempi che portava avanti il piano e anche quelli che potrebbero essere non da modello ma come un modo di pensare futile. Perché? Perché per morfologie, per configurazione strutturale, la città è una prova anfiteatro collinari che declina verso il mare, con centinaia di migliaia di costruzioni che ha attraversato da vere strade che ne sono 6 o 6, Lungomare Coraccio in parte Liberato, il Ponte, la Via Acton, il Redfield, il Corso Inverso, Via Forria, Salvatore Rosa e il Corso Vittorio Emanuele. Questo racchiude in effetti tutto quanto quello è la città storica. Il resto sono stradine, veicoli che incombri perennemente dalla sosta dei veicoli, salitine e scalite. Che cosa bisognerebbe quindi poter proporre per la mobilità annata? Soprattutto ritengo programmi per la realizzazione di funibili, funibili e scale mobili e ascensori collegate tutti quanti i trattori o per la sosta per ruolo. Poi ha bisogno di una numerosa, efficiente ed efficace forza di mezzi pubblici sia su commerce che su propria vie, di piccole e medie dimensioni, non di grosse dimensioni come talvolta ci cambiano i medici, che però intersicono i loro itinerari, diciamo, a un link ad anelli in modo da poter avere una più flessibile movimentazione dell'utilizzo. Devono avere però i professori che devono essere elettrici, ibridi o a gas metano. Questa esperienza del gas metano che fu stata forse con la TPN qualche decennio fa e terminò. Poi bisogna fare, secondo il mio modo di vedere, un giusto eco piano calivario con adeguate strategie per combattere l'uso abusivo di trasporti interno. Potrebbero rientrare delle finanze che attualmente non ci sono. Cosa bisognerebbe per terminare ancora con le metropolitane, la L7 è partita con i lavori nel 1987, tre anni prima dei campionati mondiali, ancora non è terminata, è stata oggetta di inaugurazione per ben tre volte, però non serve alcune. E poi sviluppare, oltre che alla car sharing e le bike sharing, questa cosa mi fa pensare anche al recupero e riutilizzo della cripta napolesana come itinerario ciclo pedonale, anche le vie del mondo. Bisognerebbe però eventualmente una volta giunti all'amministrazione, provvedere con atti pubblici e obbligatori, affinché il trasporto pubblico privato, TAC, CNCC e quant'altro, nell'arco di una consigliatura di cinque anni, siano dotati tutti quanti mezzi di propulsore elettrici. Concludo dicendo che mi tengo possibile eliminare tutti gli impianti semaforici, o meno quelli possibili, per realizzare ruotatori. Questo oltre al risparmio dell'espressione per gli impianti semaforici, per garantirebbero la limitazione della velocità dei veicoli agli improvvisi e quindi una diminuzione anche di quella che è l'incidenza degli incidenti, scusi come si diceva. E' una diminuzione allo scopo suo che è un attenzione di inquinamento ulteriore dell'ambiente, in quanto diminuirebbero la diminuzione di gas di scarico, diminuirebbero quelle che sono la riduzione degli attritti tra gli organi di trasmissione, intendo frizione per l'ordine della trasmissione, per odo, per freni, basti, queste cose qua, e quindi in un più in alto la riduzione del PM10. E sto ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per questo manifestazione, in particolare i portavoce con Alba, Stamatane, Matteo Granmilla, quelli municipali del PM10, che ha vittorizzato su questo particolare, che stavano coordinare i lavori. Grazie. Ma un qualche cosa è amplificato, non c'è. Io mi voglio scusare con chi sta ascoltando per la qualità dell'audio, purtroppo l'indicazione era che nessun gazebo avrebbe dovuto avere altoparlanti, evidentemente non tutti hanno rispettato questa cosa, e quindi questa è la spiegazione. Cercheremo di alzare la voce il più possibile anche negli interventi successivi per farci sentire. Io mi avvio alla conclusione anche perché, come era stato previsto, di lasciare dei minuti per gli interventi di coloro che ci stanno ascoltando. Avrei dovuto anche illustrare un pochino le nostre linee programmatiche. Lo farò, ma alla fine la bellezza di questa cosa è stata che già con gli interventi precedenti, l'intervento di Matteo, l'intervento di Fabio, anche l'intervento di Fortunato, di Miliano, hanno quasi tracciato per intero quella che è la visione nostra di mobilità. I nostri obiettivi quali sono? Sono innanzitutto ridurre a monte la necessità di spostarsi, quindi utilizzando le nuove tecnologie, migliorando anche ad esempio la burocrazia, si riduce all'osso la necessità per il cittadino di spostarsi e quindi recarsi inutilmente in un ufficio ad esempio. Se il cittadino si deve per forza spostare, bisogna ridurre al minimo l'utilizzo del mezzo privato, questo è chiaro, ovviamente favorendo quello elettrico come è stato detto, ma soprattutto per realizzare una rete di trasporto pubblico locale che sia chiaramente caratterizzata dall'intermodalità, come è stato anche detto da Liliana, quindi dall'interscambio, e che sia efficiente ed efficace, quindi che abbia costi che siano adeguati all'offerta che dà e che sia chiaramente efficace rispetto alle necessità di spostamento delle persone. Quindi gli obiettivi della mobilità e dei trasporti cinque sulle sono questi. Noi siamo consapevoli che le risorse non sono ampie dal punto di vista economico, però sappiamo, grazie al lavoro che facciamo in Municipalitari, grazie al lavoro che fanno Marta e Matteo in Comune, che ci sarebbero tante risorse da sfruttare che non vengono sfruttate, quindi già ad esempio tutti i band ai quali si può partecipare che non vengono sfruttate al massimo, tutti quanti quelli che sono anche proventi delle contravvenzioni che non vengono sfruttate al massimo e che non vengono neanche elevate, quante si dovrebbero elevare, anche perché il personale purtroppo non è più formato come si dovrebbe, infatti nel nostro programma c'è anche un costante e continuo aggiornamento del personale della mobilità e di polizia locale. Quindi sostanzialmente vogliamo realizzare una città, come stava detto, a dimensione di cittadino che permetta di spostarsi il minimo possibile, ma quando ci si deve spostare, di farlo in modo efficiente, efficace e sostenibile. Io per chiudere vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti come relatori e coloro che sono intervenuti qui ad ascoltarci adesso e che tra poco, se lo vorranno, potranno intervenire con domande e proposte. Però vorrei anche evidenziare il valore del diritto alla mobilità, che non è solamente un diritto che riguarda la possibilità di spostarsi o la possibilità di non inquinare, quindi non andare ad agire in modo deleterio rispetto alla bambina. Ma è proprio un diritto che riguarda l'uguaglianza, perché il cittadino che non può disporre del mezzo privato o che non può disporre, ad esempio, del taxi, deve avere le stesse e medesime possibilità di quello che invece può fare. Quindi deve potersi spostare con il trasporto pubblico locale con la stessa efficienza e con la stessa velocità di chi si vuole spostare con il mezzo privato, sia per disincentivarlo e sia appunto perché ci deve essere uguaglianza. Noi, il motto del Movimento 5 Stelle è non lasciare nessuno indietro. Quindi il trasporto pubblico locale non è una materia tecnica, è una materia che va a toccare la carne riva dei cittadini, che va a toccare l'uguaglianza e va a toccare il Principe Sacro Santo, per il quale nessuno deve conoscere niente. Grazie. Ora ci restano, come programmato, i 10 minuti da dedicare agli interventi, le proposte, anche alle critiche dei cittadini che ci hanno ascoltato stamattina. Quindi se qualcuno volete venire, gli diamo la parola. Puoi salire lì. Puoi parlare a tutti, puoi anche salire qui, se vuole. Non so se ci sono interventi, suggerimenti. Prego. Io adesso ci sono stato gioco. Salve. Puce, puce. Nome, cognome. Io sono Cosimo Lamalfa. Avevo fatto uno scritto per non perdermi e per essere un po' lontano. La voce? Sì. Purtroppo ci sono gli scostumati. Tutto un po' lontano. Allora, salve e buongiorno a tutti. Sono Cosimo Lamalfa da Sissa Napoletano. Sono un delegato sindacale di USB Settore Taxi. Innanzitutto voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle a nome di tutto il gruppo sindacale e di tutti i tassisti che ne fanno parte. Grazie di averci dato oggi la possibilità di esporre in sintesi i nostri problemi prioritarie. Da oltre 20 anni noi tassisti subiamo abusi, soffrusi e sperperi di denaro di ogni genere, proprio come i cittadini napoletani. Nel corso degli anni, tante sono state le nostre proposte e idee fatte alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Ma da tutti abbiamo ricevuto solo promesse da marinai mai mantenute. È possibile che una categoria come la nostra, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, deve essere gestito e sfruttato da personaggi senza stupro, 10 cooperative, 9 sigle sindacali e 4 radiotali. Un esercito di faccendieri e fannulloni inutili, i quali da sempre non hanno mai portato nulla di buono ai tassisti napoletani e ai cittadini. Dal 2006 a oggi il Comune di Napoli ha rilasciato oltre 700 autorizzazioni di noleggio con conducenti, così come è avvenuto in tutte le province della Cabbana e su tutto il territorio nazionale. è avvenuta una vera tangentopoli del trasporto pubblico locale di linea e non di linea. Così le società private, le più rappresentative sul territorio, hanno valgato e arricchito le loro forze. Sul Napoli di conseguenza stanno impoverendo noi tassisti e le tante aziende locali del trasporto pubblico di linea. Questi personaggi con accordi celati si stanno prendendo il buono e il meglio del nostro lavoro, trasgredendo leggi e regole, adoperando una concorrenza sreale sfidata nei nostri confronti. è come se non passassero i noleggiatori, c'è un mare di abusivi che svolgono la nostra attività indisturbata. Eppure questi li abbiamo segnalati e denunciati senza nessun risultato. Poi abbiamo il problema delle RC auto, i costi per noi tassisti sono arrivati alle stelle. Io in prima classe con una 1.300 multicetta pago 2.700 euro a mano. E in tanti sosteniamo queste cifre. Poi oggi vengo a conoscenza di una notizia sconvolgente per me e dell'utente. Il movimento apre le porte al primo. Il codice 5 stelle è sconti del 10% sulle forze nazionali. Voglio solo ribadire attenzione alle multinazioni. Mi fermo qui per lasciare spazio ad altri. Ma voglio di nuovo ringraziare il movimento in quest'interno con la speranza di intraprendere insieme una nuova strada di giustizia, di regole sane e di legalità. Grazie. Se posso magari rispondere giusto per quello che abbiamo fatto in comune. Perché anche noi sui taxi che ricordo non è un servizio privato ma è un servizio pubblico. Perché si confonde sempre il tassista con un servizio privato. Invece è un servizio pubblico. E quindi deve essere integrato nei servizi pubblici. Come servizio pubblico ci sono delle regole che tu hai fatto bene a ricordare due cose importanti. La prima è che quella che esistono molte persone abusive che voi segnalate. La seconda è che questo servizio è gestito diciamo in buon uomo. Noi questa cosa lo occupano. Oltre agli abusivi anche chi invece le cooperative irregolari. Esatto. Abbiamo fatto delle denunci e interrogazioni anche parlamentari. Siamo andati anche a parlare fino al prefetto. Per le situazioni che si vengono a creare in particolare alla stazione, all'aeroporto e al centro. Perché lo sapete benissimo a Porto ci dovrebbe essere una contrazione dei posti. Alla stazione non c'è una gestione regolare di quelli che sono gli arrivi e i preghievi dei posti. Quindi noi su quello siamo... Su quello che riguarda l'RC auto ti posso dire che da settembre che la legge sta andando avanti delle commissioni che è imbattato. Le leggi sull'RC auto diciamo omologata dal nord al sud Italia come tariffe. Perché io, lo sai, sono originario della provincia di Milano. Quando sono sceso a Napoli la mia macchina pagava 300 euro a Milano. Qua a 900 euro la stessa parte. Quindi, cioè, potete capire che è un po' una persona solo perché è di una regione piuttosto grata. Sul resto è un discorso invece a livello nazionale. E se vuoi faremo da tramite il livello nazionale. Le multinazionali che hai detto, o certe cose che magari il movimento potrebbe essere reso... Partecipa e reso al corrente di quelli che sono i pericoli. Esatto, esatto. Quindi quello ti invito magari ad andare agli dei superiori. Perché... Sul resto ti possiamo assicurare che siamo sul mezzo, seguiamo la cosa. Tra l'altro abbiamo partecipato di un movimento all'inaugurazione quando era stata fatta. C'è un seguito che ci aveva proposto anche di fare il taxi collettivo per gli studenti. Poi i ragazzi che vanno dalla periferia al centro la sera. Di dire, per i genitori, è un problema soprattutto chi abita in periferia con la metodolontana. Ci sono le bande che girano. Quindi ci sono stati diversi episodi di criminalità. Avere invece un taxi collettivo che porta gli stessi ragazzi dello stesso quartiere a tariffe agevolate la sera a tornare a casa, che era una cosa che noi avremmo sostenibile. Anche in aula. Ovviamente poi ci dici due ci sono interessi personali di parte, delle cooperative, che invece tra l'altro noi siamo dalla parte di chi fa le cose come vuole, per bene e vuole. Distingue invece da chi le cose come bene non le fa, creando un problema di lavoro. Grazie, grazie. Abbiamo due minuti, due minuti, siamo sempre disponibili. Abbiamo due, tre minuti. C'è qualche altra domanda, curiosità, interesse? Siamo a disposizione, Matteo, siamo tutti qui. Bene. Grazie Matteo. Se devi parlare è qua. Vai, vai, vai. No, vieni, vieni. Siamo tutti. Ci sento una parola. Eh, dite quello che andremo a fare, e dobbiamo abbassare. Perché lo vado a dire. No, aiuto. su quello di andare alla regione perché ci sono alcune cose le quali si interessano alcune perché hanno dei finanziamenti che gestirà poi a livello comunale se arrivano dall'Europa, dalla regione, dallo Stato e poi il comune è quello che deve seguire i lavori quella tratta invece arriverà, credo, da tratta regionale invece di mezzo, dalla regione poi si entrerà a 2 metri quindi devi andare da Tommaso Malerba a chiedere per vedere a che punto è perché la linea 1-6 la linea 10, quella che arriverebbe fino a Frago il problema è che noi possiamo arrivare alla chiusura anello 1-6 della metropolitana che è di competenza comunale tutto quello che è fuori riguarda la città metropolitana e l'aspetto regionale quindi deve andare da Tommaso Malerba ancora una domanda? questa funivia che sta qua a fiori, lo scheletro che sta qua a fiori utilizzato che intenzioni c'è di abbatterlo, toglierlo da mezzo, riattivarla perché attualmente è uno scheletro che è solo un pericolo per la sicurezza perché è anche patiscente come struttura su quello credo che non ci siano notizie da qui a breve nel senso che tutta quella che è una mobilità obliqua su Napoli sarebbe da ripristinare perché comunque essendo appunto una città obliqua Napoli qualcuno cantava anche è assurdo che non ci sia un collegamento veloce dal sotto al sopra della città adesso stanno cercando di recuperare una parte tra la sanità e la zona nord di Napoli con dei percorsi cicloquedonali e con uno snodo in più di quello che riguarda l'entrata e uscita della tangenzione è un progetto che non ci viene d'accordo perché vorrebbe dire continuare a congestionare di auto mentre la nostra idea è quella di fare l'intescambio fuori dalla città non si capisce per esempio perché facciano continuare a entrare i bus turistici nel centro di Napoli su quella cosa lì mi informo perché nei progetti che ho visto non c'è in campo niente neanche né città metropolitana né Ipona né si è dimenticata completamente si è dimenticata, si questo non è stato neanche più che esista però c'è questa struttura qua pure che è patiscente e anche cose pericolose non si sa di meno se sto attuando la visionata è sicura o meno vedremo l'informazione eventualmente di fare delle proposte poi insiste anche sulla linea ferroviaria per la settimana e non siamo sicuri di chi è il responsabile di questi scatti di chi è la competenza ci informeremo bene grazie grazie Ma quello che dice il signore è una cosa giustissima. Stava praticamente la fungolare che si poteva rifiutare, la funizia che proletta la zona di posto. Il funcionario della zona di posto, perché infatti il ministro ha abbandonato la vita e il dono l'hanno vigilato. No, dico, questa situazione qua con il numero di bambioli che stanno praticamente rimanendo tanti soldi, sarebbe interessantissimo se mi dice il signore c'era praticamente il periodo fascinico, c'era un collegamento tra il Parco Vigiliano e una busta d'oltre mare, una seggiovia che è collegato, vabbè vero che non sono i piloni qua, qui a te devi cominciare a abbandonare. Ci sarebbe un progetto a livello turistico da ripristinare, perché poi la zona di posilico, una zona che non è collegata a nessuna metropolitana, molte persone potrebbero utilizzare la seggiovia per muoversi e per venire praticamente a prendere la metro a fuori gruppi. Quindi nel progetto di riqualificazione della zona di Bagnotti, con una situazione di recupero del Parco Vigiliano abbinando ai siti turistici che ci stanno, per esempio molte persone, io solo 5 anni fa sulla regione della zona sono andato a vedere la villa di Medio Poglione a Stigliano, come Napoletano praticamente, è per vita, è una zona turistica da riqualificare ai massimi livelli, perché praticamente potrebbe tante persone. Sì, allora, per rispondere un po' anche a tutte e tutte, chiudiamo qua l'argomento. Allora, c'è piano piano mobilità sostenibile e poi tutto il progetto Bagnoli. Nel progetto Bagnoli c'è tutta l'infrastruttura della mobilità che deve essere ancora costruita, e quindi sicuramente potremmo portare delle idee, però bisogna vedere quelle che saranno le idee con minore impatto e a servizio dei cittadini. Per quello che riguarda il piano piano comunità sostenibile che riprende un po' tutto, deve essere integrato con la città metropolitana, che noi il problema sono quelli che vengono da fuori ad evitare che vengano con i mezzi propri. Dovremmo farlo entro fine anno il piano urbano. Grazie, passiamo a secondi. Allora, adesso cominciamo con l'argomento cultura e turismo. Io sono Marta Matano, consigliere del Movimento 5 Stelle Napoli. Abbiamo strutturato questo blocco orario, questo argomento, con ieri, oggi e domani, perché vogliamo parlarvi di quello che abbiamo pensato nel 2016 come Mitacco Napoli quando ci siamo presentati con Matteo Barumbrilla, sindaco, per diventare sindaci della città di Napoli. Dopodiché parleremo di quello che stiamo facendo oggi in Consiglio Comunale e poi della visione futura. Allora, anche io ho scritto delle cose perché il programma era molto vasto, è stato molto partecipato, quindi per non dimenticarmi niente anche io ho degli appunti. Ovviamente partiamo con l'idea che abbiamo noi di cultura, patrimonio artistico e paesaggistico. Per noi sono tutti beni comuni e sono i diritti fondamentali del cittadino, fanno parte di questo. Il turismo deve essere lo strumento per valorizzare il territorio e la sua storia millenaria. Candidandoci al governo di questa città, come vi dicevo, ci eravamo posti tra gli altri obiettivi quello della valorizzazione dei beni storici, culturali e artistici della città e di immaginare delle proposte di varie tipologie, a costo zero, a costi medi e a lungo termine. Il nostro sogno principale era quello di far emergere e rivalutare qualcosa di unico che rappresenta la città di Napoli. Abbiamo 3.000 anni di storia, siamo una delle poche città d'Italia che ha questa storia ed è un peccato che ci si ricordi solo di questa città per altre cose, per le brutture, per le stese, per le ruberie o per altro. Noi vogliamo che la città di Napoli ritorni a essere al centro dell'attenzione nazionale ma per la cultura e il turismo che da sempre ci contraddistinguono. È opportuno anche per questo motivo lo studio e ripristino anche di rituali antichi. Pensavamo per esempio alla vecchia festa di Piedigrotta che ormai è totalmente dimenticata. Si potrebbe rivalutare, riutilizzare, mettere in comunicazione il vecchio e il nuovo, fare in modo che partecipino a questo contesto i nuovi emergenti cantanti napoletani magari riproponendo una rivisitazione delle antiche canzoni napoletane insieme ai loro pezzi nuovi. Potrebbe essere un'idea per rivalutarlo. Bisogna soprattutto far riscoprire ai napoletani l'orgoglio di essere napoletani. Stesso loro si sono dimenticati della nostra storia. Noi napoletani dobbiamo essere i primi ad essere dei tour operator della città. Dobbiamo riscoprire l'orgoglio di essere felici di parlarne agli altri di quanto è bella la nostra città e di quante cose belle ci sono da vedere. Inoltre, i beni culturali, come dicevamo, sono i beni comuni per eccellenza. E visto le ristrettezze della nostra amministrazione, non ci sono soldi per il restauro, abbiamo pensato a forme alternative per recuperare i fondi, proprio per questo, per tutelare i beni culturali. Per esempio, si può pensare di destinare una parte dei fondi recuperati dall'evasione dei biglietti di Adan, dei bus, dei metro, una piccola percentuale da dedicare alla rivalutazione dei beni culturali. A far pagare un ticket d'ingresso non risibile come quello di oggi, che è di circa 50 euro. C'è stata un'altra proposta in comune per fare alzare il ticket d'ingresso a Roma, prendono 500 euro ad autobus. Qui a Napoli 50 euro. Allora, non vogliamo 500 euro, ma almeno aumentare e implementare questo biglietto per poterlo destinare sempre al recupero dei beni culturali sul territorio. Stessa cosa, i proventi della tassa di soggiorno adesso lo usano per la Napoli Servizi. Scopriremo più avanti, non voglio scollerare quello che diranno al bilancio, che cosa ci fanno con la tassa di soggiorno, lo vedremo dopo. Certo, non fanno quello per cui è dedicata la tassa di soggiorno, cioè rivalutare, risistemare i beni culturali. Abbiamo pensato all'utilizzo di strumenti di crowdfunding, su una parte dedicata del sito che vogliamo fare per il comune di Napoli, dedicata di volta in volta, ogni tre mesi, ogni quattro mesi, al crowdfunding per esaurare un bene culturale. Si potrebbe fare in modo che ci dedicano parte dell'art bonus, è una legge italiana che pochissimi donano all'art bonus per la città di Napoli. Fra l'altro pensiamo che senza un'attenta programmazione non si va da nessuna parte, allora vorremmo fare il censimento di tutto ciò che è rifruibile in termini culturali, penso non solo alle opere culturali, ma alle musica, teatro, spettacoli, artisti, tutto quanto c'è nella città, non c'è un censimento di tutto questo. Pensiamo all'istituzione di una consulta comunale popolare della cultura, dove possano partecipare i vari attori culturali della città, un'integrazione ed interazione religiosa. Napoli è una città appunto millenaria, che ha radici in religiosità e popoli diversi, è un quacerbo di culture diverse. Facciamone un vanto di questa cosa, valorizziamola. La tutela dei parchi pubblici, dei parchi comunali, anch'essi beni culturali, rivalutazione delle biblioteche comunali, ce n'è una per ogni municipalità ma sono abbandonate a se stesse, vorremmo che diventassero dei pori culturali per ogni municipalità, attrattori della parte sana della società civile napoletana. L'istituzione della banca del tempo, ognuno potrebbe iscriversi a una banca del tempo, dedicare delle ore al bene comune, al bene della città, scambiarsi le ore, magari io che sono una scenografa, posso dedicare un'ora alle compagnie teatrali emergenti che non hanno uno scenografo che gli aiuti e la compagnia teatrale magari può dedicare un po' di tempo per insegnare a qualcuno il teatro antico napoletano e via dicendo. Per il turismo vogliamo che i comuni cittadini siano appunto i primi tour operator della città, ci deve essere un'attenta programmazione culturale e turistica per potersi inserire nei pacchetti turistici internazionali, per andare alle fiere, non è che si può andare avanti a programmare da un giorno all'altro, se no come li vendiamo i pacchetti turistici e le attività che facciamo sul territorio? Vorremmo che si creassero itinerari culturali diversi dal solito e infatti avevo immaginato una cosa che poi vi dirò dopo, per fortuna è stata fatta una mozione e ce l'hanno approvata, ovviamente non l'hanno attuata, gli itinerari del cuore, ci potrebbe essere una specie di contest di bando per chiunque, per qualsiasi cittadino, scolaresche che vogliano portare all'attenzione di tutti un itinerario culturale sconosciuto, magari ognuno di noi ha un bene culturale che nel suo quartiere e nessuno ci va e nessuno lo conosce, questo potrebbe essere un modo per incentivare il turismo anche in zone della città dove i turisti non ci vanno, perché si creerebbe un circolo virtuoso di lavoro e di un'attenzione sana per il quartiere e per la zona dimenticata. Non possiamo essere solo murales, c'è altro, c'è molto altro. Come dicevamo, le navi da crociera dovrebbero essere data la possibilità dell'elettrificazione delle banchine, questo comune è stato capace di perdersi fondi per l'elettrificazione delle banchine che rientravano nel grande progetto portato di Napoli e con le università abbiamo visto quello che è successo, le navi da crociera che sono state usate come base per gli atleti, sono state accese 24 ore su 24 con il sforamento del PM10 con le centrale dell'ANAC, costante sforamento e anche questo l'avevamo rappresentato. Va bene, io mi fermo qua perché ce ne sarebbe, ce ne sarebbe. Adesso andiamo a parlare, Oscar Di Maio, Oscar, Oscar. Attivista, attore, ci parlerà delle nostre idee. Grazie, dunque in quanto operatore volente o volente della cultura mi hanno chiesto di dire delle cose, più che in parlare dello specifico del mio lavoro che in questo momento credo non è il caso, però io voglio sottolineare le cose che credo che dovrebbero essere più seguite dall'amministrazione comunale, dalla politica in genere, ma chiaramente parlando di città io parlo di amministrazione comunale. Quindi parlando di cultura in generale una delle cose che mi preoccupa e che mi impensierisce, che mi preoccupa è il patrimonio culturale che noi abbiamo nella nostra città. parlo di chiese, parlo di opere d'arte, abbiamo un patrimonio che è immenso, che è straordinario, paragonabile a poche città nel mondo, però questo patrimonio noi lo teniamo buttato ai porci, come si dice. Noi abbiamo delle mura greche che sono ricettacolo di immondizia, di bottiglie e non c'è nulla e nessuno che controlla che questi resti straordinari siano tutelati. Ogni tanto si fa una pulizia, ogni tanto si fa un poco di lavata di faccia, come diciamo a Napoli, però poi alla fine non si trova mai un sistema. Basterebbe mettere qualcosa, delle lastre di cristallo che coprono, delle piramidi, insomma, per fare mai... perché poi ho visto che la gente, che i turisti si soffermano, questi posti, questi siti, rientrano nei giri che il turista fa. Allora, per quale motivo? Qual è il motivo che non ci spinge a investire sulla cultura? Io, in un senso generale, diciamo, ma io amerei l'idea che anche la pittura, la scultura, la musica, il teatro, la danza è una cosa che può sembrare di relativa importanza. La cucina napoletana, ma anche l'artigianato. Noi abbiamo degli artigiani che sono straordinariamente importanti e su questo si potrebbe, per esempio, un'idea che mi era venuta, si potrebbe creare delle botteghe laboratorio per far apprendere ai giovani i mestieri dell'artigianato. Ce ne sono tantissimi. Io, passando una volta davanti a Piazza San Ferdinando, ho visto un signore che è uno degli ultimi artigiani che riparano orologi a macchina, quelli là. È una cosa, un uomo anziano, con gli occhiali, poverino, così, e chiaramente lo fanno con quelle lenti di ingrandimento. Ma perché questa cosa deve morire con l'uno? Perché non si prende questo signore e lo si mette dietro a una cattedra e si fa insegnare questa cosa ai giovani? E questo potrebbe essere anche motivo per creare nuovi o per mettere antichi posti di lavoro. Un'altra cosa che mi sta molto a cuore è la fruibilità del patrimonio culturale a tutte le persone, anche alle persone con disabilità. Molto spesso, invece, ci troviamo di fronte a siti archeologici oppure a musei che non sono accessibili a persone con disabilità. Questa è una grave pena. È una mancanza di rispetto, prima di tutto, per queste persone e anche per il patrimonio che noi abbiamo. Invece, dotando... Alcuni sono accessibili, altri sono off-limits. Un poveraccio, una persona che ha questa difficoltà si trova davanti delle scale e non può più proseguire nella sua visita. Questa è una cosa che a me fa male, immagino a loro. E mi farebbe piacere che questa, come altre cose, rientrasse in un piano generale di una cosa che io ho voluto definire educazione alla bellezza. Portare nelle scuole l'educazione alle cose belle, alla pittura, all'arte, alla scultura, ma da bambini, creare nei bambini questo interesse nei ragazzi, nei giovani, tenerli il più possibile lontani da quella macchinetta infernale che era la televisione, ma ora, voglio dire, i telefonini e voglio dire tutti i supporti che purtroppo ci hanno rubato questo poter parlare. Ecco, invece io credo che educare questi bambini, questi ragazzi, alla bellezza sarebbe qualcosa che poi, un domani ci troveremo, perché dei bambini e dei ragazzi dati alla bellezza sarebbero dei ragazzi e dei bambini che poi la cercano o la creano la bellezza. Ed è questo un'altra delle cose... mi piacerebbe anche, per esempio, noi abbiamo fatto qui, e mi piange il cuore, a vedere il nostro cavalletto, le nostre tele, i nostri colori non utilizzati. Abbiamo fatto una chiamata alle arti, abbiamo chiesto su Facebook, anche sui social, abbiamo chiesto agli artisti di intervenire in un happening e crearci delle opere dal vivo. Abbiamo messo tutto il necessario. E lì, la tela è bianca, i pennelli sono puniti, nessuno ancora è venuto. Io mi auguro che nel corso della giornata, tra oggi e domani, questa cosa prenda piede. E questa è una cosa che, secondo me, si potrebbe fare. Un'altra delle cose che si potrebbe fare. mettere nei punti strategici della città delle situazioni simili a questa. Per esempio, uno strumento musicale, per esempio, sì, del materiale per creare delle sculture, in maniera che la gente, che le persone si trovi di fronte all'arte, di fronte a toccarla con me. Penso di aver finito, e voglio dire altre cose. Permettemmi di dire solo questo. Che Napoli, pur essendo una delle capitali mondiali del teatro, non ha un teatro dove si rappresenta la maschera di Cucinella, che è famosa in tutti i conti. Non c'è un posto a Napoli dove si può sentire la canzone napoletana, che è un patrimonio culturale mondiale. Purtroppo c'è, esiste, è un po' lontano. Se volessimo andare a visitare il museo della canzone napoletana, dovremmo viaggiare un pochino. Perché sta a Tokyo. A Tokyo c'è. A Tokyo le persone vanno a sentire la canzone nostra, la canzone napoletana. e da noi non c'è. Perché? Perché se, per esempio, ma lo so, a Lisbona, no? A Lisbona si vive per il fado, per questa loro musica, per questa loro danza. Perché a Napoli non si può fare? Perché, per esempio, se vogliamo andare ancora a Buenos Aires, che si nutre di tango, oppure a Rio de Janeiro, la samba, che cosa abbiamo noi in meno a queste realtà? Grazie. Adesso, torniamo all'oggi, no? Quest'anno i sogni, e oggi quello che stiamo facendo è il Consiglio Comunale. Andiamo facendo quello che possiamo riuscire a fare da opposizione. Quindi noi non possiamo fare altro che presentare emozioni, chiedere commissioni, tematiche, presentare ordini del giorno. e fare interventi in Consiglio Comunale sulle delibere o per articolo 37, che sarebbe un articolo d'urgenza per parlare di un argomento non ad ordine del giorno durante i Consigli Comunali. E proprio nell'ambito di questi interventi cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato di biblioteche, per esempio quella del Polifunzionale di Piscinola. Dovete sapere che il Polifunzionale di Piscinola era una struttura molto grande, dove sarebbero dovute praticare sport e cultura, cioè sono anche due teatri, e per i ragazzi del quartiere è un punto fondamentale per riunirsi per studiare. Ma da un anno e mezzo sono rotti gli ascensori e così gli studenti disabili e gli anziani non possono salire al quarto piano. Ma soprattutto gli studenti che riescono ad arrivare al quarto piano spesso rischiano di incontri perché si attraversano, dato che è una struttura coadiscente, si attraversano dei non luoghi, delle zone buie con pezzi di soffitto cadenti dove negli affratti si possono nascondere persone. E una ragazza ci ha raccontato, l'hanno scolto quando siamo andati a fare un sopralluogo, che ha rischiato di essere messa in mezzo da quattro ragazzi che l'aspettavano lungo le scale. Solo l'arrivo providenziale gli altri tre o quattro ragazzi che scendevano e che loro l'hanno salvata da un destino in pausto. E questo è lo stato delle biblioteche del comune di Napoli. Come dicevamo, ci sono dieci biblioteche per municipalità ma non c'è personale per tenerle aperte, non si può fare l'orario prolungato, mancano i libri, non vengono riallestite e riassortite. Poi abbiamo parlato di spazi di cultura negati e in particolar modo, sempre durante i vari articoli 37 abbiamo parlato della città dei bambini che non so se voi sapete cos'è, dell'ex cinema di San Giovanni a Teduccio, del cinema maestoso di Barra, del teatro, un altro teatro presso il Polifunzionale di Solcavo, dell'ex fabbrica Corradini. Tutti i progetti che a fronte di soldi pubblici investiti di fondi europei di ceduti non sono mai stati portati a termine. Ne hanno fatto sempre solo una parte, dopodiché sono deperiti perché ovviamente senza completarli e senza occuparli sono andati in malora, quindi adesso si dovrebbe ripartire, rifinanziare e buttare altri soldi. Ok? La città dei bambini era un progetto bellissimo. La carta del 2000, i bambini di Porticelli dal 2000 lo stanno aspettando, ormai sono maggiorelli, si sono dimenticati, ci doveva essere questo spazio di 34.000 metri quadrati in grado di ospitare 2.000 bambini, uno spazio che doveva comprendere un planetario, dei laboratori, una biblioteca, un teatro, spazi verdi, un percorso armiologico perché lì c'è una villa romana, rustica, e una nuova scuola. Ovviamente i piani di riqualificazione in quella zona sono fermi, sono stati spesi soldi, fu acquistato addirittura il planetario, ma questo planetario non è mai stato montato, ormai la tecnologia è obsoleta e se ne sono perse le tracce e non sappiamo dove è finito soldi buttati. 6 milioni e mezzo di euro. L'ex super cinema, era un cinema molto grande, una struttura a San Giovanni, luogo di cultura dove non ce n'è proprio, non ci sono luoghi di aggregazione culturale, un miliardo, un milione e mezzo di euro, anche qui hanno chiudo tutto, hanno buttato tutto a terra, costruito solo, ormai c'è uno scheletro, ed è tutto abbandonato, pare che ci sia l'ingresso abusivo di qualcuno che ci ha fatto un deposito, ma il comune dorme. Stessa cosa per il cinema maio di un'uso di barra, sempre dal 2001, stimati circa 4 milioni di euro per i lavori, nel 2008 si è fatto un primo stralcio di lavori, si sono spesi un milione e tre, dopodiché tutto fermo, per 5 anni non se ne è saputo più niente, poi hanno dovuto fare dei lavori perché a causa di quello che avevano lasciato scoperto, sono state infiltrazioni per l'edificio a fianco, quindi il comune ha speso altri soldi per ristrutturare l'edificio a fianco ed è ancora tutto fermo, ogni anno mettono a bilancio questi soldi che ci sono e non li spendono, nel loro libro di soldi, il DUP, documento unico di programmazione, non si fa mai nulla. Teatro polifunzionale di Sottavo, non lontano da qui, teatro costruito, solo la struttura, ci sono le graditate, c'è tutto, non ci sono le porte, si è centrate, ho trovato una discarica abusiva all'interno di questo teatro, visto che il comune non ha soldi e ha partecipato a un bando pubblico di 2 milioni di euro per averli, ha sbagliato il bando, il teatro non si concluderà mai. Ex fabbrica Corradini, era una fabbrica risalente ai primi decenni dell'Ottocento, in realtà ci sono tantissime strutture, era una specie di numero di storia di come è evoluta la fabbrica dall'Ottocento ad oggi, anche per questa è stata dichiarata, me lo devo vedere, è stata dichiarata praticamente sotto vincolo della sovrintendenza dei beni architettonici, ci hanno dato 20 milioni di euro per ristrutturarlo, a stento hanno fatto la bonifica dall'amianto ma non del tutto, ormai gli edifici sono caduti a pezzi, ci sono dei tutti innocenti che, poi mi farà vedere Marco, il nostro architetto, cosa è successo lì, addirittura l'autorità portuale la vuole abbattere, vuole abbattere tutto per farci passare la ferrovia per le merci, ok? Vuole abbattere un bene sottoposto al vincolo, non si può fare, ci siamo messi di traverso, doveva diventare anch'esso un ruolo culturale e riconsentire l'accesso al mare per tutta quella zona che l'accesso al mare non ce l'ha più. Sapete cosa ci hanno fatto a Roma? Perché una cosa del genere è un museo, stessa cosa ex birreria Peroni di Miano, noi ci abbiamo fatto un altro centro commerciale perché ovviamente mancavano centri commerciali, ma a Roma ci hanno fatto il macro che è il museo di arte contemporanea, riqualificando una zona intera e facendo arrivare flussi turistici e soldi puliti in una zona periferica. A Miano avevamo bisogno dell'ennesimo centro commerciale o di una riqualificazione turistica e culturale. fra le varie promoste poi presentate da noi in Consiglio Comunale c'è la mozione proprio per la realizzazione di quello che dicevo prima degli itinerari del cuore. Ci hanno approvato la mozione chi sa come, è un progetto a costo zero perché non costerebbe nulla all'amministrazione ovviamente se la sono dimenticata. Stessa cosa la casa del cinema non so se ne avete parlato Palazzo Cavalcanti via Roma un palazzo bellissimo storico ci hanno fatto la casa del cinema per le produzioni cinematografiche per dare uffici alle produzioni che vogliono fare qui i vari casting e che cosa fanno? Noi abbiamo chiesto che fosse istituita o istituito il servizio a domanda individuale perché deve essere comunque in un comune in predistesto noi dobbiamo comunque guadagnare perché altrimenti le casse non le risaneremo mai e invece no loro lo danno gratuitamente a produzioni quali Comorra molto il valore artistico e culturale proprio una rivoluzione dell'immagine della città enorme le danno a loro gratis per farci i promedi cioè li diamo gratis a chi ci guadagna e lo comune di Napoli non ci guadagna noi stiamo combattendo a mani nude da soli contro altri 38 consiglieri comunali perché la maggioranza sarebbe di 21 ma diciamo che l'opposizione vera la facciamo un po' qui lì dentro continueremo a combattere mandateci informazioni noi abbiamo le mail si chiama gruppo.m5s chiocciolacomune.napoli.d segnalateci noi porteremo avanti tutto quello abbiamo bisogno di voi cittadini che ci segnalate perché noi siamo dei portavoce non dobbiamo portare avanti il nostro programma grazie brava Marta brava Marta brava Marta no ma la fine ok allora modelli virtuosi Francesco Spinosa attivista simpatizzante ma soprattutto tecnico del turismo sono amico di Oscar adoro Maria Nussanato che la seguiva sempre nelle sue battaglie nelle sue cose e quindi ritengo molto giusto insomma tutto il lavoro che fa quindi praticamente condivido in pieno tutto quello che fa il Movimento 5S però che cosa succede? il turismo io sono un tecnico del turismo lo faccio da 37 anni questo lavoro il turismo è un'industria purtroppo il nome non è bello dire il turismo è un'industria non è nemmeno bello dire che il turismo e le attività ricreative e culturali sono il petrolio della nostra città perché il petrolio è una cosa che inquina invece la cultura l'arte e la bellezza sono cose investendo nelle quali si crea solamente altra bellezza e altre cose interessanti quindi quando si viene a qualcuno dice petrolio o praticamente industria insomma uso due termini proprio dei suoi eti e non ad altri in realtà noi che cosa abbiamo mi rievo a quello che diceva Marta e quello che diceva Oscar abbiamo prospettiva di il mio intervento su che cosa verterà su questa prospettiva di valorizzazione turistica di l'armi musica teatro tradizione enogastronomia turismo emozionale ed esperienziale perché oggi chi fa il mio lavoro chi fa il turismo a livello mondiale si domanda perché io dovrei andare in quella determinata città allora che cosa ne dica che l'opinione pubblica dice che gli operatori turistici sono ormai hanno la sua fine corsa mi devo purtroppo deludere perché io da quando faccio sto lavoro da 40 anni fa si dice sai il turismo non c'è più invece basta usare bene la tecnologia perché il turismo e la tecnologia vanno proprio di pari passo gli operatori turistici attuali Expedia Booking.com eccetera non sono altro che operatori turistici che invece di tenere l'ufficio su strada sono 30, 40, 50 agenti di viaggio che stanno dietro e mettono a vendere le loro offerte ok i grandi flussi turistici non li muove internet ma li muovono i grandi operatori turistici mondiali che decidono le sorti o meno di una determinata città tutto questo per dirvi che cosa che la famosa industria di cui parlavamo prima ha bisogno però di una grande programmazione e prima lo diceva manca no? questa strada purtroppo non si vede bene però c'è scritto Napoli e la Campania continuano a stupire potenzialmente siamo una destinazione che ha tutto Napoli è una città che ha tutto e ci dicono pure una piccola bugia perché ci dicono che Napoli è una città d'arte è anche una città d'arte ma come tutte le grandi capitali Napoli è una città che è nata sul mare non parlano del mare perché non siamo capaci di pulire il mare e renderlo baleabile come tutte le altre grandi città di mare no? perché le belle città del mondo sono nate o sul mare perché avevano i porti o sui fiumi perché erano dei mezzi navigabili e quindi le più grandi capitali noi le troviamo o sui mari o sui fiumi o sui laghi anche le piccole città hanno proprio l'impastabilità sì, vabbè ecco, cioè purtroppo noi non riusciamo a rendere pulito il mare perché siamo incapaci di rendere pulito il mare una risorsa inestimata allora noi praticamente non diciamo che Napoli è una città di mare perché renderla anche città di mare che cosa succederebbe? che invece di dare i due o tre giorni di permanenza al turista medio che viene a Napoli potremmo fare anche dei soggiorni di 10, 15, 20 giorni a Napoli quindi abbinare mare la mattina dopo mare culturale il pomeriggio quindi arricchire molto realmente la nostra città quindi sappiamo tutto quello che la natura ci poteva dare abbiamo il mare abbiamo l'arte abbiamo il turista abbiamo una città magnifica abbiamo il mare abbiamo l'arte e la cultura il turismo religioso è una città ma quindi la percorso dell'anno ma di un modo unesco tipicità nonostante ciò noi non abbiamo ancora la possibilità di essere annoverati tra le città infatti quando vedete i servizi per televisione fanno vedere Milano Firenze Roma Napoli a volte la mette e a volte no perché siamo ancora fuori da questo la campagna pura di eccellenze produttive che cosa significa? significa che voi lo sapete che la campagna e Napoli abbiamo un distretto dell'alta sartoria la sartoria napoletana soprattutto quella maschile è la più famosa al mondo cioè dall'Inghilterra vengono qua per vestirsi e invece praticamente a Milano facciamo le settimane della moda a Firenze facciamo pitti moda a Napoli da San Nuovo in provincia di Napoli ci sono dei sarti una cosa eccezionale chiton e invece noi da tutto questo non ne traiamo niente andiamo avanti questi qua sono due esempi di tutte le produzioni che si dovrebbero creare in anni e in campagna o nel sud che praticamente sono tutti quanti la lavorazione del corallo e della ceramica Capodiponte che scomparsa la lavorazione del corallo però andiamo non voglio essere catastrofico andiamo avanti e poi vediamo tutto questo come si deve mettere a posto questi qua sono alcuni esempi di città che hanno delle tipicità però delle grandi manifestazioni a livello mondiale dove sono stati creati semplicemente sedendoci intorno a un tavolo a Venezia non è mai nato nessun grande attore o regista a Milano inaugurazione della scala quando fanno questa inaugurazione della scala pare che io stavo guardate la succede inaugurazione della nostra del nostro anno lirico a San Carlo l'esempio però che mi fa piacere fare il lavoro importante è questo qua Giffoni Vallepiana Giffoni Vallepiana era un paese che fino a 25 anni fa quando tu lo menzionavi dici di Giffoni Vallepiana ero stato oggi quando tu dici Giffoni Vallepiana è immediatamente legato al Festival del Cinema dei Ragazzi opera di un privato che è riuscito a lavorare tra tanti problemi eccetera e oggi ha creato un evento unico del soggetto andiamo avanti questa è la destinazione turistica queste sono le caratteristiche che deve avere una destinazione turistica per essere definita tale quindi abbiamo capacità di attrazione disponibilità di strutture e raggiungibilità quindi quando una destinazione a tutte queste cose noi dobbiamo lavorare inizialmente su questo per creare una destinazione turistica tale andiamo avanti e prima sentivo qualcuno dire la leva dal basso il bottom basso cioè in realtà è finito il fatto che dobbiamo aspettare il comune ci dobbiamo aspettare questo no ormai con la tecnologia che c'è oggi ognuno di noi può essere un bravo supporter per la propria città con le sue iniziative molti di noi fanno parte di circoli culturali di cineforum di musica di canzoni eccetera ognuno di noi può collaborare a rendere attraente e fruttile la nostra città andiamo ancora avanti da questo che mi ha detto adesso la leva del bottom ecco qua per mettere a sistema tutto questo però Barcellona New York tutte le grandi città turistiche del mondo che vivono di questo si sono dotati di questo sistema qua destination management organization cioè che cosa significa che c'è bisogno di gestione della metodistica definizione delle immagini e la programmazione pensate che a me a gennaio di ogni anno il comune di Verona il Veneto che è la prima regione d'Italia per quanto riguarda l'incambio turistico mi manda l'anno prossimo ci sarà la mostra del presepe a Verona noi siamo la patria del presepe e praticamente San Gregorio almeno è stato andando più un problema che un'opportunità che imbottigliamo tutta questa agenda a San Gregorio almeno arrivata là non sanno nemmeno dove vedeva andare ho suggerito al comune di tirare degli itinerari per portare la gente prima che San Gregorio farli girare in altre strade per corsi obbligati e poi farli arrivare lì andiamo ancora l'almeno quindi il DNA di voce cinzine fa il modo culturale in modo recupero valorizzazione promozione distribuzione però per fare tutto questo cari signori c'è bisogno di un tavolo rotondo cara Marta di persone tutte sedute possibilmente non deludisti macellaie elettricisti ma tutte persone che capiscono fare turistica sedute programmare perché l'anno prossimo io so che ogni anno a Napoli si fa a maggio dei monumenti però a maggio dei monumenti dell'anno prossimo che si fa lo sapremo il 30 aprile 2020 ma gli operatori che gestiscono i grandi flussi lo devono sapere il 31 maggio quello che succederà il 31 maggio dell'anno successivo a Natale ogni anno ringraziando a Dio io ogni anno devo dire alla fine di quel Natale che cosa succederà l'anno prossimo se voglio intercettare i grandi flussi turistici altrimenti vogliamo sempre agendare ah è bello ho finito non ho più tempo vi ringrazio di dire scusa sono a disposizione nel momento adoro pure te Oscar grazie allora lo sono ve lo presento lui è Marco Ferruzzi attivista e architetto che ha un momento per cercare di riqualificare questa città e di venire il bello anche dove il bello sembra non esserci andiamo di fatti sopra grazie quando ci siamo candidati in sottolineo ci siamo quando ci siamo candidati in sottolineo ci siamo perché ci siamo candidati abbiamo presentato un programma che io poi mi sono andata a rivedere per fare questo intervento dove la parola cultura compare 126 volte e non è solo nel paragrafo dedicato alla cultura ma anche per tutti gli altri parati perché la cultura è trasversale e investe tutti i cambi paradossalmente noi siamo una città con le cose ma gli altri gli ambienti ma non riusciamo a vivere questo grande patrimonio per il bar Maurizio Malaparte diceva che la nostra città è l'unica città del mondo antico che è sopra solo alla nostra città è una Pompei che non è stata sepolta e dove ci giriamo ci giriamo e vediamo forse il bello però spesso non conosciamo se sono noi in apoletà non conosciamo anche il luogo in cui siamo noi ora adesso è il clima di cultura e lì gli elementi di architettura importanti sono però dimenticati e appalti il primo punto del nostro programma è stato il censumento perché il nostro comune spesso rinventa i nostri beni e i nostri patrimoni e anche se in cassetti ha dei progetti di portazione di fondi dedicati poi non si portano neanche a portare spesso proprio perché non si conoscono i nostri beni ma anche prima c'era la Corradini la Corradini per esempio è uno di quei beni che è il patrimonio del comune che è il comune acquistato che è sottoposto a un vincolo dal ministero dei beni culturali e che il comune ha messo nel piano di riflessione ce lo vuole spesso anche se secondo quello che è il codice dei beni culturali come bene sotto posto a vincolo è inalienabile non si può vedere cioè da colpa simone il comune dovrebbe ricavare le rischiezze invece pensare di rischiezze e proprio perché ce ne siamo dimenticati questo fin ha silevato nei giornali e tutti i comune queste persone che sono stati di Corradini questo è un altro mercato istico è diventato un nuovo infinito sciarge spazzazione di un modo che è possibile fare mostre eventi culturali ed in passato è stato fatto ma questo è uno di cui i beni che compri vuole il resto questo è un'errore scontentia questo particolo di Corbio che non mi fa anche questo ha pardonato sui effetti innocenti devastazioni oggi è il caso di gioco di senza te per valorizzare tutto il nostro patrimonio però non basta solo di crescere bisogna anche mettere insieme le persone che hanno competenze conoscenze perché sul nostro programma c'è la possibilità di istruire tutte i cittadini ma anche dei tavoli che finalizzano proprio sui costanti dei brennaboli molte città lo fanno per esempio Milano per vendere la propria immagine spesso ci sono città che non hanno niente ma saper vendere come si sia è importantissimo per esempio nelle città americane ci sono studenti che vanno qui mettendo la fetta con il brand della propria università si è cercato di fare anche qui a Napoli con l'università di così quando non è andato proprio spegnissimo forse funziona solo col napolicato ma ci sono dei luoghi nella nostra città che potrebbero essere brandizzati cioè avere un brand in marcio essere venditi un altro elemento su cui puntava il nostro programma era quello dell'integrazione religiosa oggi si ha paura del diverso ma in realtà la nostra città è stata sempre una città accogliente senza aver bisogno di leggi o di imposizioni noi qui abbiamo vissuto a contatto con tante culture provenienti dal mondo anzi noi siamo proprio il frutto di questa interazione etnica e culturale e per cui il nostro programma pensavamo di poter dare spazio anche alle altre religiose alle altre religioni dando la possibilità di costruire moschee sinagobe senza necessariamente tenere chiedile da noi e poi c'è il paesaggio il paesaggio che è tutto intorno a noi lo dicevamo prima il mare il paesaggio è qualcosa che è tutelato è un bene culturale diciamo non materiale ma che esiste oggi il turista per esempio quando sbarca la stazione marittima si trova di fronte un bellissimo paesaggio quello della collina con il cassezzanteno ma prima di arrivare a cassezzanteno si vede la visuale ed è culpata da una serie di cartelloni pubblicitari che sono sui principali palazzi allora la legge esiste per tutelare le particolari visuali storiche della città ma non viene tutelata chi ha concesso per esempio quelle autorizzazioni comuni per mettere e poi Marta se vede ancora avanti sì per ovviamente per valorizzare tutto quello che abbiamo spesso ci sono già gli strumenti ma non vengono attuati perché manca la capacità forse proprio anche la competenza e quindi pensavamo a diciamo incentivare quello che è uno strumento che esiste ma che non viene utilizzato o come diceva Marta prima di spruccare quello che è il pagamento diciamo Marta di comiazzo come dice quando si entra in città si paga una tassa di due giorno che in realtà il comune utilizza per fare tutt'altro piuttosto che valorizzare Marta vai avanti oppure di valorizzare delle aree abbandonate per fare degli occhi urbani spesso in periferia in quelle che chiamano continuano a chiamare periferia non tanti siamo città metropolitane quindi siamo tutta Napoli ci sono delle aree completamente abbandonate che potrebbero essere recuperate così come anche le biblioteche oggi le nostre biblioteche sono delle scatole vuote spesso mancano addirittura i libri vengono utilizzati semplicemente come delle stanze dove gli studenti vanno a ripetere la studia si portano i libri da casa ma potrebbero essere dei luoghi diciamo tecnologicamente avanzati in cui le persone potrebbero andare e dedicare del tempo agli altri anche attraverso come diceva Marta prima la banca del temico e poi la possibilità di incentivare gli scambi interculturali visto che noi siamo una città dell'accoglienza vediamo un attimo se tutte queste cose fossero state messe a frutto cioè se noi ci fossimo fin dopo di questa città e avessimo in qualche modo provato ad attuare questo nostro programma cosa sarebbe potuto succedere un esempio per esempio è quello che diceva Marta la ex forradini magari molti di voi non la conoscono neppure è un sito industriale che si trova a Napoli Est a San Giovanni e questa è una parte della spiaggia residua perché molta è stata occupata dalla darsena di Levante dai petroli dalle navi da cruce magari se oggi noi avessimo stato in sindica avessimo messo a frutto tutte queste cose oggi questa fabbrica sarebbe potuta diventare un luogo incontro un luogo culturale questa è la devastazione in cui è oggi ma se noi avessimo avuto la possibilità di governare questa città magari sarebbe stato sicuramente difficilissimo ma avremmo potuto avere altro Marta sedia avanti questi per esempio sono progetti che risalgono al 2002 si vede male ma questo è uno dei capannoni ristrutturati trasformato in un'immensa biblioteca perché a San Giovanni c'è oggi è stata realizzata la facoltà di ingegneria ma in realtà il progetto originale prevedeva l'utilizzo di parte dei capannoni dell'ex Corradini per fare luoghi di incontro luoghi culturali luoghi dove si può fare spettacolo si può fare musica animazione tutto poi magnificamente davanti al mare davanti al volfo di Napoli se vai ancora avanti queste sono altre immagini queste sono tutte le immagini progetti tratti fatte dal comune se andate sul sito del comune di Napoli c'è il PUA per la Corradini l'ex Corradini ma il comune si è dimenticato completamente tanto è vero che come ho detto prima lo vuole vendere questo impianto se vai un attimo all'intervento 2 il turismo il turismo altra se i giri velocemente mi ricordo cosa ci sono molti luoghi che noi non conosciamo questo per esempio è un contesto archeologico che si trova a Napoli centro via Duoma San Sarla e Magnetti che probabilmente nessun napoletano pochissimi napoletani perché è aperto sporadicamente non conosciamo ecco perché il concetto che dicevano prima di mettere a strutto di fare un sentimento e una catalogazione di renderla diciamo interattiva in maniera tale che quando il tecnico comunale smemorato pensa di scrivere un provvedimento che prevede la vendita di un bene gli si accende gli si accende non lo puoi vendere non lo puoi vendere questo per esempio è un altro bene ritorno a Napoli Est è il fortino di Vigliena un luogo importantissimo per la storia di Napoli legato alla resistenza per la difesa della Repubblica partenopea del minestino che oggi deve essere completamente uno stato di abbandono eccolo qua questo è uno scorso ma prima praticamente questo fortino arrivava sul mare oggi invece è stata fatta una colmata avanti e si pensa di fare un'ulteriore colmata che è lunga il doppio di quella che è stata realizzata a Bagnoli quindi mentre da un lato noi stiamo discutendo sul Bagnoli se restituire o non togliere la colmata è un discorso complicato e quindi c'è in certo senso la contabevolezza che è stato un errore farla oggi si vengono a Napoli Est discutendo come diceva Marta prima dei beni sottoposti e quindi le proposte che diceva Marta prima utilizzare la pasta di soggiorno per mettere a frutto tutto quello che noi possiamo fare per il turismo per il territorio senza utilizzare la cultura perché la mancata conoscenza è il primo grave handicap che abbiamo per valorizzarsi noi stessi non conosciamo le cose che vale la pena tutelare come possiamo mai pretendere che lo faccia qualcuno e quindi anche all'interno delle scuole partire proprio dai bambini l'educazione artistica l'educazione civica per fare creare degli info point nella città e anche gli angeli del turisto che sono persone che mettono a disposizione il proprio tempo le proprie competenze il proprio amore per la città per accogliere i turisti utilizzando anche lo strumento della banca del tempo cioè io metto a disposizione ovviamente sono una persona qualificata ma non la possono fare perché metto a disposizione il mio tempo per accogliere e guidare i turisti e in cambio ricevo tramite il tempo che ho dedicato un tempo pari per un altro servizio che lo mette a disposizione un'altra persona quindi un intervento a posto zero che potrebbe aiutare in questo modo a veicolare quello che è il nostro grande bene che è la cultura e il patrimonio artistico che è un'altra persona che è un'altra persona per esempio che sta sempre a San Giovanni per vedere la cultura prima ecco questo è il varco del muro finanziere che la dogane che ce ne sono varie porte in città questa è quella che è la voglia se magari noi avessimo avuto la forza di poter intervenire oggi potrebbe essere un punto un presidio importante pensiamo a Parigi le dogane sono dei luoghi fantastici che si fanno delle cose fantastiche noi le abbiamo devastate questo è il mare che a San Giovanni è così attualmente potrebbe diventare una spiaggia libera accessibile a tutti però purtroppo c'è il problema dell'inquinamento e il sindaco per tanti anni si è dimenticato di allontanare la darsena dei petroli nonostante lo prevede il nostro piano regolatore ora che sta finendo il suo mandato se l'è ricordata ma in realtà il concreto non ha fatto nulla finito questi anni grazie Marco e adesso c'è Raffaele Bruno nostro portavoce alla Camera dei Deputati Raffaele è un artista si occupa di teatro Bruno si occupa di teatro e sta facendo e sta facendo un grandissimo lavoro nelle carceri di cui adesso vi parlerò a lui il titolo del suo intervento è gli ultimi saranno note parole luminose dietro le sbarre grazie Raffaele allora salve sono Raffaele Bruno allora io sto facendo questo progetto sono il coordinatore perché in realtà siamo in tanti che si chiama gli ultimi saranno sono una serie di tappe nelle carceri campane e nord arriveremo entro fine anno a più di 20 quelle della campania le abbiamo visitate quasi tutte quante abbiamo fatto anche un po' di appuntamenti a Roma e a gennaio iniziamo con il nord Torino e così via il focus dell'iniziativa è quello di incontrare i laboratori artistici creativi attivi nelle varie carceri quindi quelli che fanno teatro arte e creatività in genere e valorizzarli dal punto di vista istituzionale infatti ho depositato una mozione ad aprile su questo che impegna il governo a dare risorse a individuarle prima di tutto perché in realtà la situazione non è nemmeno notissima quindi noi con questo nostro andare ad incontrare stiamo facendo anche un po' i pionieri perché stiamo scoprendo un tesoro prezioso fatto per lo più da volontari quindi questa attività che per me è fondamentale è cardine per l'evoluzione dell'individuo e quindi per l'idea della riabilitazione del detenuto a tutt'oggi è affidata per la maggior parte a volontari quindi istituzionalmente speriamo ci stiamo attivando per cambiare questa cosa e farla evolvere in meglio poi spiego pure quello di che cosa sono allora dicevo quindi sono il focus è l'arte e la creatività perché io credo che la creatività e Oscar può confermare è un verbo importante creare perché è il verbo che è il verbo del divino il verbo del divino è creare quindi quando l'uomo pratica la creatività ma anche semplicemente quando pratica un artigianato quando fa il suo mestiere è un modo per elevarsi per ricordare a se stesso che non è solo carne non è limitato può sognare può ambire a cose meravigliose può brillare e brilla lui quando pratica la creatività ma brilla si riscalda e si emoziona anche chi lo contempla quindi non solo quando andiamo a teatro a vedere un artista con la maiuscola ma anche se vediamo un artigiano mentre sta costruendo una cosa è una cosa che ti fa sentire più di quello che sei allora trasmettere questo alle persone che stanno vivendo una parentesi della loro vita in carcere è una cosa importante quindi questi incontri che noi andiamo a fare c'è un chito che si è scritto su quei segnalibri che poi qua ce ne abbiamo altri ci sono tutte le tappe gli appuntamenti le descrizioni non sono delle visite canoniche ma sono delle veri e proprie perivide io li chiamo riti di improvvisazione artistica cioè che accade praticamente noi contattiamo quelli che tengono laboratori teatrali nelle carceri e loro preparano i loro allievi a fare delle cose che noi ci diciamo insomma delle performance tra virgolette dei testi teatrali musicali perché poi nello scegliere qualcosa da fare c'è sempre qualcosa di te quindi mettiamo in condizioni loro di raccontarsi in maniera serena in maniera anche che quella roba diventa qualcosa di bello appunto di luminoso come dicevamo prima e loro lo fanno insieme agli artisti che vengono con noi noi siamo un collettivo di artisti delirio creativo che facevamo già questo abbiamo sempre fatto questo c'è anche con noi Maurizio Capone che si esibirà stasera dalla rete e insieme raccontiamo storie quindi mettiamo queste storie in arte e come se stessimo attorno al fuoco torno a un falò a un camino d'arte e insieme raccontiamo storie fin quando a un certo punto sembriamo che raccontiamo tutti quanti la stessa cosa con voci diverse ora diciamo è difficile raccontarvelo e trasmettere le emozioni che si provano quindi io provo soltanto a raccontarvi una delle tante storie che raccontiamo così chiudo il mio intervento una delle storie che raccontiamo è la storia di una nostra amica che si chiama Lucia che aveva il marito che faceva la guardia giurata accadde ci fu una rapina che lo dite coinvolto è una rapina fatta da dei ragazzi molto giovani la maggior parte erano minorenni e insomma la rapina andò male e il marito fu ucciso fu sparato allora possiamo immaginare che può succedere nella vita di tutti i giorni quando tu stai a casa fai due gesti quotidiani anche una telefonata è un gesto quotidiano alzi quel telefono e ti crolla il mondo addosso tu ti trovi a fronteggiare qualcosa che non ti aspettavi oltre al dolore immenso anche delle sensazioni che non conoscevi la rabbia ma anche l'odio e questa roba ti può travolgere ulteriormente oltre al dolore però che successe? che può la vita io credo che un'opportunità la offre sempre la offre a tutti lei stava a una manifestazione pubblica e gli dissero guarda che sul palco sta parlando uno dei ragazzi che ha partecipato alla rapina in cui è morto tuo marito ti vuole incontrare vorrebbe parlarti allora lei aveva un bivio a questo punto lei poteva o alimentare quell'odio quella distruzione che teneva dentro oppure andare a vedere qualcosa di nuovo che non sapeva manco che c'era dentro di sé un fiore un'emozione mai provata che la rendeva più di quello che era e lei non pensò andò semplicemente guardò questo ragazzo si abbracciarono pianzero e lei conobbe una cosa importantissima che andiamo a raccontare là dentro il perdono la possibilità di perdonare una cosa così oggi lei si occupa della famiglia di questo ragazzo perché all'epoca già aveva un figlio e si occupa ed è parte fondamentale della riabilitazione di questo ragazzo e lei per quella famiglia non è Lucia ma è zia Lucia ha trasformato allora la nostra speranza è che questo processo di trasformazione può riguardare tutti quanti e lo raccontiamo raccontiamo i processi più estremi quando è più difficile che accada perché quando vede una cosa difficile dice ok quella è la direzione e quando abbiamo raccontato questa secondigliano venne proprio lei quindi possiamo immaginare c'era il pubblico fatto di detenuti di alta sicurezza che piangevano i miei musicisti che arrancavano dovevano attaccare la musica ma non ce la facevano e Lucia che andava ad abbracciare tutti i detenuti che gli dicevano è un onore conoscerla qualcuno che regalato un santino allora che è successo là uniti da una sola cosa da una lacrima in questo caso è successo il miracolo che un gruppo di persone è diventato comunità non ci stavano ruoli che conflicevano non ci stavano ruoli in opposizione non c'era la guardia contro il detenuto la direttrice che opprime no in quel preciso momento sembrava di essere tutti quanti insieme veramente allora l'ambizione è questa di tutto quello che stiamo dicendo che noi scopriamo questo valore il valore di essere comunità una comunità che quando vede una persona che sta in difficoltà come fa una famiglia quindi se una persona che momentaneamente sta in galera oppure che sta ammalato che viene da un paese lontano più sfortunato di noi si alza tutta quanta in piedi mette da parte rivalità competizioni ruoli e dice ok noi questo dobbiamo fare dobbiamo soccorrere chi ha bisogno gli ultimi che diciamo noi diciamo gli ultimi saranno perché saranno quello che vogliono anche loro quelli che vengono messi nella margine hanno il diritto di essere chi vogliono e chi sognano di essere quindi se volete io vi lascio questi segnalibri perché in realtà c'è quanti ammattici se no ce ne abbiamo parecchi ve li lascio qua l'ultima cosa è finita quando si va a trovare i compagni si porta a bottiglie di vino a mangiare a bombinire se uno va a matrimonio noi portiamo i libri quindi su questo segnalibro sta scritto come donare un libro e caricarlo di energia quindi tu scegli un libro che pensi che può andare in mano a una persona reclusa ci metti una dedica che lui leggerà e noi la andiamo a portare lì c'è il sito c'è scritto tutto i segnalibri li lascio qua così dopo li potete anche grazie a tutti buon proseguimento grazie a tutti gli intervenuti abbiamo disegnato un po' il nostro sogno per la cultura e il turismo di questa città vi rinnovo dimmi Oscar un attimo solo vi invitiamo di nuovo gruppo.m5s chiocciolacomune.napoli.it mandateci le vostre idee proposte denunce cercheremo di portarle avanti Oscar si proprio un minuto giusto un minuto come è importante la presenza e il pensiero dei tecnici di quelli che lavorano nel campo Francesco Spinosa ha detto una cosa di una semplicità infinita ma che però è la chiave di tutto cioè lui ha detto bisogna riunirsi intorno a un tavolo le persone che fanno questo per lavoro io per lavoro faccio l'attore e il 90% vivo in tournée quindi dormo negli alberghi e mangio nei ristoranti qualche anno fa dovevo recitare a Rimini e nel mese di marzo dal mese di gennaio cominciai a telefonare per prenotare l'albergo a marzo tu dici a Rimini a marzo non ero capace di trovare una camera dico ma come è possibile alla fine dovevamo chiamare il comune che ci ospitava il comune di Rimini e il comune tramite insomma l'assessorato ci trovò delle camere per dormire quando arrivamo lì io chiesi scusate ma come è possibile che a marzo non si trova una camera d'albergo sapere che cosa c'era a Rimini a marzo una cosa che diciamo è la follia c'era il campionato internazionale di biglie di pallina ma non scherzo c'erano atleti di biglie da tutto il mondo cinesi australiani americani europei che avevano occupato tutti gli alberghi di Rimini non c'era una camera d'albergo libera a Rimini nel mese di marzo e questo è quello che dovremmo fare noi grazie allora adesso passiamo all'argomento successivo rifiuti ambienti c'è il nostro rappresentante consigliere portavoce nella nona municipalità Mario Stoccuto che introdurrà l'argomento grazie Mario allora buongiorno a tutti allora questa questa oretta con cui di cui parleremo dei rifiuti dell'ambiente abbiamo pensato di strutturarla in un attimino in una maniera un po' diversa nel senso che non vogliamo parlare delle problematiche della nostra città perché quelle le conosciamo la discarica pianura i problemi nella zona di Napoli test l'immondizia per tutta la città quelli li conosciamo e parlarne oggi tra di noi non serve a raggiungere nessun fine nessuno scopo la nostra idea invece del dibattito che vogliamo innescare oggi è quella di guardare un attimino più lontano di comprendere quali sono i motivi per cui noi ci troviamo qui che non è solo una mala gestio comunale o una mala gestio della società napoletana che sicuramente è parte integrante della problematica ma noi abbiamo abbiamo scoperto facendo attività sul territorio occupandoci della discarica di pianura e delle altre problematiche ci siamo accorti che queste problematiche sono per valgono per tutta l'Italia non è un problema solo nostro è qualcosa che coinvolge l'intero territorio nazionale da questo punto di vista allora noi vogliamo affrontare la questione quindi benvenga l'attivismo sul territorio quello che va in strada a protestare ogni giorno contro quello che la sia non fa quello che il sindaco promette e non mantiene però noi vogliamo allargare l'orizzonte perché crediamo che solo risolvendo le cose a livello nazionale le possiamo riportare poi dopo sul territorio allora oggi avremo l'orio Fulegreo poi ci doveva essere Carmela Auriemma da Cepra che da anni lotta contro l'inceneritore non il termovalorizzatore l'inceneritore però ha avuto dei problemi e non è ancora riuscita ad arrivare avremo una performance teatrale con il nostro amico Oscarino Di Maio che ha realizzato un piccolo corto di 5 minuti sulla storia di un gabbiano che si trova nella terra dei fuochi poi avremo Salvatore Micillo con la sua esperienza da sottosegretario all'ambiente che ci verrà a raccontare la sua esperienza così come ci racconterà la sua esperienza Vilma Moronese che è presidente della commissione sulla terra dei fuochi quindi come vedete è un tema proprio inerente e ci racconterà la sua esperienza in ultimo avremo la consigliera regionale Marie Muscarat che ci illustrerà un altro aspetto dell'inquinamento dell'ambiente e le varie problematiche che riguardano quell'inquinamento che non si vede le micropolvere quello che non si vede quello che uno non ci pensa perché non si vede e non si pensa e questo è un'altra bella chicca di queste cose e parleremo ovviamente anche di quello che nel 2013 fu il piano rifiuti proposto dal Movimento 5 Stelle al Comune di Napoli che oggi lo utilizza Roma e noi non ancora poi alla fine di questi interventi avremo la possibilità di dialogare un attimo tutti insieme per cui passo la parola a Ferdinando che è il primo Buongiorno Buongiorno mi chiamo Ferdinando Palmer sono un attivista della terra di rifiuti tossici nocivi e nucleari per colpa di uno Stato compiacente e criminale dopo tantissimi anni di battaglia noi siamo arrivati a questa conclusione credere ancora oggi che il contadino compiacente abbia avvelenato la Campania penso che ad oggi ed è accertato non ha prodotto nessun risultato quindi noi ci dovremmo un pochettino concentrare su veramente che cosa sia successo in Campania e in tutta l'Italia intera perché tutta l'Italia ha problemi di rifiuti tossici e nocivi non solo la Campania quindi è un problema nazionale per quanto riguarda la mia esperienza potrei citarvi tutte le discariche della Campania le ho fatte tutte manifestando davanti alle discariche potrei citare pure Montechiari Brescia Piterli La Spezia Bussi Pescara dico questi nomi di questa città per far comprendere che è un problema nazionale abbiamo bisogno di una buona legge che dia risposta sia di giustizia che di prevenzione la nuova legge ai coreati non ha dato queste risposte la nuova legge ai coreati si è concentrata principalmente su rifiuti speciali tralasciando sia ai rifiuti tossici e nocivi specialmente quelli là prodotti di omano quindi noi staremo sempre non dando queste risposte alla richiesta di nuove bonifiche cioè sono 20 anni che noi rincorriamo inquinamento chiediamo la bonifica e si riparte da capo quindi noi pensiamo che sia no è la musica pensiamo che sia un problema nazionale quindi per quanto riguarda la nuova legge ai coreati l'ha pure dimostrata l'inchiesta fanpage per chi la conosce per l'inchiesta il figlio di De Luca quindi la classe politica e la camorra si sono messi d'accordo seppure era un'inchiesta di dire l'importante che ci stanno i soldi potremmo già appartinare o trovare non temendo la nuova legge ai coreati per quanto riguarda le bonifiche sono tantissimi anni che chiediamo sempre bonifiche bonifiche che poi non hanno prodotto nessun risultato se non arricchire chi ha inquinato quindi per quanto riguarda le bonifiche noi l'inizio di una buona bonifica pensiamo è sempre accompagnato da una buona legge pensiamo che sia quella di dirci l'inizio di una buona bonifica è quella di dirci i rifiuti tossici nocivi prodotti domani come e dove vengono smaltiti quello per noi è l'inizio di una buona bonifica altrimenti parliamo sempre di bonifiche per finanziare le grandi lobby noi dobbiamo prevenire noi non dobbiamo chiedere più bonifiche noi non dobbiamo proprio creare più i posti per inquinare per quanto riguarda quindi è tutto collegato per quanto riguarda a leggi cioè manca proprio la legislazione quella che serve principalmente per prevenire queste problematiche che riguardano la Campania e tutta l'Italia che altro potrei dirvi per quanto riguarda la giustizia che non è stata data no? e parlo di malati oncologici di chi ha perduto i figli in Campania e in tutta Italia nella nuova legge ne abbiamo chiesto perché facciamo un tavolo tecnico a pianura che chi ha soffruito della prescrizione e della decorrenza perché poi il problema è questo che chi ha inquinato è tutelato ed era tutelato ed è ancora tutelato dalla prescrizione e dalla decorrenza quindi in effetti noi volevamo che fosse inserita nella nuova legge questa piccola norma che chi ha soffruito della prescrizione per reati ambientali non abbia più né vita politica né imprenditoriale perché noi ci troviamo che se si incriva che hanno prodotto di fiume e ci hanno inquinato ora sono pure preparato per fiebolire e quindi se noi non abbiamo una legge che controlli e faccia applicare veramente la bonifica oppure lo smaltimento noi stiamo andando a punto e da capo non mi risolto niente tanto è vero che gli invito è una piccola provocazione che faccio cioè in una terra dove è stata tutta l'Italia è stata evipinata ci hanno imposto e noi tutti lo facciamo di fare la differenziata di che bituglie di plastica cioè noi produciamo materi fiumi tossici per fare la differenziata beh siamo proprio all'imperosimile di tutto non si capisce niente e vorremmo soltanto ripeto con una buona legge per ricontrollare tutto ne approfitto per quanto riguarda la senatrice questa pure è una nostra battaglia che facciamo da tanti anni vari scandali l'hanno già dimostrato vi invito a un controllo il vero business oggi in Campania non sono mica tanti bonifiche perché non ci stanno neanche i soldi finanziati però c'è un business aspetto l'attenzione della senatrice un controllo per quanto riguarda quello che è oggi il vero business in Campania cioè le spese delle game le game le game le game ripeto questo è già il business in Campania oggi non è tante bonifiche perché forse non ci stanno neanche i soldi per finanziare più e quindi automaticamente chi dà la nuova classe politica alla nostra nuova classe politica un controllo maggiore per quanto riguarda le spese delle chemie è diventato il business nazionale e già vari scandali lo dimostrano sia per la regione Campania per quanto riguarda i vari ospedali quindi un controllo significherebbe dare l'opportunità risparmiando risparmiando su queste approfondimento su questi controlli di dare l'opportunità a tantissime famiglie afflette da oggi da malattie oncologiche in famiglia che non hanno neppure i 10 euro per mettere a benzina e per regarsi al pascale per curare o per visite ai propri familiari quindi questo è un controllo che noi chiediamo per quanto riguarda la nostra nuova classe politica grazie avevo negli interventi programmati avevo dimenticato quello di Dario e adesso semplicissima vedete questo bicchiere voi mi scordate lo dice questo bicchiere è in sostituzione dei bicchieri di plastica quindi a picnic convegni pure a feste in famiglia invece usa migliaia di bicchieri di plastica dotate una piccola tazza di acciaio ci potete fare tutte cose un caffè fino alla grappa del topopasta allora sì infatti provo provo ma che non si sente parlo a voi allora voglio ripartire proprio da quello che ha detto il signore aspetta viate Dario sono Dario Catano grazie ciao allora ciao a tutti volevo ripartire proprio da devi mettere la mano su non lo tenete troppo di testa così ecco se stanno qua sopra comunque ti sentono alla grande comunque funziona tutto si vedevo emozionati perciò non prova prova ok perfetto allora io volevo ripartire proprio da ciò che ha detto il signore con il suo bicchierino perché il sogno che avevamo e dobbiamo continuare ad avere è quello di cambiare innanzitutto noi stessi singolarmente per questo ci siamo uniti all'epoca in un meet up perché cosa possiamo fare noi se la politica all'epoca non ci ascoltava nonostante le nostre proposte venissero portate nei luoghi decisionali quindi io devo parlare di buone pratiche dal basso per l'ambiente una che sto portando avanti che nasce da un'esperienza che ho vissuto in Australia ho vissuto tre anni in Australia sono appassionato di due sport che qua a Napoli sono un poco non comuni il surf e la bicicletta quindi in Australia ho incontrato queste persone che cercavano di colpire il comportamento individuale di tutti gli altri ovvero le spiagge i parchi non sarebbero sporchi se ognuno di noi ogni volta che trova un rifiuto di plastica a terra lo raccogliesse quindi loro stanno cercando di invertire il gesto invece di buttare prendere e così ho portato qua in Italia questa campagna di sensibilizzazione che si chiama Prendi 3 dove tutti noi se raccogliamo tre pezzi di plastica quotidianamente come gesto di gratitudine verso l'oceano che è versa in una condizione allarmante perché ogni anno vengono gettati 8 milioni di tonnellate in mare e proprio oggi qualche giorno fa è uscita un articolo di giornale su Sole 24 Ore dove Napoli il Golfo di Napoli è il secondo golfo più inquinato Dario ti posso dire una cosa che vuole pratica allora quel video che tu hai postato quando vai a correre raccogli tutta la plastica le cose il giorno che abbiamo fatto la giornata per la mitte a scuola con i bambini ho detto ma mio dobbiamo uscire con un'idea pratica cioè che cosa vogliamo fare e io ho parlato di te e loro hanno proposto che quando vanno a fare la passeggiata la domenica con i genitori si portano la busta e la spazzatura e la popolo con i genitori tutta la plastica esatto allora quindi vi stavo dicendo dobbiamo agire come un esercito della bellezza cioè ogni atto di gratitudine nei confronti dell'oceano immaginate se ognuno di noi raccoglie tre pezzi di plastica e stiamo utilizzando i social media che sono uno strumento in maniera utile all'ambiente perché uno strumento è uno strumento il coltello ci può tagliare la frutta come può coltellare una persona quindi i social media utilizzandoli in un certo modo riescono a far diventare virale un comportamento che è utile all'ambiente che è la nostra grande casa quindi utilizziamo i social media in questo modo per questo voglio divulgare un po' questo messaggio perché dobbiamo farlo tutti perché non dobbiamo proprio dimenticarci che siamo nati così siamo nati dai meet up siamo nati nel agire più che poi scrivere leggi scrivere leggi è una conseguenza di un contenitore che deve essere in movimento che è quello di ascoltare proprio i cittadini che agiscono in questo modo allora andate a visitare la pagina si chiama prendi trelli c'è scritto tutto e c'è anche una campagna di sensibilizzazione che abbiamo lanciato a inizio agosto e anche il ministro Sergio Costa l'ha divulgata con un video che si chiama prendi l'acqua prendi l'acqua prendi l'acqua è questo con il bellissimo logo che ha realizzato Pietro De Filippis un attivista del movimento c'è una mano con una borraccia che vuol dire stiamo cercando di creare una rete tra tutti gli esercenti non per forza solo ristorazione ma anche tutti gli esercenti che hanno la disponibilità di un rubinetto di acqua potabile mettono questo logo in vetrina scattano una foto noi gli stiamo dando visibilità ogni tre locali che aderiscono li condividiamo sulla pagina e un altro ragazzo sta realizzando un sito per cercare di creare una mappa speriamo in tutta Italia di tutti gli individui che hanno un esercizio commerciale fronte strada e vogliono prendere una posizione in merito ai due siti dell'acqua pubblica è quello che abbiamo votato noi con un referendum quindi in attesa della legge possiamo già agire allora vi invito sulla pagina facebook c'è la locandina la possiamo stampare possiamo andare da negozi amici la mettono in vetrina gli chiediamo la fotografia e prendi un progetto libero non c'è un'associazione dietro rimarrà libero perché ognuno deve sentirsi parte di questa cosa ed è un messaggio secondo me oggi di cui l'oceano ha bisogno perché noi se iniziamo a non comprare bottigliette ad utilizzare una borraccia averla sempre con noi cercando di raccogliere la plastica quando la vediamo insomma come esercito noi cominciamo ad agire già in un certo modo e stiamo facendo politica perché lo stiamo facendo nel concreto quindi cosa sono le buone pratiche dal basso per l'ambiente sono il ricordarsi che viviamo tutti quanti come una grande famiglia in una grande casa che è il nostro pianeta e vi dico l'ultima cosa il 16 novembre per chi vuole al cinema Metropolitan proietterò un documentario che ho realizzato sull'isola di Pasqua immaginate il popolo Rapanui che vive lì in un'isola remota nell'oceano Pacifico si vede arrivare questa quantità di plastica dal mare come un'invasione aliena ed è colpa di chi vive nel continente perché questi sono popoli che non vivevano producendo queste cose qua e sono nostri fratelli quindi ogni nostra azione che compiamo qui a Napoli a Torino a Milano e in altre nazioni d'Europa si riflette lontano e quindi se venite mi fa piacere il 16 novembre al Metropolitan il documentario si chiama Moai più plastica Moai sono le statue dell'isola di Pasqua e la sera ci sarà sulla pagina corti sonanti tutte le indicazioni quindi io spero che da queste due giornate usciamo con il ricordo di più bellezza perché guardate quanti siamo se ognuno di noi agisce in un certo modo il mondo lo cambiamo davvero Allora adesso passiamo qualche minuto un po' più così con la presenza del nostro amico Scarino Di Maio Buongiorno sono Gaetano Gaetano Gabbiano Napoletano mamma mia che fama che te e che fama perché sono capitato in questo posto che non c'entra niente con me io sono un Gabbiano io dovrei stare vicino al mare sopra uno scoglio sopra una barca perché io mangio i pesciolini e invece no so capitato in questo bosco non ci sta un pesciolino perché in te bosco sono i pesciolini dice ma tu allora perché non te ne vai di nuovo al mare ma è bello e secondo te se io sapessi tornare al mare mi stessi qua guardare a voi che mi parli della uccella Roma e mi parli e dice ma come ti sei insallanuto com'è che non ci riesci no non mi sono insallanuto è per colpa di questo smog questo inquinamento questo fumo queste puzze che mi hanno portato fuori cielo si dice fuori cielo è inutile che guarda perché si dice fuori strada se uno cammina la strada ma se uno vuole per il cielo si dice fuori cielo ma tu è questo sempre per colpa degli esseri umani gli uomini ma tu capite che ma lo sapete che ci stanno addirittura certi uomini certi esseri umani che si divertono ad ammazzare gli uccelli niente di meno loro vanno per tinte bosco invece di godersi la natura vanno con questo fucile e ammazzano gli uccelli ma dico io ma che c'è stato divertente ad ammazzare dei poveri uccellini io vorrei dire lei faccia di fesso no a te no faccia da fesso in generale io vorrei dire sentono poco faccia da fesso io ti vorrei mandare a caccia a fare pu pu a fare pu pu con la pausa capito no perché a lui se non gli metto la pausa capisce una cosa ma nate capito insomma a fare pu pu ti vorrei mandare ma non qua da noi ti vorremmo andare in Africa sì dove ci stanno leone tigre leopard però senza fucile eh allora si che facesse pupu chilato pupu cretino dei figli che c'è stato divertente ad ammazzare dei poveri uccellini insomma sempre gli esseri umani che ci hanno inguaiato a noi poveri animali ci hanno rovinato io non riesco più a tornare al mare è successo una mattina che mi sono svegliato e come al solito tenevo fame e allora ho cercato un pesciolino per fare colazione volati qua volati là oh pesciolini neanche l'ombra a un certo punto mentre volavo sul mio mare vedo il mare non c'era più ma ci stavano solo montagne sì campagne però si sentiva questo odore di pesce e io volavo volavo seguendo questo odore di pesce ma da dove verrà ma da dove non verrà e volavo 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 a un certo punto e caccio visto fuoco fumo ma non veri fuoco di tutti i colori fumo di tutti i colori ma puzza mamma mi stavo murendo già là affocato sì poi incontrai a Gigino il cardellino dissi scusi Gigino ma che sta succedendo scappa disse lui non ne hai capito qua che cos'è no che re questa non è la terra normale questa è una terra di fuochi e infatti si avevano tutto fuoco da per tutto con questo fumo che mi fa però io sentivo sempre questo odore di pesce questo ma da dove verrà e poi finalmente l'ho scoperto da dove veniva quell'odore odore quella puzza ecco quella puzza quel fieto va bene veniva da una discarica abusiva perché perché la vicina ci stavano dei delinquenti che tenevano una fabbrica di scatole di tonno questi delinquenti che facevano toglievano la testa ai tonni e le buttavano dietro alla fabbrica per cui dietro alla fabbrica si era formata questa montagnola di cape di pesce che faceva arrivare questo odore fino al mare e mi aveva portato fuori cielo io voglio tornare al mio mare io non sento niente qua con questa pena un pesciolino che vi costa sono un pesciolino e mi se leva la fama grazie stavoti bene va bene un momento un attimo grazie Oscar per la grande performance stavo ancora ridendo perché è stato comunque un momento divertente in una discussione un po' più così allora riprendiamo adesso invece con la senatrice moronese ok allora buongiorno a tutti voi mi invitano al nostro però ditemelo perché non deve dare spazio al comunale perché ho sentito io quando dico io quando ho preso la disposizione e lo possiamo parlare anche domani allora si sente? si sente? ora? no però il mio vociole si sente ora forse si è avviato allora io sono riuscita a sentire l'intervento soprattutto di di Fernando che ha messo insieme il tema delle bonifiche della terra dei fuochi tanti argomenti importanti quindi vorrei dare qualche notizia su ognuno di di queste perché posso comprendere la preoccupazione che si leggeva nelle parole di Fernando perché io non è che abito a Milano io sono della terra dei fuochi mangio e bevo quello che bevete voi e respiro la stessa aria inquinata che respirate voi prima premessa io con i miei collaboratori passiamo al baglio ogni qualsiasi azienda nuova che vuole costruire un impianto andiamo a verificare o che ci viene segnalata e andiamo a verificare che cosa ci sta dietro l'intenzione di fare quell'impianto chi sono i soggetti che ci sono dietro e qualora è necessario abbiamo fatto esposti qualora è necessario dare un dossier al Ministero dell'Ambiente l'abbiamo fatto questo per dire che attenzioniamo tutto quello che avviene sul territorio seguo il patto d'azione firmato a Caserta il 19 novembre del 2018 e dopo vi spiegherò perché è importante e seguo il tema delle bonifiche partiamo da quest'ultimo le bonifiche si possono fare ok? si possono realizzare con legalità in tempi congrui e brevi e lo ha dimostrato ad esempio il generale va da là lo conoscete chi è? non lo conoscete ma è un commissario straordinario è un commissario straordinario che è stato nominato in seguito a una urte che abbiamo avuto dall'Europa a dicembre 2014 l'Europa ci ha sanzionato per 200 discariche abusive per le quali non avevano fatto la punifica noi siamo stati costretti a pagare 42 milioni 40 milioni forfettari a gennaio 2015 e 42 milioni ogni 6 mesi fino a quando non avremmo dimostrato la venuta bonifica alcuni enti competenti per il territorio di farsi di questa bonifica qualcuno l'ha fatto la stragrande maggioranza no e quindi è stato nominato questo generale dell'arma dei carabinieri per fare queste bonifiche gliene sono state affidate 80 ok 80 siti ebbene in due anni di lavoro e ho i documenti nella mia borsa e ve lo posso dimostrare questo generale dandosi un'organizzazione facendo protocolli per la legalità con le procure con l'ANAC con l'antimafia con la DDA con i NOE con l'ASL con l'ARPA con tutti gli enti che hanno a che fare che ruotano all'interno di un procedimento per la bonifica è riuscito a bonificare 36 discariche più 8 che adesso è stato mandato all'Europa la richiesta di stralcio da quelle 200 per le quali eravamo state multate e ha fatto risparmiare in due anni di lavoro 13 milioni di euro di multa questo per dire che cosa? che le bonifiche si possono fare se si ha l'intenzione di farle o tanto è che il ministro Costa nel decreto clima che è stato approvato giovedì nel Consiglio dei Ministri ha deciso di rendere strutturale la missione di questo commissario affinché gli si possano affidare anche altre discariche difatti gli ha affidato una dalla bonifica di una discarica di un sito di interesse nazionale che cronicamente da anni non si è fatto nulla che è quello di Crotone a Reggio Calabria ora dobbiamo però dire le cose con esattezza perché io ho preso sotto diciamo la mia attenzione alcune discariche perché ho deciso che prima della fine del secondo mandato che sto svolgendo io qualche bonifica che è di competenza territoriale comuni e regioni perché non parliamo solo di Stato perché la maggior parte delle bonifiche devono essere fatte dal comune e dalla regione le ho presi ad esempio tre Cavamonti che sta a Maddaloni a Caserta Lenza aria Pozzi di Calvi Risorta e la cosiddetta pianura discarica di pianura vi do queste notizie perché visto che siamo a Cazzardo Napoli io ho già relazionato ai cittadini del posto su pianura pianura formata da 5 discariche era un sito di interesse nazionale quindi vi erano delle regole da seguire per la bonifica nel 2013 è diventato SIR sito di interesse regionale significa che la competenza dallo Stato è passata alla regione purtroppo quando ci sono questi passaggi giusti o non giusti che siano si deve iniziare tutto da capo per cui tutte le competenze e le attività che aveva fatto lo Stato fino a quel momento dovevano essere fatte da capo dalla regione ok con un nuovo accordo con un nuovo accordo voi dite perché mi state raccontando no perché quando diciamo le cose non si fanno vanno in mano bisogna sapere a chi indirizzare anche le richieste allora io che cosa ho fatto l'8 gennaio del 2019 ho mandato un'email al ministero dell'ambiente io ho detto guarda che qua la regione Campania dove i nostri consiglieri regionali su pianura pure si hanno fatto tanto la regione Campania dice che la bonifica su pianura non viene fatta perché il ministero non si dà una mossa facendo questo nuovo accordo è un accordo fra le parti dove viene scritto chi deve fare cosa a che ho detto mi dai contezza il 28 gennaio il ministero dell'ambiente mi risponde dicendo guarda che noi questo accordo il 19 ottobre 2018 l'abbiamo mandato alla regione Campania e gli abbiamo chiesto un appuntamento per la sottoscrizione se non viene sottoscritto perché poi la parte tecnica di questa bonifica verrebbe poi affidata alla soggesit noi non possiamo avviare tutto il procedimento ebbene io da allora sono in continuo contatto con il comune con la regione sto sollecitando perché deve essere firmato come prima cosa questo atto ci sono state tante azioni che abbiamo fatto nel frattempo anche i consiglieri regionali ma l'ultima volta che io ho chiesto sollecito al ministero per sollecitare la regione Campania è stata giusto due settimane fa sono andata al ministero e ho parlato con la funzionaria gli ho detto a che punto sta la firma dell'accordo perché in tutti questi mesi ogni volta che avevo un modo di vedere l'assessore Bonavitacola vicepresidente della regione Campania mi diceva che stavano aspettando delle modifiche e quant'altro ora l'appuntamento l'ultima notizia è che l'appuntamento al ministero dell'ambiente tra regione comuni interessati soggesit e ministero avverrà il 14 di ottobre no 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 il 14 di ottobre un settimana apre secondo me doveva essere fatto il settem... no doveva essere fatto il 31 settembre il 30 settembre la regione Campania non era disponibile l'hanno rinviata se lo vogliamo dire tutto al 7 ottobre la regione Campania non era disponibile e adesso si prevede per il 14 ottobre quindi quando parliamo di bonifiche stiamo attenti perché il problema le procedure sono complicate lo so ma il problema sono perché le amministrazioni locali comuni e regioni prendono tempo laddove non ci sono problemi di infiltrazione camorristica per la maggior parte dei casi prendono tempo io lo sto facendo con Calvi Risorta quotidianamente sono costretta a chiamare comune e regione per fare sempre quel passetto in avanti ok per le bonifiche i soldi ci sono non è un problema di soldi per la discarica ex area Pozzi di Caserta di Calvi Risorta sono stati stanziati 15 milioni di euro per pianura sono stati stanziati i soldi i milioni di euro se non costringiamo gli enti locali a fare la loro parte non si va da nessuna parte per quanto riguarda i siti di interesse nazionale già d'accordo con il ministro Costa nella prossima legge di bilancio metteremo altre risorse per i siti di interesse nazionale questione terra dei fuochi allora io ho spiegato e termino poi chi vuole altri dettagli però due settimane fa sono stata a un evento organizzato dalle associazioni in un casale che era biroccato e che hanno ridato alla cittadinanza trasformandola in un posto in un paradiso dove ci sta in un maneggio che fanno ipoterapia dove ci stanno gli orti sociali dove ci sta l'associazione che si occupa dei tossici indipendenti ebbene ci sono riusciti dopo anni e anni di lavoro e battaglie sul territorio io ho chiesto perché hanno dovuto fare queste battaglie la risposta è stata abbiamo dovuto combattere contro un sistema politico di interessi e quant'altro ecco immaginate che noi in Parlamento stiamo facendo la stessa cosa stiamo combattendo contro un sistema che si è consolidato per 30 anni e anche se adesso stiamo al governo cambiare una norma e renderla perfetta per il territorio innanzitutto non ci possiamo permettere di sbagliare e quindi dobbiamo stare attenti perché tu appena vai a fare una legge c'è qualche d'uno che trova il cavillo per poterla eludere devi cambiare le normative già pregresse quindi non è che in un anno di lavoro si riesce a risolvere tutte le problematiche e scardinare un sistema non ci riesce un soggetto da solo o un'istituzione da sola costa che io ritengo il ministro giusto al posto giusto non ci può riuscire da sola come non ci potrebbe riuscire la regione da sola ecco perché è stato filmato il protocollo di azione per il patto della terra dei fuochi il 19 novembre perché ogni istituzione finisco e poi lasciamo le parole ogni istituzione deve fare la sua parte in questo processo perché da solo e altrimenti non riusciamo a scardinare il sistema della criminalità che ruota nel settore del ciclo dei rifiuti non riusciamo a scardinare quello che riguardano le infiltrazioni camorristiche all'interno delle amministrazioni politici corrotti non ce la possiamo fare se ognuno fa la sua parte ogni soggetto fa la sua parte io credo che i risultati li riusciamo ad ottenere le parole di intesa per cambiare una cosa per cambiare per cambiare una cosa alla luce c'è già un protocollo di presenza e questo è stato quello che ha detto è quello che ha detto innanzitutto è stato segnalato il 19 novembre mettere su e obbligare non tanto i ministeri che si sono messi tutti allineati sette ministeri a fare ognuno la propria parte ma noi dobbiamo convincere la regione a fare la sua parte mettere insieme creare un sistema perché fino ad oggi il lavoro eccezionale che hanno fatto i carabinieri la guardia di finanza non era coordinato tra di noi vi faccio un esempio noi abbiamo sperimentato io sono andato a vederlo con i miei occhi sia sui deliteri abbiamo fatto i protocolli con l'aeronautica militare con i carabinieri con l'esercito per l'utilizzo dei cori per vedere se funzionava a livello di prevenzione poter trovare quei comuni di rifiuti che poi sono oggetti di rovi tossici per vedere da dove si nascondono le discariche visive dietro magari qualche fabbrica che tu non riesci a individuare facilmente ma che dall'alto ci puoi riuscire abbiamo visto che questa è una buona modalità io ho incontrato settimana scorsa l'ingegnere Purcio che è il coordinatore dell'impatto d'azione e mi ha detto prima dobbiamo passare alla fase 2 ho detto bene che cosa occorre fare ora occorre creare il sistema perché questi interventi per questi problemi sono stati fatti in autonomia dai carabinieri dalla guardia di finanza con un input dell'ingegnere Purcio ma non c'è la richiesta da parte dei comuni perché se poi che cosa succede se c'è la richiesta da parte del comune vieni a vedere sul mio territorio che cosa ci sta e io te lo trovo tu comune avresti l'obbligo di rimuovere quei rifiuti e allora non lo fanno le richieste i soldi no no se è un problema dei soldi però il ministro costa ha detto anni di età io sono una cosa siamo a disposizione no no perdonami sono io che ho in basso e lo so che è l'argomento e di interesse figurati però ci sta anche quello spazio comunque io vi invito signora senza polemiche soltanto un secondo perché io sto imbedendo anche a uno spazio riservato ai comunali quindi dopo ci sarà anche la Gora alle regioni comunque io sto qui sono qui signora un attimo io sarò qui per rispondere alle vostre domande fra l'altro sarò in ottima compagnia perché non solo qui ho visto Salvatore Micillo perché non è vero che la legge sugli ere creati non funziona deve essere migliorata ma è stato un punto cardine ha messo il disastro ambientale e un reato importantissimo l'ho messa a bonifica il generale Vadalà di cui vi ho parlato prima è riuscito a mandare decine e decine di segnalazione alla procura per omessa bonifica che riguarda proprio la legge sugli ecoriati non sarebbe stato possibile quindi diciamo le cose giuste e vedo anche Massimiliano Lega che collaborava con il nostro sottosegretario Micillo che si è vista tutta la parte proprio della prevenzione attraverso i droni quindi sono sicura che anche lui avrà piacere perché ci ha lavorato tanto a parlare e a dirvi tutte le informazioni su questo grazie scusatemi Salvatore Salvatore signora vuole approfittare adesso per fare la sua domanda ma cambia di idea un po' di varia non c'è Volevo chiedere alla senatrice Moronese, che falla c'è stato nel fatto che si è sotto scritto alla prefettura di Caserta per tutte le parti contraenti e sappiamo benissimo quali sono i ministeri coinvolti e robavati, compresario Giorgio Campania, perché visto e considerato che lei dice che per cambiare le norme, qualora si è al governo, diventa un po' una pratica difficilissima, poi abbiamo sottoscritto un protocollo che dovrebbe essere legalizzato proprio da parte delle persone contraenti che l'hanno sottoscritta, di cosa parliamo? Ma non aveva detto di cambiare le norme, aveva detto di farle applicare le norme, che è la cosa più difficile, cioè agli enti locali. No, lei diceva che una volta che siamo andati al governo, se c'è una legge, per cambiare una norma, poi ha capito benissimo. Ecco, e volevo sapere proprio questo, che cosa visto e considerato che noi siamo stati tartassati letteralmente dai roghi tossici in quest'estate, non è finita ancora qui, poi un'altra cosa che diceva, quello che mi rende attonita è il fatto che i droni, tutta sta roba qua, però i comuni devono fare la richiesta e la roba va, puntualmente, sistematicamente, ogni santissimo giorno stesso posto, stesso luogo, stessi orari, allora mi sembra che c'è un qualcosa, qua non c'è nessun drone da… Che succede, sempre, sempre, i roghi, i roghi, sembra lo stesso posto e quindi qua, anche qui le responsabilità di chi sono, perché si palleggiano e noi cittadini stiamo in mezzo. L'ultima cosa che volevo chiedere, il ministro Costa si è impegnato proprio perché, evidentemente, come diceva, se ne diceva mononese, poi la richiesta la devono fare i comuni e sono obbligati a rimuovere quei cumuli di rifiuto o quelle disparite e lui ha detto, siccome mi stiamo sempre con le pezze al culo e si sa in Gabbania, è giustamente quando se ne lavano le mani, però il ministro Costa aveva fatto un passavanti, andava un passavanti, e poi diamo una mano come ministero, che cosa significa in soldone? In soldone, la diamo per rimuovere quel materiale che funge da carburante per questi roghi tossici. Ecco, questo è quello che volevo sapere, perché io sento i buoni propositi di Cosme, è pure simpatica, io vendo dalle sue lati, sento i suoi buoni propositi e vendo dalle sue lati, i buoni propositi e poi torno a casa e mi devo barricare 24 ore su 24, c'è qualcosa che stona, che non va. Ecco, spiegatecelo. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda al quale poi risponderà? C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Sì, è nella formulazione della norma e nello stabilire i tempi e le date e le responsabilità che devono essere politiche, dirigenziali e funzionali. Quindi da questo punto di vista è stessa la norma che si deve autoapplicare, perché nel momento in cui ha dato un recinto di intervento diventa molto più facile individuare le responsabilità patrimoniali principalmente di chi poi rende la norma inattuabile. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. Ma dove abito? Ah, io abito da quel punto che fa da cintura e da cerniera, cederoe- Napoli, Parete, a ridosso della Resinzzi. Tengo pure mostro a parlare di 5 g, l'altra storia. Qua sono coppie di tre e quattro storie, non c'è stato un po' di parete, lo conosco benissimo. Almeno chiariamo esattamente quale passaggio bisogna fare per arrivare. Mi sente? Per renderci consapevole, per sapere dove la dove andare a pulvolare. Lei ha fatto un'affermazione giustissima in cui dice che il ministro Costa ha messo dei fondi per la pulizia delle rete autostradali. A Semediano, con vogli fra una campagna e un'altra, fra una strada e un'altra, tra un comune e l'altro. Perché la problematica più grande è stata chi è la competenza che deve pulire quelle strade. Nel momento in cui capiamo che la città metropolitana o un comune o l'altro non l'ha fatto, il ministero dell'ambiente, che non è nella sua funzione, ha messo 3 milioni di euro e ha detto iniziamo a pulire quella parte del territorio che mentre capimmo di chi è e chi non è, viene incendiato. Punto primo. E questo si sta facendo. Con fondi quelle che ci sono la maggior numero di possibilità che ci siano incendi. Le spiega anche questo. Perché lei diceva giustamente che i droni, noi non li abbiamo visti, i droni alla fine non hanno fatto sì che ci fossero incendi su quel territorio. La sperimentazione che abbiamo fatto, non con droni che trovate al centro commerciale, quelli da 50-60 euro. Parliamo di predator che hanno... Abbiamo definito una superficie di 30 km quadrati in cui fare quella sperimentazione completa tra le F-35 e altri pericoli dell'aeronautica civile. Faccio i passaggi perché non è semplice per spiegarlo, però voglio aiutare a capire i passaggi che sono stati fatti. In questa sperimentazione di 30 km quadrati abbiamo messo a disposizione dei predator che venivano utilizzati prima soltanto in ambito di guerra. Spostare un ambito di guerra, cioè un predator del genere, su una superficie differente, ovvero in ambito ambientale... ...ha i 2600 cumuli di rifiuti che possono essere incendiati da un momento all'altro. Come fai a capire tutto questo? Mettendo le fotografie interne, ovvero oggi il cumulo è di 10 metri quadrati. Fra un giorno e 20 metri quadrati si arriva fra una settimana che ha aumentato 10 volte e sta cominciando a mettere dei pneumatici intorno, significa che la pila è pronta per essere. Questa sperimentazione ha funzionato in vari episodi e siamo arrivati qualche momento prima che la pila possa essere... Questa serviva... Ma proprio a Giuliana. Proprio a Giuliana è successo. Abbiamo... Abbiamo allertato... Significa che tra poco è un incendiale. Se vuoi intervenire nella polizia fai un ruolo in meno e questa era la sperimentazione. Questo serviva a mettere quei sistemi a servizio del cittadino comune che potrebbero in tutto qual modo prevenire quell'incendio. Punto secondo ai 3 milioni che ho detto. Quei cumuli vengono eliminati prima che succeda tutto questo, tutto questo passaggio. Quindi 3 milioni arrivo in quelle campagne, li prelevo e li metto da un'altra parte e mi scarico. E li ho detto prima, a seconda della grandezza di quel cumulo, se è un sacchetto, un conto, se sono un chilometro quadrato e un altro, è ovvio che hai un maggior rischio se sono più grandi i cumuli. I controlli, 400 barra 500 telecamere per anno, non so se l'ha detto... Ma ora c'è un tono che darà del rischio. Signora, noi stiamo da un anno, noi stiamo da un anno, non stiamo da 10 anni. In un anno... No, no, ho derro dei fiumi che erano, capite? Stiamo da un anno, stiamo da un anno, questo vi sto spiegando, quello che abbiamo potuto fare noi. Bonifiche di quella parte di cumuli, del monitoraggio ambientale, come abbiamo detto, le telecamere. E qua arriva la domanda del Signore, di chi è la competenza, di chi va a vedere poi quella telecamera, che cosa sta succedendo? Perché oggi in parte possono stare telecamere aggese, ma nessuno controlla, poi non c'è invece non abbiamo detto, non è meglio farlo fare i carabinieri. No, in questo caso sì, adesso si riprende. Una cabina di regia... No, 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 il coordinamento era preposto nel comando di polizia. Assolutamente sì. Il passaggio successivo sarà, i carabinieri hanno a sostegno 400 telecamere, mesi sui territori e che possono essere videosorvegliati direttamente... Perfetto. Quindi, bonifica di quella parte del territorio, videosorveglianza dall'altra, i militari, che qualcuno ci indica come qualcosa in più, noi crediamo che quella presenza anche dei militari sul territorio possa in qualche modo stabilizzare anche i passaggi che possono essere fatti. Se i primi passavano, scende camere, non me ne passano dinti. Il numero. I controlli sono stati fatti e sono per la maggior parte direttamente nelle aziende che vanno a sversare il nero. Questo le volevo chiedere, ma lei fino a che punto ti usce, una percentuale a lungività o una percentuale a nero? Quello è quello, assolutamente quello è quello, perché nel momento in cui... Se avessimo risolto il problema seguendo la scia del nero, secondo me non si stessimo a parlare. Io devo, io devo, io devo, da legislatore permettere a chi in questo momento ha un'idea di andare a sversare il nero, di metterlo nelle condizioni di pagare le tasse, uscire da quel regime di nero e permettere ovviamente all'ambiente di respirare. Questo comporta con incentivi, quindi significa che nel momento in cui tu rientri in un regime fiscale e come... E questo è la sanzione, signor. Disastro ambientale, inquinamento ambientale... Mi pare che non ci sia un... Signora, però perdonate. Si dare un consiglio, io. No, no, lei ha ragione. Che di esercito, ci può la guardia finale... E' anche quella, quella entra nelle aziende. Ha qualche senato, diciamo, perché va colpito proprio al cuore del problema, con l'inciviltà. E' chiaro che ci sono sacchette di tendenza che il cittadino... Il sacchetto dell'immondizia che le dice, sì. Perché ho capito perfettamente le eurobolle, ne avete di lavoro da fare. No, oggi. E poi le eurobolle... Ma perché... Quella che dici tu... Perché avete deglassato... Perché non fate classificare il sito della Resit ancora come... Anziché... Perché è stata deglassata SIN? No, SIRRA. Perché non lo rimettete di nuovo? Non pensate che... E' prioritario metterlo nei... O no? E' un lavoro che stiamo pensando di fare. E le spiego anche cosa... Le spiego brevemente SIN, SIR, SITI di interesse nazionale... Perché è stato deglassato? Questo lo dovete domandare, che c'era prima di lui. Ha fatto... Ha fatto il governo precedente. Significa... No, non siamo più tutelati. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E' un progetto che stiamo portando avanti, però il discorso lo sintetizzo. Nel momento in cui, da sito di interesse nazionale, da sito di interesse nazionale, passa da sito di interesse regionale, la competenza è passata alla regione. Ed è finita. Quello è il passaggio. Di chi è la competenza? Se un lavoro è fatto bene o non fatto bene. Io spero che sia fatto bene a prescindere che... E' iniziata a fare la Resit, non parliamo di bonifica, parliamo di messa in sicurezza. Perché parlare di bonifica e di Resit è rato perché significa mettere milioni e milioni di tonnellate di rifiuti da un'altra parte. Quindi significa soltanto mettere in sicurezza un territorio. Sono tanti passaggi che non ci vedo. Sì, la Resit... No, ma non ci ha fatto la scompacciata. Esatto. Conosciamo bene quali sono i territori da bonificare, li abbiamo individuati, abbiamo messo i fondi. Soltanto per quell'area, che è l'area vasta di Giuliana, sono stati messi 45 milioni di euro per bonificare quei territori. E' logico che se i passaggi non verranno fatti come noi chiediamo e come il Ministero dell'Ambiente chiede, allora è logico che il secondo passaggio sarà quello di portare una volta a Sede dell'Interazionale. No, perché ci siamo tutelati, è come se fosse stata un'offesa dei nostri compromessi. Io vi spiego anche il passaggio, a Sede dell'Interazionale. A Sede dell'Interazionale, a Sede dell'Interazionale, a Sede dell'Interazionale si bloccano i lavori. E' come rimettere un'altra volta tutto il meccanismo in mezzo. Allora, no, no, però era per rispondere alla signora. Scusate, sono rimasti insieme. Da cinque minuti dobbiamo lasciare il palco. Grazie a tutti. Da cinque minuti dobbiamo lasciare il palco. E c'è ancora una persona che deve parlare. Tu vuoi dire quanta cosa tu hai? Bravo, bravo. Sono divida. Meno male, meno male. La mia non vuole essere assolutamente una polemica con nessuno. Ma un piccolo suggerimento mi sento di doverlo dare. In generale, tutta la politica, in effetti si chiede l'intervento di droni, addirittura dei mezzi dell'aeronauta. Ma io mi chiedo, no? Ma una catturiera di finanza, che controlla chi produce rifiuti tossici, non costerebbe di me? La domanda comunque l'abbiamo capita, cioè, costerebbe meno la finanza che... Che la finanza e il drone è meglio ancora. Io credo che la finanza e il drone insieme è meglio ancora. E quello è il nostro... Non c'è un polemico. No, 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 io sto dicendo qual è il sistema. Ovvero, dall'alto mi indichi quali possono essere le situazioni pericolose. Dal basso vado a controllare esattamente quella situazione. Ma io non credo che l'uno va in contrasto all'altro. È logico che in questi ultimi mesi, diciamo di più, le aziende che sono state controllate sono tante. E anche i principi di incendi che sono stati spettati sono tanti. Però ovviamente a noi arriva, a noi tutti, arriva l'incendio che si fa e non i tanti che non vengono fatti. Quello è fuori discussione. E noi dobbiamo arrivare, come giustamente dice il Ministro, a roghi zero. Perché io non parlerò mai che i roghi sono diminuiti o aumentati. Io voglio soltanto arrivare che quei roghi siano più vicini possibile allo zero. I controlli sono fatti anche grazie alla guardia finanzia, ai militari, all'aeronautica dall'alto, alle amministrazioni. Perdonami, anche qualcuna può essere illuminata e mette insieme qualche sistema che possa aiutare. Con fototrappa, le videosorveglianze, ad altri, perché qualcuna ce n'è. Bisogna raccontare anche questo. Però ci sono anche altre amministrazioni che credono realmente che la Terra dei Foghi sia altro. E l'emblema è la risposta che ti ha dato anche il Presidente della Regione. Regalatore dei Foghi si è spostata al nord. Vi fa capire pure di chi stiamo parlando. No, no, perfettamente. Allora... C'è un'altra domanda, ragazzi. Allora, a me, a me, a me, a me, a me. Speravo che tu avessi un po' di pietà per me. No, non bisogna mettere circa dieci minuti. Da dieci minuti deve cominciare un altro? Dobbiamo lasciare il parlo qua. Se ci sono... Però la mia non era una domanda, pare che era una constatazione. Da parlando lei, scusa. Scusa, scusa. Sono morto, sono... E' ancora di affidare la vita in sorveglianza, ai carabinieri, alla Polizia per il governo, e al tutto questo. Ma a tutti i sorveglianza, non è stata installata, è stata installata. Non è stata installata. Non è stata installata. Non è stata installata. Ti ripeto, prima avevamo capito, no? C'è questo... C'era soltanto qualche comune illuminato che gli diceva... Allora, adesso lasciamo la parola invece alla nostra consigliera regionale, Marie Muscarat, che ha anche una grande esperienza su questi temi. Salve, ci eravamo già messi d'accordo, ho sentito anche di sfuggita, però conoscevo già qual era la filiera. Tu sei bianca a punti? Muscarat, ma poi viene una pagella? Pagella? Lo vedo che è pericoloso, Marie Muscarat. Però poi voglio pure il voto di tutti voglio sapere, non solo il mio. Allora, abbiamo parlato di rifiuti con i nostri rappresentanti a Roma, il problema dei rifiuti a Napoli e in Campania è particolarmente importante. Ed è importante il fatto che non viene mai affrontato nella maniera giusta. Anzi, non viene proprio affrontato. Perché al di là delle leggi pur regionali che sono state fatte sui rifiuti, di fatto non è stata messa in piedi nessuna filiera per la corretta gestione del rifiuto. Una per tutti, per esempio, io moesco un po' fuori strada rispetto a quello che avevamo preparato, però è anche importante. E' stata fatta dalla regione Campania, è stato dato il permesso a un'azienda di battipaglia che tratta l'umido di esportare il proprio umido in Croazia, un contratto di circa 8.000 tonnellate di umido che andrà in Croazia, con l'impegno quasi di un anno, circa 375 camion partiranno per la Croazia per un impianto di produzione di biogas che è lì e la cosa surreale è che probabilmente tutto il diesel che si sperpererà in questi camion che andranno avanti e dietro sarà lo stesso che verrà nel recuperato dell'impianto per molestare questa produzione e naturalmente per noi ha un costo anche molto rilevante. Una cosa sulla quale mi volevo fermare un attimo perché abbiamo preparato una sintesi che non è aggiornatissima perché è molto complicato fare questo tipo di aggiornamenti rispetto alla gestione del rifiuto umido per esempio? Allora la considerazione fuori programma la considerazione è questa qua io e l'ingegnere non eravamo d'accordo allora la considerazione potrebbe essere questa qui ossia che esiste un piano per la gestione dell'umido napoletano che noi regalammo quando io non ero eletta, ero attivista insieme a un gruppo di persone ricordo Luigi Grosso Ciro Totaro e Cristo Foroni preparammo un piano che era questo per la per gli impianti per la gestione dell'umido impianti aerobici nella città di Napoli ossia siccome il problema della creazione degli impianti è quello che i territori fortemente feriti come i nostri non facilmente accettano la presenza di un altro impianto perché questo significa un impianto molto grosso camion che vanno avanti e dietro impianti che non vengono controllati siccome è un disagio invece con la creazione di tutti gli impianti distributi sul territorio partendo dalle compostiere casalinghe per finire la compostiera di comunità e per terminare poi con l'impianto un po' più grosso che è necessario ma sempre aerobico avremmo potuto alleggerire fortemente il peso e in maniera educare anche la gente ad una riduzione dello spreco alimentare che spesso facciamo questo piano presentato al sindaco De Magistrisi a lui regalato è rimasto nel cassetto perché non lo ha proprio preso in considerazione abbiamo visto che adesso a Roma la nostra sindaca sta progettando una cosa del genere piccoli impianti distribuiti sul territorio per evitare che l'impatto di uno possa gravare soltanto su un territorio e i nostri territori già sono funestati voi pensate che in Campania dove pensiamo di non avere impianti perché manca la finiera corretta abbiamo la bellezza di 1049 impianti che gestiscono i rifiuti dal rifiuto umido al ferro al 1049 e adesso torniamo invece a quello per cui io stavo qui il controllo il controllo sull'aria il controllo sulle evatrici lo fa un'agenzia che si chiama Arpa Campania la quale l'agenzia purtroppo nella maggior parte dei casi il proprio lavoro non lo fa e il problema viene creato dal fatto che non vi piace che non vi è nato Arpa perché ve lo dimostro per quale motivo non ci piace Arpa non funziona e nonostante le nostre sollecitazioni continua a non funzionare tant'è vero che in questo che è un dato parziale legato soltanto a un piccolo noterete che le centraline che sono a Napoli al di là della correttezza o meno dei dati che vengono segnalati per moltissimo tempo non sono disponibili non funzionano sono in manutenzione la centralina del Santo Bono adesso per esempio non ha più il PM 2,5 e non si ha questo tipo di valutazione e poi ci sono delle valutazioni che sono un po' sempre non corrette perché è importante che la rilevazione ci sia e ci sia corretta perché deve essere tempestiva perché deve essere giornaliera perché deve immediatamente comunicare con il sindaco della città se c'è un'emergenza affinché il sindaco possa adottare le misure tese a ridurre l'inquinamento ma non è soltanto questo se le centraline dell'aria come quelle che noi abbiamo in dotazione non hanno la speciazione dei dati noi abbiamo soltanto un elenco anche mal fatto ma non riusciamo a comprendere con quella specifica che cosa ha provocato se è traffico se è un'azienda se è un incendio o se è un altro tipo di situazione un'altra cosa ancora che chiediamo a Roma se Roma può intervenire su questa cosa perché il sindaco può intervenire soltanto dopo 35 sforamenti dopo 35 giorni di sforamento il sindaco può intervenire siccome la media è elevatissima nonostante la rilevazione sia sommaria abbiamo per esempio San Vitaliano che supera ogni anno i 100 giorni di sforamento San Vitaliano Pomigliano quelle nelle zone che sono anche dal punto di vista orografico un po' in sofferenza questi 100 giorni di sforamento che dovrebbero far preoccupare e dire ma scusate ma noi per 100 giorni d'anno che cosa abbiamo respirato e qual è la causa non lasciano nessuna traccia perché tu dal primo gennaio dell'anno successivo ricominci a contare da uno come se l'inquinamento vecchio non lasciasse nessun messaggio per cui a dicembre ti trovi 100 giorni a gennaio ricominci a contare da uno questa è una cosa che dovrebbe essere modificata immediatamente a livello nazionale in breve questo è il punto ne abbiamo lasciato il posto signori arrivederci e grazie allora grazie poi vorrei sapere la pagella quanto ha avuto in questa cosa che lei ha scritto io sono Maria Muscarast sto in consiglio regionale mi occupo di mi occupo certo di occuparmi di ambiente terra di fuochi e trasparenza che la si occupa di chiamare 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 la lotta io lo faccio ogni volta ogni giorno perché io su facebook che è l'unica pagina che ho io metto tutto le interrogazioni i question time tutto e i cittadini dovrebbero i cittadini dovrebbero gli attivisti quelli che avevamo una volta attivisti dovrebbero leggere queste cose direi ma scusate ma visto che ci stiamo avvenenando è un anno che ci avveneniamo su questa cosa che cosa possiamo fare eh ma non c'è non è io non penso che sia più tempo di fare queste cose io non penso che sia più tempo di fare queste cose il tempo adesso è quello di conoscere il problema sviscerarlo e modificare la legislazione affinché il problema non ci sia più perché altrimenti così come abbiamo fatto milioni di terre dei fuochi ne abbiamo fatti tanti di cortei la gente non ne può più deve venire una risposta legislativa forte senza di quella credo che sarà difficile grazie a tutti grazie a tutti e arrivederci grazie che cosa la fanno fare a quell'altra poveranza io per questo sono un pregato che non fanno disabilità non possiamo togliere te allora la pausa del prato andate la pausa non volete non abbiamo pausa adesso comincia l'argomento disabilità e welfare lei è Dina Formisani consigliere della sesta municipalità di Napoli per il Movimento 5 Stelle introduce lei l'argomento non è proprio la giornata per urlare allora buonasera ai pochi immaginavamo che questo fosse un orario un po' infelice perché magari si sono apprestate le persone a mangiucchiare qualcosina ma anche questo è un argomento importantissimo perché welfare e disabilità welfare si interessa di tutte le problematiche degli ultimi per quanto posso definirlo gli ultimi sono coloro che restano ai margini della società e dei quali noi dobbiamo dare un senso ai loro problemi questo è un lavoro sono quattro slide purtroppo ce l'ho uno dietro l'altra ma è un lavoro devo dirlo fatto molto bene durante la preparazione alle comunali e questo periodo che è servito di preparazione ci ha portato a chi io l'avevo un po' ci avevo un po' lavorato sul sul programma regionale poi fu quasi del punto cambiato ma non è importante l'importante è che quello che è stato fatto al comune rispecchia pienamente i nostri temi i nostri problemi allora poi vedete c'è quello della sanità il quale sarà particolarmente presentato da Rosario e Massimo Rosario è un infermiere professionale dell'A e Massimo è un ragazzo giovanissimo che lavora già da molti anni per il 118 il 118 penso che con il 118 abbiamo un po' avuto tutti a che fare dovremmo essere già dei medici perché quando chiamiamo il 118 ci chiedono cosa c'ha il paziente che cosa dovremmo noi fare una valutazione veloce della della situazione della della persona che ci sta chiedendo aiuto in quel momento perché è praticamente impossibile sono reduce da un corso di formazione perché c'è una saluto pura scuola per le formazioni sul pronto soccorso e se ci dovesse capitare qualcosa del genere trovandoci di fronte ad una persona che necessita il nostro intervento l'importante è dire che la persona non è cosciente cioè va a fare la valutazione della coscienza cioè cosciente o non cosciente la persona non è cosciente la prima parola che dobbiamo dire è la persona non è cosciente chiamare 118 mi raccomando questo è per la sanità quindi rosario è massimo poi politiche giovanili noi giovani sono praticamente senza spazi ma funziona? si sente? è così penso proprio di no adesso sì adesso sì? ok questo non è da sottovalutare perché non solo i ragazzi mancano di spazi ma mancano anche di opportunità io poi ne parlavo prima con qualcuno è vero i progetti i progettini tutte queste allora va e viene ho capito progetti progettini che possono essere utili o meno ma questa estate mi è capitato di entrare in contatto con una persona che si occupa di formazione giovanile e l'occasione si è aperta per alcuni ragazzi che dopo la terza media hanno avuto difficoltà a proseguire gli studi sono riuscita ad inserire insieme ad una collega sei ragazzi del nostro quartiere non lo sa nessuno però ci siamo riusciti insieme ad una collega delle scuole medie e si è aperta per loro un'occasione un'opportunità questo si devono moltiplicare questi interventi pari opportunità diritto alla famiglia ci sta Teresa De Giulio che ce ne parlerà di tutte le inclusioni di tutte le forme di inclusioni dalla scuola alla società perché è veramente un settore molto vario infine ma non ultimo sono proprio le vere e proprie politiche sociali che per in questo periodo ci siamo interessati particolarmente del reddito di cittadinanza e con noi ci sta Raffaele Zannotti che c'è stato particolarmente c'è corso in aiuto perché i vari CAF creavano problemi per dare sostegno e aiuto a chi voleva saperne di più Rosario è diventato il primo CAF non solo dell'area est ma di Napoli che si è occupato del reddito di cittadinanza per noi è il punto di riferimento va bene allora io adesso passo il microfono a Teresa che ci illustrerà appunto le varie inclusioni perché è veramente un tema importante allora la tematica del welfare è una tematica che ha visto il meet up Napoli fortemente impegnato realizzammo un tavolo di lavoro molto impegnato la tematica del welfare a tutti i livelli e ne uscì un lavoro eccezionale che non poteva mancare a Italia 5 Stelle a Napoli proprio per far vedere quanto il meet up Napoli abbia favorito le politiche inclusive io sono un'insegnante e quindi ho l'inclusione per me è una parola chiave nella mia vita che va dalla scuola alla politica includere è una parola che si amplifica a tutti i livelli l'inclusione sociale prevede il rispetto per tutti e Napoli come città che si è sempre distinta per l'accoglienza deve essere un baluardo per il meet up Napoli il concetto di l'inclusione che non è soltanto una bandiera posta come uccello per la lodele ma deve essere un'inclusione che inserisce tutti i livelli della società civile che va dal diritto alle famiglie di avere la serenità di poter affrontare una società così complessa come quella che noi stiamo vivendo alla scuola che vede gli operatori della scuola impegnati costantemente in un'inclusione che a volte sembra fantoccia perché purtroppo il nostro riferimento principale come quello del comune di Napoli purtroppo sotto questo punto di vista è latente e latitante si parla tanto di inclusione come baluardo e come specchietto delle allodole quando poi alla fine la vera inclusione è fatta soltanto di slogan comincia all'interno della scuola per arrivare all'interno delle famiglie le fasce deboli sono completamente abbandonate a se stesse e la disabilità è purtroppo messa all'angolo anche se invece poi sembra che con tutti gli slogan la disabilità sia come primo aspetto attentivo della nostra amministrazione nelle scuole manca soprattutto l'assistenza ai disabili e si chiede un'assistenza a persone purtroppo non competenti che seppur mettono a disposizione il loro impegno a livello amatoriale non danno un'assistenza giusta perché noi siamo quelli della differenza cioè il movimento 5 stelle ha sempre portato in campo il concetto della competenza che è fondamentale che all'interno di tutti i settori ci siano persone competenti ad affrontare determinate con le partecipate del comune di napoli nella diciamo fatti specie della napoli servizi ex napoli sociale purtroppo vediamo un assistente latente dell'assistentato materiale quindi la disabilità all'interno delle scuole è abbandonata a se stessa alla mercè degli insegnanti di sostegno che cercano si parcamenano tra l'insegnamento e l'assistenza che viene fatta amorevolmente perché chi insegna una missione quindi viene comunque fatta con amore ma purtroppo noi dobbiamo favorire la competenza dobbiamo fare in modo che quando si parli di inclusione quando si parla di rispetto degli ultimi si ne fa mettere in campo il rispetto per gli ultimi quindi noi come Meetup Napoli ci siamo impegnati attraverso i nostri consiglieri comunali i portavoci a cercare di portare questa parola all'interno delle istituzioni però purtroppo insomma con buona volontà ma il lavoro da fare è tanto loro da fuori non ce la fanno e noi come Meetup Napoli cerchiamo in tutti i modi attraverso questo confronto continuo di portare le nostre idee nella speranza di poter non solo sognare la parola inclusione e diciamo affinché gli ultimi in questa città possano essere veramente strumento di dispensieratezza in questa città e non praticamente un semplice baluardo e uno specchietto per le applaudole raffaele 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 No, no, ringraziando a Dio, no. Sì, sono in Giappana. Vabbè, comunque non ci abbassiamo. Che stanno facendo? Vabbè, Raffaele, vai. Scusate, si ditevi, per favore. Adesso è un'attenzione. Vai, Raffaele, vai. Siamo tutti noi. Povero. Non si ha voluto qui. Non c'è una grande responsabilità. Sì, sì. Pietro, nuova, nuova. Allora, Raffaele Genotti si occupa di reddito di l'italianza nell'area est di Napoli. E' evidenza sul capo perché lui ha un capo e ha aiutato un sacco di persone per fare la domanda diretta. Vai, Raffaele. Salve a tutti, sono Raffaele, sono responsabile territoriale dell'Unzici di Napoli. La nostra sede è nella sesta municipalità. La nostra sede è nella sesta municipalità. Quindi, come chi ben conosce, parliamo di San Giovanni, Barra e Ponticelli. La nostra municipalità parla di 90.000 abitanti. Il 40% è disoccupato. L'altro restante, il 60%, non è che vive nel loro. Quindi, parliamo di contratti part-time e quindi, nel caso proprio del reddito di cittadinanza, abbiamo avuto un assalto. Ad oggi abbiamo presentato quasi un migliaio di richieste. Dopo varie valutazioni fatte, il 90% è riuscita ad accedere a questa manovra. Il reddito di cittadinanza, come ben sapete, è una manovra che viene fatta proprio per contrastare la povertà. Ma non solo, ma anche per i disabili, quindi anche per quelle persone che non arrivano a fine mese. E quindi, in questo caso, è stata fondamentale sia per il nostro territorio municipale che a livello nazionale. La problematica che abbiamo riscontrato, più che altro, non è nella manovra. Ma anche chi, in questo caso, come me, si trova da quella parte che deve dare delle risposte. E quindi, più delle volte, queste risposte non vengono date esatte. Quindi, cosa succede? Il contribuente sfiduciato e tutte le altre problematiche che ci sono. Quindi, non bisogna demordere in questo aspetto. Un'altra cosa che, diciamo, vorrei ricordare, quindi, è quella che il più delle volte le persone non cercano questo sostentamento economico. Le persone cercano lavoro. E il più delle volte mi viene richiesto anche di essere messo nel quotidiano a dare una mano al servizio del cittadino, che ad oggi ancora non avviene. Non so per quale problematiche, però è fondamentale il reintegro al lavoro, perché parliamo di dignità. Quindi, cosa è dignitoso per un cittadino? È il lavoro, a prescindere dall'aspetto economico. Quindi, per me, dal mio punto di vista, il reddito di cittadinanza deve essere potenziato. Deve essere una manovra che, quindi, in Italia dovrà avere una fase continuativa. Deve essere sempre, deve assistere sempre i cittadini. Quindi, non diffidate quasi sempre, come a volte si sente, dei cosiddetti caffi, dei caffi, come a volte si sente, a volte anche da quella parte. Dateci una mano, quindi siete più espliciti nel dire le cose, di farci capire le casistiche, come, per esempio, una vise corrente che sembra che sia stato scoperto oggi, ma quando va da anni, quindi perde il lavoro oggi, non è assolutamente messo in disparsa. Ma ci sono delle manovre che possono essere poi messe nel sociale e quindi aiutare. Buongiorno a tutti, sono un operatore del 118, mi occupo di soccorso sanitario dal 2012. A volte sentiamo spesso parlare, come diceva prima Tina, dei problemi, a volte dobbiamo essere dei medici, perché quando chiamiamo, penso che a tutti è capitato. Di avere un operatore che ci fa tantissime domande, a volte possono sembrare banali, ma invece per noi operatori che stiamo dall'altro lato, che dobbiamo comunque capire bene la situazione, tutte quelle domande non sono fatte così per via di tempo, ma per cercare di dare una qualità di assistenza migliore, mandare un mezzo idoneo al tipo di problema. Sicuramente sentiamo parlare di aggressioni, sentiamo parlare spesso che tutti i volontari e operatori vengono presi di mira, come se in quel caso l'unico obiettivo è aggredire il personale 118, perché a volte ci sono dei ritardi, mancanza di mezzi sul territorio. Noi chiediamo alle istituzioni di darci una mano in questo senso, di far sì di potenziare i fondi per la sanità, finché possiamo riuscire comunque a dare una qualità di assistenza. a volte i territori non sono ben coperti per mancanza di personale, fa sì che quando si chiama il 118 l'ambulanza a volte arriva dopo 20 minuti, un quarto d'ora, che questo è un problema molto importante, ma non dipende da noi che comunque diciamo di aiutare il malcapitato che in quel momento rischia la vita. Quello che possiamo chiedervi è che il settore 118 ha messo a disposizione tanti corsi BBLSD, che sono dei corsi di primo soccorso, quelli li invitiamo a fare un poco tutti, così in modo tale che quando ci troviamo in quella situazione che l'ambulanza ha un ritardo, non sappiamo già come gestire al meglio, anche la chiamata al 118, gestire la chiamata e dare un soccorso al malcapitato. Sappiamo benissimo che comunque, grazie a molti esponenti dei 5 Stelle, che hanno portato le nostre varie richieste di aiuto, sia per quanto riguarda i fondi, sia per quanto la tutela degli operatori sul territorio, sembra che qualcosa si stia cominciando a muovere. Noi speriamo che anche voi riusci a capire che a volte quando ci sono delle situazioni di ritardo e tutto, non è dovuto a quel personale dell'ambulanza che viene a casa, ma è dovuto a un sistema che c'è bisogno di riformare, per far sì che i livelli di assistenza, come ci sono in molte regioni del nord, perché al nord c'è una qualità di assistenza che è di 118, in alcune parti superiore a quella che abbiamo in Campania, e chiediamo una riforma che venga visitato e sia un sistema di qualità anche da noi nel sud. Questa è la cosa maggiore. Per quanto riguarda poi la formazione, c'è il volontariato, come la Croce Rossa, come la Protezione Civile, che si occupano, siete invitati tutti a farne parte, anche c'è la Croce Rossa qua che li fa mensilmente con una certa cadenza, di far sì che con poche ore di tempo possiamo imparare delle nozioni molto importanti per quanto riguarda l'assistenza. Allora, sono proprio contenta che c'è Roberta, perché ci siamo senti con Teresa, proprio ieri sei, guarda che stiamo alle 14, non ci sarà nessuno mentre parleremo, e invece, Roberto, ci hai aperto... No, allora, una... Possiamo dire una cosa su questa cassa? Assolutamente. Buongiorno a tutti. Allora, intanto, idealmente, in questo casebo, casebo Napoli, che è la città ospitante, diamo il benvenuto a tutti coloro che sono arrivati a Napoli per Italia 5 Stelle, sono contento che ci sia questo casebo che avete fatto con così tanta passione e amore. La prima cosa che voglio dire, in un dibattito, magari, che avremo oggi, che saranno i vari casebi, tra il futuro del movimento, il passato del movimento, le origini, il presente, abbiamo una certezza in questo meet-up di Napoli. la cassa che non cambia mai. La storia di questa cassa l'abbiamo comprata tutti insieme, mi sembra che costava 90 euro, forse, una cassa anche un po' scarsa, facendo una colletta, il famoso meet-up di Napoli. Ognuno mise qualcosa e alla fine riuscimmo a comprare questa cassa con fili e forse anche un microfono, non mi ricordo. e questa cassa vi assicuro che non la cambieremo mai perché ha fatto il giro di tutti gli attivisti, le persone. Io una volta con questa cassa giravo a Montesanto perché la dovevo riportare da Piazza Dante che avevamo fatto forse il consiglio vero comunale. Questa è una cassa antica? Da Piazza Dante e a Talapigna Secca e sono arrivato a casa di una persona che oggi è parlamentare per posare questa cassa. E dopo un mese un ragazzo di Portici, Giovanni Erra, si vanno a prendere per fare l'evento a Portici. Insomma, questa cassa ha viaggiato e ha girato. E allora, non sapete il piacere di rivederla qui oggi perché non me lo aspettavo. Quindi complimenti a tutti. Vado via perché voglio completare un po' il giro. Appena è iniziato, tra poco avete un dibattito importantissimo che è quello su Bagnoli. È il dibattito su Bagnoli uno di quelli che deve segnare il futuro non solo nella città ma proprio di rinascita del paese perché dobbiamo dimostrare e oggi siamo noi al governo quindi non abbiamo alcun tipo di giustificazione che il risanamento ambientale le buone pratiche le buone prassi di sviluppo urbano e quindi di pianificazione le possiamo e sappiamo attuare perché lì passa il futuro sia del sud sia di Napoli ma dell'idea di paese che può rigenerarsi cambiare rispetto a una fabbrica che ha chiuso nel 1996 e che mi ricordo che il giorno dopo si doveva fare la punta. Noi siamo qui noi siamo qui anche oggi proprio perché anche Bagnoli non si era risolta era uno dei temi su cui dicevamo Bagnoli non si risolve perché non ci riesce il Comune, la Regione il Parlamento il Governo e abbiamo lottato anche per Bagnoli e oggi siamo qui perché Bagnoli va definitivamente risolto vanno avviate le bonifiche e bisogna far sì che ci sia un progetto fantastico che già c'è e si deve realizzare perché questo darebbe non solo tanto lavoro a tante persone ma farebbe comprendere come una città può rimettersi in piedi e come un sud può pianificare il proprio futuro. io intanto vi ringrazio e grazie per questo gazebo sono chiaramente con voi e ci vediamo presto continuo un po' il giro applausi in piedi porta bene bella guardi no vai vai noi dobbiamo aggiustare questa cassa non mi riusciamo no no come la cassa così è molto per i presenti dovevo fare una precisazione sulla questione dei senza tetto non si sente è tutto un po' questa è la cassa infatti Roberto non lo so dipende da come la metti ah così ogni tanto vi diamo il punto giusto volevo fare questa precisazione perché c'è un problema legato ai senza tetto i senza tetto non hanno la residenza e non possono senza residenza non possono accedere al reddito di cittadinanza e loro sono veramente i primi che necessitano del reddito di cittadinanza e allora si è trovato una strategia la strategia è quella di indirizzarli a delle associazioni indicate dal comune di Napoli presso i quali bisogna fare una relazione con questa relazione si va agli uffici competenti dell'anagrafe senza fissa dimora questo è importante perché entrando nell'anagrafe dei senza fissa dimora si può finalmente fare la domanda del reddito di cittadinanza perché mi è capitato personalmente di incontrare almeno due persone che avevano avuto questo tipo di problema in modo particolare avevano non hanno avuto accesso al rei che era l'altra misura precedente e invece facendo entrando nell'anagrafe dei senza fissa dimora hanno potuto finalmente accedere al reddito va bene lì di questa è una cosa molto importante fatelo presente quando incontrate persone che non hanno un'abitazione che sono costretti a vivere per strada perché non tutti lo fanno per scelta ci sono delle persone che purtroppo si trovano in determinate condizioni da questa situazione qua ci siamo fatti un po' il giro di tutte le aree almeno nell'area est ma ho notato che è un po' in tutte le periferie con le abitazioni della 219 che necessitano di interventi proprio strutturali e con i nostri parlamentari siamo andati a fare un tour dell'abitazione la peggiore abitazione possibile ed è sono proprio queste della 219 dove le tettoie sono non sono fatte di guaina ma sono fatte veramente di materiale che addirittura dei tendoni per potersi difendere dalle piogge che purtroppo arrivano prima o poi ma nell'area est abbiamo altre situazioni che probabilmente vivono anche altri comuni non lo so ma perlomeno da noi abbiamo la situazione dei bipiani abbiamo la situazione del rione dei gasperi che attualmente vive è una situazione di spostamento di una parte della della ogni tanto bisogna andare a scollare eh sì eh sì senta allora dicevo una parte lasciamo stare come sono passati nelle nuove abitazioni perché è tutto un dire però quello che ci interessa è portare avanti il progetto di abbattimento di molte di quelle di quelle palazzine che sono veramente in condizioni pessime dove meritano quelli che sono rimasti e che hanno diritto all'accesso alla casa eh al più presto possibile sia in un caso che in altri casi allora mi raccomando se conoscete persone senza pista di mora il procedimento ve l'ho spiegato aiutateci in questo perché se arriviamo al loro abbiamo veramente avuto accesso al reddito di città cioè siamo arrivati veramente all'osso del problema di ridare dignità delle persone che hanno perso lavoro casa famiglia e tutto quello che gli stava intorno e che non hanno più nulla va bene allora Rosario e poi diamo spazio agli interventi buongiorno buongiorno a tutti senti ok grazie la platea è diminuita va bene però va bene lo stesso a supportarci parto con una premessa il mio intervento riguarda l'assistenza sanitaria per quanto riguarda quella territoriale del comune di Napoli noi siamo voglio riprendere questo argomento perché ripartiamo dal programma del 2015 che tutti gli attivisti insomma persone competenti nel settore e cittadini attivi hanno scritto che si trovano su quelle locandine tutto ciò che ci siamo detti fino adesso voglio partire che nel nostro programma garantiva la sanità come la qualità di vita dei sei chiamata va bene no devi spegnere la qualità di vita dei nostri concittadini ahimè purtroppo però la sanità campania è ammalata di un male cronico che purtroppo i nostri politici non intendono curarla siamo partiti da una proposta di Roberto Fico di realizzare i tavoli di lavoro in base alla competenza dove c'erano al tavolo Teresa Imma De Lorenzo dove hanno realizzato gran parte di questo programma parto dal che noi grazie a quello ci definivamo di realizzare un programma a costo zero quindi quali erano le proposte che potevano fare chi andava a governare il comune di Napoli a costo zero e quindi potenziare i servizi io mi occupo nel coordinatore dell'AS Napoli uno del distretto 30 Secondigliano Miano San Pietro e esiste già un servizio che si chiama assistenza domiciliare integrata che è un servizio funzionante ma ci sono delle pecche come in tutti i servizi ci sono delle pecche e qual era nel programma cosa potevamo fare potevamo migliorare questo servizio dove insieme a De Fondi insieme al comune di realizzare corsi di formazione del personale igienese quante volte ci siamo trovati a casa nostra a madre di un ammalato persone non qualificate e quindi era di supporto al comune perché come sappiamo la sanità è disciplinata dalla regione campania ma la parte senza domiciliare è compartecipata dal comune di Napoli quindi offrire questi servizi gratuitamente al comune di Napoli un altro servizio mi riallaccio a Teresa oggi fortunatamente quando l'abbiamo scritto la non era legge oggi è legge che nelle scuole c'è bisogno dell'utilizzo del defibrillatore e quindi qual era il nostro supporto abbiamo il defibrillatore ma non abbiamo persone formate che possono utilizzarlo quindi formare il personale come insegnanti scusatemi insegnanti docenti un'altra proposta che c'è lì che adesso è realizzata e come parlavamo prima è il reddito di cittadinanza quindi ci siamo posti degli obiettivi l'importante è che le cose si fanno le abbiamo scritte ma qualcuno poi le ha fatte nel 2015 abbiamo scritto quel programma oggi è 2019 alcune cose sono state realizzate magari forse perché al governo ha andato cinque stelle un altro servizio che potrebbe potenziare è quello quante volte ci si potesse quando il nostro ammalato muore e lascia dei presidi ma magari che sono nuovi in buone condizioni e quindi istituire ogni municipalità una stanza di vita alla raccolta di presidi pomeletti sedia a rotelle presidi di ambulazione questo perché perché sappiamo che il nostro paese è tutto bello ma c'è una burocrazia molto lunga per avere una sedia a rotella dobbiamo aspettare una vista geriatrica tre mesi e quindi magari inizialmente potevamo utilizzare queste sedi adibite in ogni municipalità ad iniziare a utilizzare quindi a costo zero per la ASL quindi che sono già protocollate quindi già sappiamo a chi sono state date perché quelle sono in teoria incomodate d'uso un altro servizio è non rilasciare ma gli anziani gli anziani sono perché gli anziani non lo dobbiamo mettere solo come concetto di persona malata ma sono anche gli anziani abbandonati quindi cosa avevamo pensato avevamo pensato di magari istituire corsi formazione dal comune magari dell'utilizzo di un personal computer di uno smartphone quante volte si trovano i nostri anziani in una casa di cura e magari vogliono mettersi in contatto via Skype oppure magari utilizzando social media quindi vedersi con un familiare ma molti anziani non sanno usare magari un computer o un tablet con questo voglio chiudere che la vita di una persona non vale quanto loro di tutto il mondo grazie allora e adesso chiamiamo a parlare Luigi Cirillo che è il nostro portavoce in regione Campania e si occupa proprio di disabilità è un po' è un po' basso un po' che vecchia viene questo accade quando tutto si va sul volontariato perché io ci tengo sempre a ricordare che tutto quello che vedete qui è frutto del volontariato degli attivisti di Napoli avessimo avuto rimborsi elettorali avremmo innalzato palchi in tutte le sedi di questo spazio Italia 5 Stelle allora io mi occupo di disabilità che significa mi occupo di persone che hanno sordità o cecità o presentano comunque una disabilità motoria perché oggi purtroppo in Italia abbiamo tantissime persone che ogni giorno il loro quotidiano incontrano barriere archiettoni comunicative visive ma barriere che non è che esistono perché ci sono persone con disabilità ci sono queste barriere perché chi doveva fare pianificazione territoriale o doveva organizzare dei servizi o doveva organizzare la scuola purtroppo non ha ben pensato di garantire dei luoghi che siano veramente accessibili a tutti e allora per ovviare a questa mancanza noi io nel mio caso mi occupo proprio di politiche sociali sono occupato di scrivere leggi che riguardassero la diffusione della lingua dei segni in regione Campania fortunatamente cerco di avere un tono di voce alto in modo che anche in momenti di caldo di microfono vado il teatro ai tempi è servita qualcosa leggi sulla lingua dei segni così come leggi che istituiscono una volta e per tutte l'obbligo per i comuni di adottare i PEBA i piali migliori barriere archiettoniche emendamenti di legge che riguardavano l'accessibilità per persone cieche nei poli musiani e nelle stazioni ferroviarie tutta una serie di proposte di legge tutta una serie di leggi anche approvate in regione Campania che oggi consentono ai cittadini campani non solo che siano in Campania anche se ai disabiti poter accedere senza barriere nei luoghi in cui si svolge la vita pubblica io ci tengo per ricordare che Italia 5 Stelle quest'anno ha servizio interpretariato in lingua dei segni non soltanto nel palco ma anche in altri algorà come ad esempio Rousseau e questa è una cosa che ho avuto fortemente insieme allo staff di comunicazione nazionale e lo abbiamo ottenuto così come abbiamo predisposto Locandini ad adottare in Braille appunto per renderla accessibile a persone con disabilità visiva i luoghi in cui si svolge l'evento quindi abbiamo fatto cose importanti quello che chiaramente stiamo costruendo in regione Campania è il programma per il futuro cioè per il 2020 che sarà molto incentrato sul tema delle politiche sociali perché riteniamo che si può parlare di tutto ma fin quando ci saranno persone che perché sono disabili restano indietro e altre possono andare avanti non realizzeremo mai una società che si possa veramente definire giusta e civile quindi il nostro impegno sul tema dell'accessibilità dell'inclusività è massimo legge che riguarderà anche il passaggio da un sistema di assistenza oggettiva che guarda disabile nel gruppo della disabilità a un sistema invece di assistenza soggettiva e personalizzata cioè noi vogliamo guardare la persona con disabilità per le esigenze particolari specifiche che ha costruendogli attorno un percorso di assistenza individualizzato e che valorizzi anche chiaramente quella che è la famiglia e le scelte della famiglia sul percorso e il disabile di intraprendere ma non per essere assistito ma per essere indipendente che è un altro concetto noi non vogliamo più assistere le persone ma gli vogliamo garantire le condizioni per essere autonomi e indipendenti perché questo dice la convenzione ONU su diritti di persone con disabilità questo dice la legge italiana ma questo oggi non si fa in Italia e soprattutto in Campania quindi il nostro impegno da questo punto di vista è massimo siamo in contatto tutte le associazioni che si occupano di disabilità in regione Campania e chiaramente si richiamano tutti quanti voi a fare la vostra parte a poter dare a voi a noi il vostro contributo per costruire un bellissimo programma per il 2020 che si occuperà di welfare sociale e tema dell'accessibilità per tutte le persone di disabilità grazie allora io faccio parte della commissione Marta Matano sempre e faccio parte della commissione welfare del comune di Napoli volevo solo dirvi che noi stiamo provando a lavorare lo faccio a voce stiamo provando a lavorare in commissione per fare delle cose per la disabilità ma dovete sapere che abbiamo un passo di tutto per presentare un ordine del giorno per dare la possibilità alle persone con disabilità di parcheggiare almeno per un'ora gratuitamente in tutta Napoli perché se un disabile deve andare a fare una visita specialistica o si vuole mangiare una pizza o qualsiasi cosa è costretto quando trova il posto occupato a parcheggiare nelle strisce blu e lì se espole il cartellino che non paga il parcheggio gli fanno la volta nonostante lui abbia questo cartellino che dice che è disabile perché dicono se non parcheggiate le strisce gialle dovete pagare allora noi abbiamo fatto una battaglia di cività volevamo dare il parcheggio gratuito in tutta Napoli ai disabili non c'è stato contesto però abbiamo straffato una promessa tramite un ordine del giorno presentato durante un consiglio comunale che si è concesso avendo la possibilità per un'ora anzi noi abbiamo chiesto due ore di parcheggio gratuito in tutta Napoli speriamo che l'amministrazione faccia presto a dare questa possibilità altra cosa che abbiamo chiesto era quella di allora quando succede un problema di interruzione di servizio nelle metropolitane le persone con disabilità auditive i sordi non riescono a capire che cosa succede abbiamo chiesto in commissione che siano mandati semplicemente dei messaggi su questi che già ci sono all'interno delle metropolitane quindi a costo zero non siamo stati in grado di far arrivare in commissione nessun rappresentante di ANE che ci aveva promesso che in una settimana avrebbe ritolto il problema tramite l'assessore ma ovviamente il problema e sono passati sei mesi non è stato ancora risolto quindi noi ce la stiamo mettendo tutta speriamo di riuscire a vincere almeno queste piccole battaglie di civiltà a costo zero grazie allora se volete ci sono cinque minuti e qualche cittadino vuole intervenire di fronte e fra cinque minuti passiamo a parlare del tema Bagnoli e Napoli Est due temi molto caldi e molto importanti per questa città ci vediamo fra cinque minuti grazie 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 a tutti. 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 E a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. e... ... Grazie a tutti. ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ad analizzare, perché i ragazzi non sono possibili scopo con le esperienze, quindi il livello di disorientamento di questi ragazzi, voi non ce lo avete, ma i dati che perdono sono tutti gli stessi, perché si c'è solo l'antisposizione di questo, perché la licenza scolastica ed aumenta sempre di più, quindi vuol dire che non avete dei dati che non sono possibili, perché io dicevo, in spesso collegamento, quindi spero di capire, il livello di disorientamento di questi ragazzi, è lanciato un orientamento, la stessa tipologia, anche se non la conosco, perché ancora non si è evidenziata di portarla all'interno, diciamo, delle scuole, cominciando l'orientamento, che ti porta a disposizione di scuola superiore, di capacità enorme per la posizione competente, perché la posizione competente, il cittadino, le possono avere tutte, ma le capacità tu ce l'hai in base, rispetto alla famiglia, rispetto al tuo DNA, tu hai più le capacità, dopodiché si passa alla scuola superiore, che con i secondi tre anni, quando inizia anche l'alternanza scuola-lavoro, che il tuo ha fallimentare, che lo possa assicurare, perché non si va al cinema, per l'alternanza scuola-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro-lavoro. E' un'attività, perché sicuramente persone più felici, magari che non ci risperdono poi delle momiglie a bere il guantaggio, e che non sia un parametro, quindi mi interessa proprio l'attività. Noi la stiamo portando avanti come un progetto, ora, la qualità, come faremo di seminare, per capire qual è il disorientamento, e quello è un disorientamento, è il disorientamento. Ma di là io lo sento. E' buona piccola, forse se ne chiedono la... La batteria. Allora, dicono che ha ripreso, non si sa com'è mai. No, dopo ti lascio anche il mio biglietto, così ci teniamo in contatto. E poi, a poco tempo, passerò la parola. Brevemente ti dico una cosa. Su questo, nella proposta che abbiamo fatto sulla modifica regolamentare che dicevo prima, sulle commissioni inerenti all'innovazione e al futuro, c'è anche tutta una parte che riguarda nuove modalità di istruzione nelle scuole. Perché i metodi che noi stiamo utilizzando non valorizzano quelle che sono le capacità del singolo, ma danno una conoscenza orizzontale per tutti. Quando casomai, io sono, non lo so, faccio un esempio proprio in estremi, se casomai sono un ottimo mucicista, non ho mai imparato nulla, ne ho avuto l'occasione di poterlo fare. Allora, scoprire i talenti che abbiamo, indirizzare quei talenti a quale può essere il miglior percorso, è una cosa che noi dobbiamo iniziare a inserire nei nostri percorsi formativi delle scuole, che sennò perdiamo questi talenti, che poi casomai o non sono mai riconosciuti o esplodono fuori quando vanno in un altro paese. Questo spesso ci capita, quindi c'è già questo pezzo nella proposta, però ci scambiamo il numero e proseguiamo il lavoro. No, assolutamente. Io passo la parola e ti lascio il mio numero. Grazie. Il tempo di sognare. Allora, grazie Alessandro. Benvenuti, questo è l'ultimo incontro, l'ultimo appuntamento di questa giornata ed è dedicato ai sogni. Ai sogni, e quindi lì c'è una partenope sulla quale alcuni passato hanno scritto qual è il loro desiderio per Napoli, qual è il loro sogno. Abbiamo scelto partenope per un motivo, perché nella storia di Napoli partenope si racconta essere stata la sirena che ha fondato la città di Napoli. Alcune leggende parlano della partenope che per amore, straziata di amore, si suicida e il suo corpo arriva sull'isolotto di Megaride e da lì nasce la città di Napoli. Ma ce n'è una più bella di leggenda che è stata raccontata da Matilde Serao che ci parla di questa ragazza greca che era costretta a sposare un uomo che non voleva e che quindi per sposare invece l'uomo che lei amava decidono di scappare insieme, fanno la fuitella, quella che anche da noi si chiamava così. Partono insieme per amore e si avventurano nel mare alla ricerca di una terra che accolga il loro amore. Quindi Napoli nasce dall'arrivo di questa coppia che si ama e che fa ben 12 figli e costituiscono un villaggio in cui la comunità si aiuta, si ama, si sostiene reciprocamente. E quindi Napoli città d'amore e città per amore. Partiamo da questo, partiamo da queste origini, partiamo da questo sogno e a partenove lasciamo il nostro desiderio perché per tanto tempo è stata venerata come la protettrice della nostra città. Allora che cosa immaginiamo, che cosa sogniamo? Io finisco presto di parlare perché voglio ascoltare voi voglio ascoltare i vostri sogni e voglio leggervi i sogni di chi si è fermato e ci teneva tanto a dirceli, come i bambini che ci hanno chiesto degli spazi dove disegnare. Noi se vedete dietro di voi abbiamo uno spazio dove riposarci uno spazio dove creare, uno spazio dove sognare c'è un cartello con scritto qui si sogna e in quell'angolo persone che anche non si conoscono stanno disegnando insieme e facendo dei quadri. Quindi è un po' l'idea di comunità che avevamo. Quell'idea in cui siamo insieme, ci sosteniamo a vicenda usiamo i beni in comune, la vernice, i pennelli, l'acqua, la stessa tela e insieme creiamo una cosa nuova. La Napoli che sogniamo è già qui è già in questo esempio di condivisione che c'è in questo esempio in cui quei bambini che non si conoscevano hanno espresso i loro desideri e si sono messi a disegnare tutti insieme dove adulti che non sono i genitori possono guardare i bambini come se fossero i loro dove c'è un prato per potersi sedere e stare e ci hanno chiesto alcuni, ci hanno chiesto possiamo mettere questi spazi di perpittare anche per strada nelle strade della città e sarebbe un'idea bellissima. Allora i sogni non sono solo sogni metafisici, irreali i sogni sono il primo passo per il cambiamento se non fossimo così folli da sognare non potremmo cambiare le cose quando è nato il movimento, il meetup erano tutti dei sognatori folli e poi ora piaccia tutta la storia ma intanto è stato un sogno un sogno che è partito così e si è avverato poi la realtà, fai conti con la realtà con le tante difficoltà ma io spero che questo incontro possa essere un incontro per continuare a sognare perché c'è sempre bisogno di movimento di cambiamento, di rigenerazione di speranza e di rinascita Allora, sogno meno odio è tra i sogni che sono stati sogno sogno di fare un bagno ogni mattina nel mare pulito prima di andare al lavoro bello sogno più amore sogno aria pulita sogno pura di sé sogno lavoro sogno più giochi per bambini sogno giustizia sogno più punti per dipingere sogno di lasciare ai miei nipoti una città vivibile sogno di vivere e respirare arte voglio serenità è un amore grande con Giuseppe perché a partenope si può chiedere tutto sogno più bici questo anche sogno maradona a Napoli di nuovo c'è chi lo chi non lo dimentica amore e solidarietà sogno un mondo senza penso malattie ma non leggo bene comunque credo di sì poi Napoli sogno Napoli capitale del verde d'Europa ci sarebbe la possibilità di farla diventare capitale del verde così come Ischia che è il polmone verde abbiamo tantissimi posti tocca a voi con i sogni adesso tocca a voi vi do il microfono perché sennò non si sente niente però dovreste avvicinarvi allora ho voglia di condividere i vostri sogni sulla città perché da quello che iniziamo a condividere oggi c'è il terreno e i sementi per poter creare qualcosa domani e quindi vi invito a raccontarci qual è il vostro sogno allora io abito a Ischia da dieci anni sono assunta e questo mi ha fatto venire mi ha fatto sentire benissimo e mi ha fatto capire che invece questo patrimonio l'abbiamo dappertutto abbiamo a Torre del Greco con la Litorana Fortici l'abbiamo da Campi Fregrei fino a Latina l'abbiamo un patrimonio immenso ecco io sogno che quella zona diventi una zona agricola industriale i nostri ragazzi quando escono da scuola possono andare a formarsi a fare il tirocinio nelle varie aziende che si possono formare lungo questi centinaia di chilometri che arrivano fino a Latina e che diventi una zona turistica dove si può vivere come in tutte le località turistiche che mai più sia esattamente quello che è grazie allora che altri sogni abbiamo? che sogni avete? non è un sogno è una brutta constatazione qui abbiamo il parco Robinson che è chiuso al pubblico io che sono cittadino attivista di Policrotta Pagnoli non ne posso soffrire non ci sono più tanti prati tanto verde qua per l'occasione c'è il verde che cosa si fa per riconquistare il parco Robinson? grazie i parchi abbandonati ci sono tanti allora sognare di riprenderci il nostro verde forse anche sognare di stare bene è in contatto con il sognare che ci siano meno malattie non ci pensiamo mai ma il verde è collegato alla salute è collegato al buon umore è collegato al gioco dei bambini è collegato al benessere ed è collegato all'essere comunità perché stare con i piedi nel prato tutti insieme fa già comunità non c'è più tutto quell'essere divisi tra divisioni sociali macchine esatto questo è mio ci mette in connessione immediatamente e allora è un bellissimo sogno abbiamo anche noi il parco del Caccavello per esempio al Vomero che non è mai stato aperto che è dietro il castello il castello Sant'Elmo ed è abbandonato lì mai aperto c'era un progetto meraviglioso abbiamo la floridiana che sta soffrendo tanto le chiusure anticipate di verde ne abbiamo tantissimo e il verde ce lo vogliamo riprendere non è un sogno è una cosa che vogliamo fare che desideriamo fare che ci vogliamo muovere per fare grazie non è un sogno ma è un invito che faccia al movimento perché organizzi organizzi una capillarità all'interno delle regioni dei quartieri perché ognuno di noi dobbiamo cercare di fare qualcosa per raggiungere tutti questi obiettivi altrimenti ci rivolgiamo sempre a loro ma che cosa fate siamo noi che dobbiamo fare noi aspettiamo sempre che gli altri facciano allora se noi cerchiamo di prenderci e di adottare una parte della città un vicolo una strada è quella percezione di stare bene tutti insieme di poter provvedere al nostro sostentamento basico di modo che poi costruire una famiglia però se mancano le liquidità perché il gioco in cui giochiamo il mondo in cui viviamo è questo quindi dobbiamo trovare un'alternativa cosa possiamo fare? cosa dobbiamo inventarci? se la moneta la stampano loro a questo punto stampiamocela noi tanto comunque a Napoli comunque si lavora gratis quindi SCEC che significa? è l'acronimo di solidarietà che cammina quindi dare un valore alla solidarietà è un mezzo per arrivare a questo sogno qui andatevelo a vedere il sito è arcipellacoscec.org informiamoci perché l'informazione ci rende liberi grazie il movimento quindi è stato un sogno tra amici che è diventato realtà è un sogno tra ragazzi che condividevano le stesse idee i stessi progetti avevano voglia di occuparsi dei beni in comuni della propria città della propria Italia quindi voglio dire avevamo tutti questa esigenza lo SCEC è stato un altro momento simile cioè un bisogno facciamo qualcosa facciamo qualcosa sogno di fare qualcosa anche tu sogni la stessa cosa allora uniamoci ed è questa la partenza dei grandi cambiamenti allora questo è un incontro questo nostro dove non devo parlare io ma si tratta di parlare insieme di parlarci di sapere che cos'è qual è il tuo sogno o qual è il tuo sogno salve velocemente allora io ho un sogno che mi auguro poi che contamini un po' tutti io ho il sogno di vivere l'esperienza l'emozione e la fibrillazione che davano le prime riunioni di qualche annetto fa quando ci si guardava negli occhi si ragionava si discuteva e si includeva nel senso che non si formavano maggioranze minoranze o contrapposizioni ma sugli argomenti si affrontavano e si svisceravano proprio l'interezza delle proprie aspirazioni il che significa per me sognare arrivare alla determinazione anche per dire io mi auguro che sia Stefania che possa partecipare alla corsa elettorale per il Parlamento per esempio perché reputo che abbia una cosa importante non so più capelli di me per esempio che è un elemento fondamentale oppure per esempio che ha una maggiore capacità di gentilezza cioè stare insieme il sogno per raggiungere l'obiettivo di eliminare le forme di egoismo di partecipazione di ambizione che pure è sana ma che non prevarichi poi l'interesse di una comunità che individui il soggetto preferibilmente femminile il soggetto che possa rappresentare l'idea e i sogni dell'intera comunità che si riunisce ed individua quel soggetto se pensate che questo possa essere un sogno che ancora possa essere praticato i metodi ce li hanno definiti ed insegnati qualche anno fa le riunioni mi auguro che si possa riprendere questo cammino e questo percorso grazie grazie Federico infatti è un po' il senso di questo spazio anche ritornare a questo modo di incontrarci e di stare insieme e allora chi altro ha un sogno magari qualcuno che prima non ha parlato che ha voglia di raccontare di che cosa vorrebbe parlare che cosa vorrebbe o vorrebbe trovare sognatori come lui di quella cosa di quel tema buonasera a tutti sono nato sognatore quindi per me sognare non è difficile questo discorso degli scec la Bocconi lo ha studiato venti anni fa in Svizzera esiste una società numero uno al mondo che si interessa solo di queste cose sembra che gli altri popoli siano un po' più intelligenti di noi ma questo non è assolutamente vero quando la Svizzera ha capito una cosa del genere è la commercializzazione di quello che può essere il vecchio baratto ha portato questo processo avanti ed è una cosa che ha salvato la nazione e la sta facendo andare avanti questa è una cosa che sicuramente si può fare anche qui in Italia si tratta soltanto di avere una maggiore informazione una maggiore coscienza e conoscenza da parte delle persone ma io ne ho tanti di sogni io sogno di essere nato libero grazie sogno di essere nato libero vuol dire proprio questo cioè quando ho un'idea quando ho un'ispirazione quando ho un pensiero di cambiamento posso avere gli strumenti per realizzarlo niente mi opprime niente mi blocca e quindi voglio creare le condizioni che non bloccano questa possibilità di dare il mio contributo e allora chi altro c'è che vuole sognare? forse Raffaele Bruno è chiamato qui a sognare con noi sì io sono venuto già stamattina quindi ho un po' fatto un intervento sognante però molti non c'erano quindi mi ricollego che il mio sogno è questo vi racconto questa cosa che io vado spesso in carcere sono un portavoce alla camera facendo un lavoro sulle carcere stamattina ho raccontato vabbè vado spesso in carcere quando esco dal carcere nemmeno come state pensando in realtà perché vado spesso in carcere da deputato a portare insieme a dei miei compagni di viaggio arte facciamo degli incontri degli happening dove gli artisti in carcere preparati dai laboratori attivi lì che quelli che stiamo andando a incontrare insieme agli artisti che vengono con me creiamo un momento simile a questo di condivisione ok allora abbiamo chiarito l'equivoco penso forse chissà allora che succede quando io torno a casa spesso c'è questa curiosità un po' morbosa che dicono ah ma sei andato in carcere a chi hai incontrato e si aspettano sempre che io dico ho incontrato un assassino un ladro un criminale invece mi piace spiazzare le persone perché è la verità dicendo io ho incontrato un artista un cantante un poeta quindi qual è il mio sogno che le che ognuno di noi faccia lo sforzo perché non è facile di non permettere a qualcuno di dire chi sei di fatti mettere un'etichetta addosso io non parlo mai di detenuti io parlo di persone che sono momentaneamente in carcere e faccio di nuovo il paragone azzardato e dico come noi siamo momentaneamente al servizio delle istituzioni noi non siamo deputati facciamo per un periodo o insomma consiglieri quello che sia questo lavoro ma siamo prima di tutto uomini e donne soprattutto donne sempre prima le donne e uomini e in questo piano in questa visione il mio sogno è che si annulla ogni differenza e che insieme in questa identità di esseri umani proviamo a ripraticare l'umanità che è fatta di compassione solidarietà gentilezza accoglienza come una famiglia che tra familiari si litiga la pensiamo diversamente a volte sta a ignoro che è antipatico però che succede con una famiglia se c'è una persona della famiglia che sta vivendo un momento di difficoltà è malato oppure finisce in carcere oppure viene da un paese lontano e deve rientrare la famiglia che fa? mette da parte tutto quello che ci divide si alza in piedi e dice questo dobbiamo fare dobbiamo aiutare chi sta indietro gli dobbiamo tendere una mano questa è la nostra vocazione il mio sogno è questo che la smettiamo di competere di litigare di urlare e torniamo alla nostra natura è quella di essere una comunità amorevole compassionevole bello che Stefania racconta benissimo grazie grazie Raffaele è anche il mio sogno questo credo sia stato il sogno di tutti noi sognatori e anche di noi che siamo qui cioè sentirci comunità la parola comunicazione e la parola condivisione iniziano nello stesso modo non è un caso perché quello che ci insegna che ci aiuta a metterci in condivisione è il modo in cui comunichiamo allora l'idea di togliere le etichette e di poterci ascoltare di togliere le etichette il giallo rosso verde se questo se quello ok e poterci ascoltare liberamente senza dover catalogare la persona metterla sotto una data etichetta rappresenta la possibilità di creare un'umanità che si incontra come famiglia o come amici o come squadra perché gli amici chi sono? quelli che alla fine non si giudicano si possono litigare ma non si giudicano non si mettono l'etichetta addosso è l'incontro della comunità è l'incontro senza etichette ed è l'incontro che porta a generare queste cose perché dove non c'è competizione ma c'è il senso di squadra ma c'è il senso di bellezza da voler condividere da voler realizzare da voler creare se noi tutti insieme ci mettiamo d'accordo come diceva Dario prima per ripulire una spiaggia come spesso facciamo abbiamo fatto o un prato o un giardino ma lì che importa? chi è quello chi è quell'altro e che percorso ha fatto o che problema ha tante volte noi identifichiamo la persona con una malattia per esempio uno stato fisico di salute ma la persona non è lo stato fisico di salute non è l'essere tenuto lo stare in detenzione un periodo di tempo lo stare in un periodo di tempo in una situazione di disabilità non è la persona e quante volte facciamo l'errore anche in politica anche in politica come politici e ve lo dico da portavoce della municipalità e mi capita di stare in consiglio e di vedere che sembra un ring non sembra un luogo di scambio di condivisione ma sembra un cappo di battaglia ma è battaglia per cosa? non stiamo tutti là per realizzare il bene comune e allora perché siamo uno nemico dell'altro? e tanto spesso succede che c'è competizione devo mettere la medaglia che l'idea l'ho avuta io oppure non ti devo far fare quella cosa perché altrimenti poi il merito va a te questa è la competizione la competizione non sana perché non è anche quella facciamo ognuno la cosa più bella che può al meglio che può questa competizione sarebbe anche gradevole giusta e ci farebbe anche tutti bene ma in realtà non è questa spesso non è questa e allora che succede? succede che l'atteggiamento invece è comunitario di condivisione che toglie le differenze che non abbiamo bisogno di metterci l'etichetta che siamo questo o siamo quello ecco quello fa la differenza se noi togliessimo tutti i simboli togliamo il simbolo del movimento togliamo il simbolo del film togliamo il simbolo togliamo tutti i simboli non esistono più simboli esistono le comunità di persone che si occupano del bene comune ok litigheranno ma non esiste un simbolo e il che vuol dire che non esiste un simbolo che tutti quanti si adopereranno soltanto per il progetto del bene comune allora noi andiamo oltre molto spesso non capiscono che non fissarsi non legarsi al simbolo significa proprio questo non volere fichettare abbiamo sempre detto noi parliamo dei temi nelle nostre differenze ci uniamo quando abbiamo un valore in comune quando abbiamo un'idea in comune di bellezza e di costruzione è là che ci sentiamo uniti là ci riusciamo a sentire uniti persino col nemico il nostro nemico ma faccio un esempio può capitare per esempio anche nella vita di tutti voi che ne so con un figlio con un nipote che si è in lotta in famiglia per un qualcosa e poi quando succede qualcosa o c'è bisogno per quel bambino quel nipote quella situazione tutti si uniscono e in quel momento si parlano come ai funerali non si è capito perché ai funerali tutti si riescono ad abbracciare perché? perché il dolore ci porta nell'autenticità spesso succede che nel dolore siamo forzati a qualche modo all'autenticità e quindi è più facile l'incontro con l'altro senza divisione è più facile creare solidarietà e anche in ospedale è vero in ospedale immediatamente si rompono le barriere sentiamo di essere umani sentiamo di essere vicini ma perché non c'è la competizione che tenga non c'è nessuna etichetta che ci dobbiamo mettere stiamo affrontando la vita e anche quando ci occupiamo dei beni comuni stiamo affrontando la vita stiamo affrontando la vita e stiamo amando questa è una cosa che nessuno ci pensa stiamo amando stiamo lasciando amore ad altri è una cosa che difficilmente la vera politica è amore è scambio di amore ci mettiamo insieme e creiamo qualcosa di più bello e quello è il senso poi anche di tradimento quando le cose non vanno bene ma il senso più forte è il senso di speranza di questa condivisione di questo scambio e allora questo rappresenta l'idea che avevamo sin dalle origini questo spazio rappresenta quello che è stato il motore di tutto quello che è oggi cioè amarsi c'era l'amicizia che era la base di tutto fidarsi fidarsi ci fidavamo e non si poteva si poteva non lasciare le borse ovunque per terra in qualsiasi angolo con i cellulari da qualsiasi parte li trovavi tutto eppure non ti conoscevi eravamo tanti ma ci potevamo fidare e allora questo è il bisogno umano prima Raffaele parlava di umanità allora sogno che siamo più umani è bellissimo è il sogno che in realtà tutti quanti abbiamo dentro che risolverebbe tutti i problemi perché? perché se siamo più umani siamo i primi a cui non viene voglia di lasciare la strada dove altri stanno passando sporca perché siamo i primi che ci viene voglia che se vediamo un albero che non sta bene che non è sano ci occupiamo di capire che cosa ha forse ha bisogno di un po' di fertilizzante di acqua di qualcosa no? perché se siamo umani e c'è un cane che è solo che è strada ci fermiamo a dire di chi sarà prendiamocene cura nel tempo giusto è tutto se siamo umani se ci ricordiamo che siamo collegati che siamo uniti che siamo una famiglia enorme allora tutto può andare in un altro senso può andare in un altro verso papelli e sorelle di fatto abbiamo tutti gli stessi problemi i stessi dolori i pesi le difficoltà quindi condividerla distribuirla ok se ci fosse più solidarietà è vero se ci fosse più solidarietà ci sarebbe meno dolore per tanti perché si dice che l'Occidente utilizzi l'80% delle risorse allora delle risorse mondiali delle risorse che abbiamo e quindi come è possibile che l'80% delle risorse viene usato dal 20% della popolazione che rappresenta l'Occidente non ci troviamo no? come mai il 20% della popolazione ne usa l'80% allora che cosa significa? che è un cambiamento di rotta un cambiamento culturale dove ci incontriamo e ci riconosciamo comunità e ci incontriamo e ci riconosciamo fratelli e sorelle perché nelle vecchie generazioni andando indietro indietro saremo tutti parenti inevitabilmente allora voglio dire se noi partiamo da questo però che cosa succede? come nel palazzo il mio palazzo è il mio barco però deve stare più pulito mi devo garantire che vengono passano da me prima a finire i giardini oppure devo stare attento che nel mio quartiere però mi devo prendere io quei fondi che passano per che ne so aggiustare le strade nel quartiere fa la lotta che deve essere il mio invece nessuno che si riunisce per dire ok guardiamo quanti siamo chi sta peggio chi ha più bisogno no? chi è che in questo momento ha più bisogno di allora tutti quanti insieme ridistribuiamo e se si facesse così nel piccolo di una municipalità nel piccolo di un condominio si potrebbe arrivare al grande del sovranazionale perché è la cultura che deve cambiare infatti noi parlavamo proprio di rivoluzione culturale ma è la più difficile da portare avanti e da spiegare è la più complicata soprattutto perché è fatta di testimonianza reale di vita che si muove in quel senso e quindi che cosa significa? significa che ci muoviamo non per il nostro piccolo campo e orto ma ci muoviamo guardando con una visione collettiva che guarda a tutti che guarda ai bisogni di tutti anche a generale sì anche certo perché sono fratelli comunque in ogni caso siamo sempre origine delle stesse origini tutti e noi dobbiamo allora noi dobbiamo ricordarci questo dobbiamo ricordare che i valori e i principi i valori e i diritti umani sono fondamentali e quindi non c'è differenza noi stiamo parlando di non creare etichette per cui io non parlerei di etichetta tra italiani e non italiani io parlerei di un parlato di umanità che ne pensi del decreto sicurezza lei che ne pensi del decreto sicurezza beh allora parlando di sogni perché questo è l'angolo dei sogni è l'angolo delle speranze è l'angolo della costruzione di qualcosa che vogliamo realizzare beh nel momento in cui c'è bisogno di mettere sicurezza tra me e gli altri tra me e un altro nel momento in cui io parlo di decreto sicurezza per me ho già una sconfitta come umanità come collettività allora possiamo rigirarla senza cambiare il tema su che cosa sogni tu rispetto a questo qual era il tuo sogno qual è il tuo sogno sì il mio sogno io ho 18 anni sono molto giovane quindi ho ascoltato parte del discorso non tutta l'interezza purtroppo ho sentito parlare però Anton Giulio tutto attaccato ho sentito parlare però di aiutare il prossimo le persone più difficoltà che è una cosa bellissima fondamentale perché è alla base però io ho iniziato a seguire la politica da poco sono molto giovane e ho seguito soprattutto il governo precedente i 14 mesi passati e non ho mai realmente sentito parlare spesso di aiuto verso il prossimo soprattutto quando il ministro dell'interno l'ex purtroppo non lo è più per fortuna parlava di decreto sicurezza firmato dai 5 stelle adesso sentirmi parlare di aiutare il prossimo il più bisognoso il più bisognoso non è la persona sulla nave che sta affondando che muore magari noi non siamo là a guardarlo allora non siamo solo noi qua che ci dobbiamo aiutare tra noi dobbiamo aiutare noi che siamo più forti perché noi siamo i privilegiati e aiutare loro grazie però perché non l'avete fatto voi eravate lì però non avete fatto niente e si continua a non fare niente io ho 18 anni e vedo questo cioè vedo persone che muoiono e voi politici lei non lo so ha la ragione ha la ragione mi sembra lei è la municipalità parte comunque le 5 stelle cioè lei abbraccia le idee l'ideologia la post-ideologia delle 5 stelle non lo so qual è questa ideologia delle 5 stelle cosa ne pensa di queste persone che stanno morendo niente perché qualcosa deve pensare invece no ha prevalso chi? i Salvini quindi sono come loro sono come il PD cosa è il PD non lo so cioè io cosa devo pensare io ho 18 anni dovrò votare adesso voterò i 5 stelle non credo perché cosa ho visto che hanno fatto con Salvini che faranno adesso votare il PD che sta facendo adesso il PD non c'è niente e non vi siete prese nessuna responsabilità i 5 stelle non hanno fatto niente non c'è un'ideologia vera non c'è nulla di forte tu vuoi votare il 5 stelle lo devi votare per una sola quale sarebbe perché rispetto a tutti gli altri mi sono dimostrata ma sono onesti ma l'onestà non basta io voglio la competenza io sono sicuro che lei sì subito siete tutte persone competenti persone 5 stelle non lo so sarete oneste ma l'onestà è la base l'onestà deve essere pure il cittadino io sono onesto ma questo non fa di me il politico non ho la competenza per essere un politico perché tu avete le competenze e se non ce le ho non posso stare là solo perché sono onesto i competenti fino a oggi che hanno fatto? aspettate perché Anton Giulio aspettate 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 no allora la prima cosa che io ho sentito aspetta Antonello 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 perché vuoi capire perché una delle prime cose noi parlavamo di rivoluzione culturale all'inizio quando è nato il movimento c'è una storia dieci anni ormai è già vecchio nel senso che sono successe un sacco di cose ma all'inizio quando ci siamo incontrati insieme ed eravamo pochi amici sognatori l'idea ovviamente era quasi scontata che fosse i diritti umani che fosse un senso di umanità che fosse un'umanità che si riuniva e si incontrava e si aiutava senza bisogno di dirsi chi sei potevi essere un monarchico un anarchico uno di destra non ci interessava neanche quale fosse la tua idea politica quindi non c'era proprio differenza allora è partita così però come dicevo la rivoluzione culturale prima di tutto è stata la più difficile da comunicare da far arrivare perché può arrivare soltanto attraverso uno scambio di testimonianza di vita nel senso che io nella mia vita metto la mia vita a servizio di cose in cui credo in una coerenza e in un senso e quindi l'altro dice ah guarda come e così si fa un cambiamento non si racconta tanto una rivoluzione culturale abbiamo sofferto io ho sofferto mi fu fatta un'intervista quando ci fu l'accordo che poi non passo mai e mi chiesero cosa ne pensavo io piangevo quel giorno perché consideravo il lavoro della lega contro i miei principi proprio in generale come si prospettava nella separazione e nella divisione già nella separazione e nella divisione tra italiani che invece i principi per me erano collante dell'unione dell'umanità dell'essere insieme poi il principio della divisione tra italiani e questo insomma gioca tantissimo sul pensiero della divisione per cui non era nella mia identità come tu dici io non posso votare una cosa che non risponde ai miei principi e ai miei valori questo dicevi prima non potrò votare allora aspetta però che succede succede che se nella base siamo così crediamo in questo tanti di noi sanno questo le cose diverse sono le modalità e il sistema che devi andare a cambiare prima di arrivare a questi grandi cambiamenti dovremmo partire tutti ma ti puoi mettere l'etichetta del movimento ti puoi mettere l'etichetta di quello che vuoi tu creare un'altra stella creare un altro partito o non avere partiti ma l'importante è che noi non ci stanchiamo noi parlo di io parlo di te parlo di lei parlo di lei noi non ci stanchiamo di continuare a fare le cose in cui crediamo e a portarle avanti con dei progetti e a portarle avanti come espressione di sé che cosa vuol dire? non ero d'accordo ma non ho finito non ho smesso di essere coerente con i miei principi non ho smesso di essere coerente con quello in cui credo importante e soprattutto non ho smesso di pensare che la rivoluzione culturale ha bisogno di te e di grandi seminature come te abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno di te e di persone come te il movimento è un contenitore si riempie di quello che ci metti dentro se ci metti dentro te sì sì ma come ogni posto non è per forza una cosa positiva no infatti iniziamo a metterci le cose che amiamo che desideriamo e che vogliamo mettici quello che è il tuo sogno mettici quello che è il tuo grido e diventa qualcosa di buono allora l'idea forte l'idea forte qual era inizialmente? l'idea forte che nessuno poi ha poi compreso era proprio quella di saltiamo l'etichetta ok? e valutiamo che possiamo fare comunque anche se grandi io e te e acerri i miei nemici possiamo provare a costruire qualcosa di buono per gli altri tu dici il comune accordo certo è stato questo infatti adesso è questo nell'altro senso con un'altra alleanza ma il sovrappente qui l'ha preso nel momento in cui il momento c'è questo è una ideologia ma è solo uno misto di persone no io l'ideologia qual è l'ideologia ah adesso stavo parlando di solidarietà stavo parlando di solidarietà quindi ho pensato a persone che morivano e cinque stelle stavano là così con le braccia con sempre non mi se ne frega per essere solidarietà di intervenire però i cinque stelle siamo tutti o non siamo nessuno nel senso che è l'umanità che ha guardato quelli che stanno al governo e noi ci siamo e noi qua ci siamo a poter fare qualcosa passo un attimo la parola voglio agganciarmi con il mio sogno allora il mio sogno è che le persone che tutti noi diventiamo meno avidi e meno ambiziosi la cosa che io che mi ha fatto un attimo paura vorrei che lui mi ascoltasse come si chiama non sto parlando di niente però vorrei che mi ascoltasse allora la cosa che a me ha fatto paura io ero un assidua del meet up di posti poi mi sono allontanata quando ho visto l'ambizione l'avidità negli occhi delle persone per cui i temi sono belli sono importanti i temi l'ambiente la luce l'energia i migranti è bella la solidarietà però tutti il 90% delle persone usa i temi per fare denaro il problema è questo cioè la politica usa il tema e ne fa marce di scambio perché punta al potere Salvini è arrivato al governo e ha giocato subito a fare il dittatore perché lui stava facendo il gioco uguale al PD per il denaro perché volevano il potere noi siamo rimasti fuori dal gioco del potere e abbiamo fatto finta di stare al gioco ma perché noi avevamo un obiettivo più lungo di lui che è l'obiettivo di eliminare l'avidità umana di eliminare cioè di fare davvero le cose in cui crediamo per il sogno no no le vite umane non è morto nessuno per colpa nostra noi abbiamo sempre mandato abbiamo sempre mandato gli aiuti umanitari abbiamo sempre mandato i medici abbiamo sempre seguito le navi capisci non abbiamo fatto sono Anna mi chiamo Anna è importante questo fatto il nemico è l'avidità il nemico è chi usa le cose perché vuole fare vuole arrivare vuole fare il consigliere vuole fare il sindaco si pensa che la politica ha qualcosa gestale invece ci scende questo è il punto grazie Anna allora è un altro spunto di riflessione questo forse è una risposta che puoi avere c'è stato un incontro una riunione per organizzare questo evento al quale siamo stati chiamati e io avevo parlando proprio con Roberto Figo questa riunione dicevo forse dovremmo riflettere tutti su che cosa è il potere Anna proprio questo come consideriamo il potere come ci relazioniamo al potere forse dovremmo riflettere su questo che cos'è il potere no? allora potere nella sua parola nella sua etimologia significa è collegato al verbo essere poti esse potere vuol dire che cosa puoi fare potere non è dominio potere non è potere sull'altro potere non è la possibilità di fare come ti pare cosa puoi fare quando hai la possibilità di stare al potere significa che tu puoi fare come mi metto in connessione con cosa posso fare allora quando noi ci mettiamo ci mettiamo di fronte all'idea del potere come il dominio come la ricchezza come la fama come il successo quello che ne viene fuori è il peggio dei frutti quando noi ci mettiamo di fronte al potere che cos'è il potere il cosa posso fare e allora lo valutiamo così rimanendo quelli che siamo però possiamo fare qualcosa e allora la cambia tutto allora lì c'è l'idea del per me cosa posso fare Anton Giulio dice io voglio desidero portare avanti l'idea che i diritti umani sono fondamentali indoccabili e voglio sentire forte questo principio allora cosa posso fare posso fare in modo che questo sia che questo arrivi cioè il potere lo cambiamo noi che cosa posso fare che sta ai vertici siamo noi che lo cambiamo siamo noi che lo possiamo modificare noi tutti i cittadini sto dicendo quello che noi dicevamo all'inizio della nostra storia non deleghiamo se noi sbagliamo se c'è qualcuno che sbaglia tutti quanti insieme possiamo fare in modo che cambi rotta non è una sovranità no? si dice che la sovranità è popolare non a caso ma si dice che la sovranità è popolare proprio perché c'è il che possiamo fare e il che possiamo fare è una domanda che riguarda ognuno di noi che mette in campo ognuno di noi come responsabilità come presenza come attivismo come rabbia qui questo è un poter fare hai potuto hai fatto qualcosa che lascia comunque un seme il tuo grido è comunque qualcosa di importante perciò ti ringraziamo non perché non era ironico era vero perché questo grido che può essere accolto e recepito può essere portato può essere fatto sentire si può unire ad altri e può diventare qualcosa che cambia quando si parla di ribellione no? si dice ci ribelliamo quando una cosa non ci piace ci dobbiamo ribellare dobbiamo dire non mi piace perché è mortifera perché è mortifera una società quando sta male lo sente la crisi che abbiamo non è una crisi che ognuno ha singolarmente è una crisi che coinvolge tutti e perché? perché nessuno ascolta la parte di dolore e il dolore in realtà ha la potenza di essere catartico cioè di farci cambiare quando stiamo veramente male gli orientali dicono che la crisi è opportunità cioè non la prendono male la vedono anche come opportunità che opportunità? l'opportunità di cambiare l'opportunità del cambiamento ho totalmente male in questa situazione che non ce la faccio più e devo poter cambiare le cose la crisi non è fine e neanche la crisi interna rispetto a quello che può accadere e il suo grido sono state le mie lacrime perché non è che non ho pianto quando sono successe determinate cose ma la crisi si è presa nel senso del possiamo cambiare ha tutto un altro senso ma non possiamo cambiare armandoci di rabbia e basta no possiamo cambiare dove vogliamo andare che idea abbiamo che idea stiamo portando avanti di bello di comunità di diritti ok guardando quello la partenope che ho disegnato sembra che non abbia lo sguardo sembra che non guardi perché in realtà è uno sguardo nel futuro cioè dove non si può vedere che cosa accade noi non lo sappiamo come andrà che cosa accadrà però possiamo muoverci nella direzione del dire è quello che voglio costruire una famiglia quando si separa solitamente è nella crisi le separazioni familiari ormai avvengono sempre più spesso ma la separazione perché viene avviene un po' come avviene la separazione tra un bambino nella pancia e la mamma dopo un certo periodo di tempo può diventare mortale quella simbiosi e la separazione è l'unico modo per garantire la vita e quando noi ci andiamo a separare o quando delle coppie si separano non si separano mica per stare peggio mica per stare male si separano perché capiscono che sono arrivati al punto dove è una questione di vita o di morte poi si arrabbiano io mi occupo di mediazione del conflitto per cui poi so che c'è tutta una fase di rabbia di dolore però poi c'è la possibilità di trasformare tutto quello di trasformare tutto in nuova energia in un modo nuovo di essere insieme in un nuovo modo di incontrarsi e di fare delle cose insieme per il bene non più si è distrutto un palazzo tutti che ci buttiamo le ruote i sassi addosso oddio si è distrutta questa cosa tutti a buttare sassate e che cosa abbiamo fatto? niente abbiamo distrutto sulla distruzione ok questa cosa è distrutta piango grido ma io la voglio ricostruire voglio mettermi là il mattone tuo il mattone mio il mattone dell'altro si uniscono insieme e ricostruiscono qualcosa di nuovo questo è il senso questo è il senso del sogno che abbiamo non so se lo ecco sono proprio le sei precise quindi grazie a tutti a prossimi sogni grazie grazie a tutti la termizzare nella politica è la cosa che si può perché si perché si deve raggiungere quello scopo che è comune a tutti qua non deve essere comune a noi è difficile tutte belle a via e a me si dicono che sono stati dei condannatori che sono stati messi a fare il valore il valore è il valore è il valore quello con il cappello il cappello il cappello il cappello il recipiento la competenza la competenza la competenza la competenza la competenza il programma costa volti la competenza la competenza serve nel ruolo di ministro serve nel ruolo di il sottosegretario nel ruolo di operativo hai un ruolo di decurato quanti ti votare come hai fatto il programma hai fatto il programma il programma io che sono vivo nelle riunioni tu hai fatto le riunioni tu stai facendo le riunioni le riunioni che si faccia per le quali non parliamo non parliamo non parliamo secondo me non è non parliamo vabbè a noi ce ne andiamo sì buona serata domani vieni è una cosa importante secondo me che ovviamente non piacerà a tutti la mia proposta di legge che l'ho messa pure sul russo bravo però è una cosa che può far piacere ai professionisti non tanto ai freschi laureati allora io penso che la pubblica amministrazione deve avere come diciamo come dipendenti come diciamo acquisizione del personale deve avere una selezione secondo me diversa perché 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 il professionista che per esempio io ho fatto 20 anni di avvocato credo di aver acquisito una competenza di un certo rilievo molto di più di un fresco laureato allora che cosa succede che se io adesso voglio fare un concorso vado e ho i stessi titoli di un fresco laureato perché i miei 20 anni di lavoro di professione senza offesa onorata non conta una cippa quindi che cosa succede che io ovviamente che lavoro mi faccio il popò non ho nessuna speranza di superare un concorso cosa che invece ce l'hanno i ragazzi freschi laureati e questo cosa succede che la pubblica amministrazione non è giova di questa cosa perché con tutto il rispetto dei freschi laureati certo non hanno la competenza che ho io cioè se alla pubblica amministrazione arriva che c'è un decreto ingiuntivo io ti so dire cosa sei fatto lo dico subito ti dico cosa si deve fare e cosa non si deve fare ma se a un fresco laureato arriva il decreto ingiuntivo quello che capisci cioè sono e perciò la pubblica amministrazione è secondo me farraginosa elefantia che c'è sembra una stupidaggia la mia proposta è semplicemente di affidare attribuire alla professione l'esercizio effettivo poi ovviamente il gap starebbe nel provarlo poi l'esercizio effettivo che però non credo sia difficile perché ci stanno i consigli dell'ordine che ovviamente possono certificare che tu hai fatto un tot di causa ma non solo per gli avvocati dico anche per esempio per i medici bravo bravo cioè gli ospedali infatti la nostra è una è una è infatti i freschi laureati ma mi dice un fresco laureato con tutti i rispetti risponde a che mi dice un fresco laureato può mai avere la competenza sua che è stata tanti anni a fare questo ma perché perché non si attribuisce un punteggio alla professionalità devo dire che ultimamente si è anche come dire tentato di fare questo per i dottorati di ricerca quindi se tu hai diciamo degli anni di professione puoi accedere no? mi fa così puoi accedere insomma è un punteggio maggiore sembra una sciocchezza però praticamente se si attribuisce un punteggio che ne so anche uno 0,5 per anno di esercizio della professione forense ingegneria medicina e tu ti resta appreso nella pubblica amministrazione c'è un personale più qualificato a me mi sembra una cosa così logica e però purtroppo non viene cioè l'ho fatta come proposta di legge ma non mi ha cagato no però è importante perché la pubblica amministrazione deve essere forte cioè quante volte abbiamo fatto le cause contro la pubblica amministrazione e fanno tutte fanno rire hanno una difesa blanda e questo poi dopo si ritorce sul contribuente che poi perde le cause la pubblica amministrazione e tutto e questo è tu che proposta hai? vogliamo parlare un poco di bagnoli? di che vogliamo parlare? di parcheggi che cosa intendi per parcheggi? i parcheggi o le strisce blu? no è bene la nostra ex sindaca di Erbolino si? vuoi parlare al microfono? ce l'abbiamo però non mi alzo non mi soso non l'avrei chiesto dove te non sono io non so ma come io sono io sono venuta pure a difenderti pure al conflitto allora due minuti cercherò di non essere troppo logorroico perché il problema è grande la Erbolino come ultimo regalo prima di lasciare la funzione di sindaco di Napoli ebbe l'idea di andare a Roma si fece nominare commissaria per il problema parcheggi a Napoli e sulla base di questa nomina che le dava i più ampi poteri organizzò con alcuni suoi amichetti di merenda li definisco così per non dire altro la costruzione di un numero imprecisato circa 24 se ricordo all'epoca parcheggi sotterrani nel sottosuolo di Napoli che è un sottosuolo particolare che noi già sappiamo essere critico perché doveva accontentare le varie fazioni dopodiché il successivo detto anche Bassolino continuò su questa strada noi cittadini riuscimmo in qualche modo a bloccarne un certo numero altri vanno avanti oggi abbiamo ancora un paio di cooperative che foraggiate da chi ha denaro vuole costruire al vomero l'ennesimo parcheggio anzi gli ennesimi due parcheggi uno a Piazza Leonardo che è fermo da 5 anni ed è una cosa schifosa perdone parcheggio esterno? parcheggio sotterraneo ah non vanno bene sotterraneo a Piazza Leonardo sono 5 anni quindi che l'area è pieda se si sono cerco di non essere troppo logorroico come dicevo prima devo voglia dire il sunto questi parcheggi pertinenziali innanzitutto non sono pertinenziali perché si è autorizzato a portare la pertinenzialità a 2000 metri invece di 500 metri previsti per cui uno che ha la casa qui si fa il parcheggio a due chilometri in linea d'aria da qui il che vuol dire che ci mette poi mezz'ora per arrivarci minimo per cui non è pertinenziale però loro lo chiamano tale al vomero nel caso specifico allora al vomero stanno cercando di bucare Piazza degli Artisti non so se voi la conoscete chi sta al vomero è un'area interessata ad area rossa per il problema della terra e dei vulcani area dei fuochi e dei vulcani al vomero non sono richiesti perché ci sono già altri quattro parcheggi con invenduti loro continuano a insistere noi stiamo facendo ricorsi all'ANAC alla procura della repubblica alla corte dei conti siamo stati a incontrarci con la sovraintendenza per spiegargli tutte le irregolarità tipo per esempio fare delle strutture prima che siano autorizzati passare informazioni sbagliate la sovraintendenza invece di avere il piano del parcheggio l'esecutivo ha avuto uno stralcio su cui dare il parete ovviamente la sovraintendenza non entra nel merito vede lo stralcio e giudica su quello noi lo abbiamo dovuto fare il nostro amato sindaco se ne è strafregato per non dire altro io vorrei una mano dal movimento su questa lotta saluti e scusatemi se Elio sei simpaticissimo però sei proprio allora gentile richiesta vi faccio di nuovo la mia proposta di legge descrivo allora la mia proposta di legge è quella di attribuire un punteggio ai fini dei concorsi all'effettivo esercizio delle professioni professioni forense ingegneria medicina eccetera questo tipo di diciamo avrebbe secondo il mio modesto giudizio un doppio come dire esito positivo uno la pubblica amministrazione si doterebbe di un personale quindi acquisirebbe un personale molto più strutturato professionalmente perché senza offesa parlo per me come avvocato ma penso che anche un ingegnere dopo 20 anni di libera professione penso che ne sappia qualcosina di più di un semplice fresco laureato con tutto il rispetto però che cosa succede che il fresco laureato giustamente ha più tempo per studiare ha tutto più fresco in mente e praticamente supera i concorsi più agevolmente ma questo che cosa comporta poi che la pubblica amministrazione è piena di personale non dico incompetente ma con una competenza diciamo inferiore a quella che potrebbe avere una pubblica amministrazione forte io lo so perché noi diciamo come avvocati ci incontriamo spesso diciamo ci scontriamo con controparti che difendono le pubbliche amministrazioni e ci sono delle grosse falle insomma e questo poi dopo si ritorce nel contribuente a carico del contribuente che ovviamente poi dopo se la pubblica amministrazione perde le cause poi è il contribuente che ne paga le spese ma l'altro diciamo effetto positivo che ovviamente non apparentemente non interessa il contribuente ma secondo me sì è che ci sarebbe come dire una una diminuzione del diciamo dei professionisti ma con una come dire invece di limitare l'accesso negli albi si dovrebbe incentivare una volontaria uscita cioè nel senso che se io da avvocato mi sono rotta di fare l'avvocato oppure voglio dare il mio contributo alla pubblica amministrazione io me ne esco dall'albo vinco il concorso e quindi avrebbe una come dire una finalità anche deflattiva di quelli che sono gli albi Alessandro ragione non ti addormenta quindi ci sarebbe questo doppio effetto positivo uno che è una pubblica amministrazione potrebbe avere insomma essere avere come personale come unità di personale persone molto più competenti e anche senza offesa anche più serie perché chi ha fatto il professionista per 20 anni che non ha mai avuto il piacere di rimbraere un cartellino quando sa cosa significa il lavoro perché per guadagnare noi dobbiamo lavorare perché altrimenti non prendiamo lo stipendio quindi sarebbe anche una responsabilizzazione notevolmente maggiore è certo lo stesso problema che hanno gli avvocati li abbiamo noi i medici che quindi quando andiamo in pensione abbiamo una pensione poco perché quella della cassa dei medici è empam e versiamo tantissimi soldi anche quelli là che sono precari anche che non lavorano versano contributi come pure loro quindi praticamente è una situazione di precariato per i giovani capito? io credo che la proposta è 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 esatto le casse quella dell'empam per esempio la nostra dei medici comunque è una cassa ricchissima è ricchissima cioè ha tutto il centro direzionale è pieno di edifici tutti gli edifici del centro direzionale sono di proprietà dell'empam della cassa dei medici hai capito? e in Roma non so quanti quanti edifici che sono di proprietà della cassa dei medici quando poi i medici vanno in pensione vanno con 300 euro al mese capito? sono 300 euro quindi la cassa dei medici è la stessa cosa poi ci troviamo anche con la precarietà nella regione Campania che comunque abbiamo la precarietà dei medici perché la regione Campania è in ritardo su tutto al momento non fa zone carenti per i medici e quindi i giovani medici che vogliono venire a lavorare in Campania o che vogliono essere trasferiti che stanno lavorando per esempio nella Val d'Aosta e in altre regioni non ci sono diciamo zone carenti quindi non facendo carenze noi ci troviamo in una regione Campania senza medici quindi non avremo più medici i medici di famiglia stanno a diminuire soltanto il medico che va in pensione non c'è un ricambio quindi noi troviamo un problema serio sia il problema degli avvocati pure perché vedo che la precarietà negli avvocati eppure non è detto che poi l'avvocato perché ha studiato comunque è ricchissimo per sé cioè ha studiato ha fatto sacrifici ha fatto una carriera e si trova in una situazione di precarietà dopo tanti anni è vero e i medici lo stesso la stessa situazione quindi o le diciamo si può abolire le casse le casse di previsione che non funzionano di previdenza a noi anche a noi la cassa forense è praticamente anche acquistato dei titoli che poi erano dei titoli tossici e quindi praticamente ha avuto come dire uno smottamento economico definiamolo così allora la mia proposta di legge sta su Russo se siete iscritti e magari me la potete votare mi farebbe molto piacere quello che volevo dire io non so dico una cosa contro la mia professione però purtroppo più avvocati ci sono più cause ci sono perché noi non dico che ce le emendiamo ma come dire siamo come dire incentiviamo ovviamente incentiviamo certo ci dovreste non me l'hanno cancellata ci dovrebbe essere poi dopo parlerò di Bagnoli se volete ma adesso tu sei di Bagnoli? ah allora no no parla tu parla tu vieni no 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 io perché è stato detto tanto su Bagnoli eccetera eccetera volevo io sono di Bagnoli ma volevo semplicemente ecco dare una speranza su quello che è stato Bagnoli e su quello che vorrei che fosse Bagnoli però parla tu allora io vorrei fare un po' pubblicità però esiste un bel video nel quale lei Stefania Palermo ha fatto su Bagnoli che veramente è un bellissimo video che sta su Youtube quindi lo possiamo vedere però Stefania è una persona un attivista del territorio e vive a Bagnoli perché solo chi vive a Bagnoli può parlare di Bagnoli perché se no è tutto inutile perché sul territorio il problema è del territorio di Bagnoli che hanno diciamo si fanno tanti programmi progetti da tanti anni però Bagnoli è sempre fermo la bonifica non si fa non si fa la bonifica è tutto fermo un'altra volta altro problema che abbiamo è il mare negato il mare negato dal tutto il lungomare della città di Napoli e comunque compreso Bagnoli anche oltre il problema della depurazione delle acque che non viene fatta quindi i depuratori non funzionano perché il depuratore diciamo di Bagnoli che parlavamo di questo problema della depurazione delle acque come medico ti posso dire che quando c'è la prima pioggia che piove il collettore borbonico che sta alla pietra e riversa tutti i liquami diciamo sul lungomare e quindi il mare di Bagnoli diventa marrone allora è semplice se la regione campania e diciamo fa la manutenzione ordinaria e pulisce i fanghi che ci sono nel depuratore quindi praticamente sarebbe da risolvere quindi De Luca lo poteva risolvere il suo problema però comunque non pure il grido di tutte le associazioni che gridano diciamo anche per la terra dei fuochi perché comunque Bagnoli e Soccavo e Pianura sono terra dei fuochi non hanno fatto un registro tumori cioè che è ancora in grande ritardo De Luca aveva promesso tramite la Teresa Tiziana Spinosa che diciamo è stata nominata come commissario di governo per la terra dei fuochi con un grande stipendio ovviamente da manager non un stipendio che guadagni tu o che guadagni io come medico quindi lei è di fuorigrotta che lavora fuorigrotta uno stipendio altissimo cioè non lo dico perché veramente ci spaventiamo però lo possiamo pure dire sono 24.000 euro al mese e quindi lei è la dirigente di fuorigrotta e quindi non controllano la terra dei fuochi cioè loro hanno fatto delle cose dei contentini ai medici dando il controllo per esempio del colonretto della prevenzione del tumore del colonretto chiudiamo però chiediamo in bellezza abbiamo parlato di bagnoli penso che più bellezza di bagnoli non ci fosse volevo dire solo una cosa magari dopo vi faccio vedere questo bellissimo libro che cos'era bagnoli bagnoli era la parte di Napoli più simile a Ischia bagnoli era piena di sorgenti termali che ci stanno tutt'oggi sotto i palazzi che adesso ci stanno diciamo come dire veramente sono ridotti proprio molto molto male ci sono le vasche le vasche che erano dei centri termali qui ci stavano le terme manganella le terme tricarico qua la gente i nobili napoletani a bagnoli venivano a farsi le vacanze di mare e io adesso che abito a bagnoli i miei figli devo metterli in macchina e me li devo portare camminando a Capomiseno abbiamo il mare che lo guardiamo di fronte nel mio palazzo purtroppo gente che ha vissuto gli anni 70 80 a bagnoli si ammalano a turno prima la moglie poi il marito prima la moglie poi il marito c'ho tutto il palazzo pieno di tumori un altro giorno è morto io spero che sia per come dire non è il mesotelioma non lo so non sono morti tumori sparpagliati diciamo come medico ti posso dire che i tumori il mesotelioma è frequente i tumori al polmone è frequente nella zona di bagnoli la zona di Cavalleggeri d'Aosta è frequentissimo io penso che siamo in ritardo perché De Luca aveva promesso che doveva fare il registro dei tumori e quindi la dottoressa Tiziana Spinosa che è stata nominata come commissaria di governo diciamo da Renzi con uno stipendio un mega stipendio doveva fare questo registro tumori ancora non hanno fatto niente quindi la regione Campania non ha fatto il registro tumori quindi dobbiamo metterci a lavorare tutti quanti per fare in modo che questo registro tumori si possa e così si sa perché la zona di Cavalleggeri d'Aosta è una zona diciamo di molto di tumori al polmone allora non del colon retto però di tumori al polmone allora l'ASL interessa solo il colon retto in questo momento perché fanno guadagnare ai medici famiglia un tanto che portano questi non so se questo kit che fanno dei prelievi penso che tutti quanti lo sanno io faccio il medico di famiglia lavoro ai quartieri spagnoli e quindi si fanno questo kit che si porta per il colon retto però non è questo si dovrebbe fare in modo da bonificare i bagnoli finirla con questa storia e diciamo bonificare sarebbe eliminare l'amianto l'amianto non si può portare ecco il mare per l'amianto si dovrebbe coprire coprire diciamo sotterrare e piantare alberi non si deve costruire non si deve muovere il territorio ce ne si deve scavare non è solo l'amianto non si deve scavare e a volte mi ci incespi come esatto non si deve scavare nel fondale di bagnoli bravo nitrocarburi policirrici aromatici con tanto di accertamento fatto dalla procura di Napoli convalidato dall'ingegner Galli che è il tecnico nominato dal tribunale che poi ha fatto la sentenza di condanna dei vari responsabili tra cui anche il dirigente uno dei dirigenti di Bagnoli Futura attualmente sotto il parco dello sport io lessi nella perizia che c'erano 200 tonnellate di morchie oleose ma morchie oleose l'intero parco dello sport che è costato una cosa come decine di milioni di euro si deve rismantellare tutto perché c'era addirittura lessi una lettera di Tino Sant'Angelo all'epoca assessore della giunta Iervolino il quale rispose a una domanda dissero ma noi come possiamo fare a Bagnoli dobbiamo impedire il contatto termico nel parco dello sport con le aiuole la risposta fu allucinante perché anziché dire chiudiamo tutto bonifichiamo vediamo di chi è la risposta